Ci sono tantissime cose che si potrebbero dire su Carlo Magno e io vorrei cominciare parlando di quello che Carlo Magno ha significato per l'Europa, per la costruzione di uno spazio politico europeo e di un'identità europea. Sono temi che oggi ovviamente sono molto di moda, ci può stupire che avvenimenti di 1200 anni fa siano stati importanti per quello che è il mondo in cui viviamo noi oggi, ma in qualche misura è così. E vorrei cominciare proprio osservando che al tempo di Carlo Magno si è cominciato a parlare molto di Europa, non che se ne parlasse tanto quanto se ne parla adesso naturalmente, anche i mezzi di comunicazione erano altri, ma nell'ambiente di Carlo Magno, negli ambienti intellettuali dell'Occidente di allora, questo termine Europa, questo concetto noi europei veniva fuori in un modo abbastanza impressionante. Un primo esempio significativo sia prima ancora che nasca Carlo Magno, quando suo nonno Carlo Martello sconfigge gli arabi alla battaglia di Poitiers. Questa è una di quelle date che poi sono rimaste nella memoria collettiva e nei manuali scolastici europei, perché in quella battaglia si è voluto vedere il momento in cui l'avanzata araba islamica verso il cuore del continente è stata fermata, fermata una volta per tutte. Quindi una battaglia che ha un significato, come dire, anche emotivo, grosso nella formazione della storia europea. Ebbene, sorprende che un cronista dell'epoca, parlando di questa vittoria del nonno di Carlo Magno contro gli arabi a Poitiers, ne parla come di un trionfo degli europenses, gli europei. Scriveva in latino naturalmente, come tutti allora, ma il termine è ben chiaro. E quando Carlo Magno prende il potere, questa idea, che in qualche modo lui è il punto di riferimento di un continente, continua a venire fuori. Gli scrive un prete dall'Irlanda, addirittura, un posto molto molto lontano allora, gli scrive annunciandogli che se Dio l'ha innalzato al trono è senza dubbio per la maggior gloria del regno d'Europa. E poi, e poi Carlo Magno, da re dei franchi che era, diventa qualche cosa di più, diventa imperatore, imperatore d'Occidente, e anche su questo torneremo, perché è un aspetto centrale dell'esperienza politica che vogliamo raccontare. Ebbene, quando Carlo Magno, re, sta per essere incoronato imperatore, un poeta, uno dei tanti poeti che vivevano alla sua corte, un poeta di cui non conosciamo neanche il nome, come spesso capita con i personaggi di quest'epoca, scrive un poema per celebrare la sua alleanza col Papa e la sua prossima elevazione al trono imperiale, e lo definisce con un'espressione che non può non colpirci. Parla di Carlo Magno come del rex pater Europe, il re padre dell'Europa. Ecco, che cosa significa questo, padre dell'Europa? Naturalmente Europa è un termine che col passare dei secoli ha potuto voler dire tante cose. Noi oggi lo sentiamo risuonare continuamente, è chiaro che non possiamo pensare che per Carlo Magno e per i suoi contemporanei, gente vissuta nell'ottavo, nono secolo, Europa volesse dire esattamente le stesse cose che vuol dire per noi, ma in qualche misura sì. In qualche misura è in quel momento che si coagula uno spazio politico, che è quello creato da Carlo Magno, che ricorda in modo impressionante quella che è l'Europa di oggi, specialmente prima degli allargamenti previsti. Uno spazio politico che va da Hamburgo a Barcellona, che va dal mare del nord fino a Benevento, fino ai Balcani. Ecco, di questo spazio politico Carlo Magno è stato uno dei padri e in questo senso è davvero uno dei padri anche della nostra Europa. Che Carlo Magno sia stato uno dei padri dell'Europa è una cosa di cui anche la storiografia è sempre stata consapevole. Vorrei citare uno dei grandi storici del Novecento, Lucien Fevre, secondo cui è l'impero di Carlo Magno che ha dato forma per la prima volta a ciò che noi chiamiamo Europa. Ecco, però su questo vorrei fermarmi un momento, perché cosa vuol dire ciò che noi chiamiamo Europa? A noi oggi questo sembra molto ovvio, semmai ci rendiamo conto che per Carlo Magno più di mille anni fa magari era un concetto un po' diverso. Che fosse un concetto diverso anche per i nostri padri, anche cinquant'anni fa, è difficile accoggercene. E invece su questo è importante capirci, perché è importante capire che anche quello che Carlo Magno ha fatto per questa Europa può essere stato visto in modi diversi a seconda delle epoche. Proprio Fevre, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, tenne un corso al Collège de France sulla idea di Europa. Dobbiamo immaginarci la scena, siamo a Parigi nell'inverno 44-45, la città è stata appena liberata dall'occupazione tedesca, la guerra continua, c'è fame, c'è freddo, ci sono macerie e la vita intellettuale ricomincia. E al Collège de France, dove si raduna il meglio del mondo intellettuale francese, Fevre è chiamato a tenere un corso sull'idea d'Europa, è in quel contesto che lui comincia a ragionare su quello che ha significato Carlo Magno per il nostro passato. Ma in questo corso Fevre dice sull'idea di Europa delle cose che a noi oggi sembrano stupefacenti. Non c'è niente nell'idea di Europa, evocata da Lucien Fevre, che sia paragonabile all'entusiasmo che oggi, da anni ormai, la prospettiva di unificare il continente solleva fra di noi. Fevre, quando dice Carlo Magno ha dato forma per la prima volta a quello che noi chiamiamo Europa, ha in mente qualche cosa di molto meno lusinghiero come termine di confronto. Fevre, c'è un'altra frase impressionante, cito a memoria di questo suo testo sulla nascita dell'idea d'Europa. Dice come facciamo a continuare a parlare di Europa dopo che abbiamo sentito questa parola pronunciata così spesso da voci che sembravano così poco europee. Mi spiego, siamo nel 44-45, siamo in un momento in cui la propaganda nazista sta battendo da anni ossessivamente sull'idea dell'Europa, sull'idea di un'Europa che deve essere unificata, che deve essere unificata dai nazisti per difendere la civiltà europea dal bolshevismo, dal giudaismo, dal capitalismo. E siamo in un momento in cui i nazisti con la loro propaganda espressamente prendono Carlo Magno a esempio, a precedente, di quello che loro stanno facendo. Ecco, bisogna rendersi conto di questo per capire come mai Fevre, quando rievoca l'idea di Europa, non ha quell'entusiasmo che noi possiamo avere oggi nei confronti di questa unificazione di un continente. Anzi, Fevre quando pensa all'unificazione dell'Europa pensa a un continente che troppe volte si è cercato di unificare con la forza, con la spada. L'ha fatto Carlo Magno, l'hanno fatto i nazisti e Fevre si chiede se non sarebbe ora di smetterla con queste utopie militari. Fevre conclude il suo ciclo di lezioni sull'idea di Europa a Parigi nel 1945 chiedendosi se non sia una maledizione che l'Europa si porta dietro. Questa idea che ogni tanto viene fuori un conquistatore che cerca di unificarla con la spada. E' chiaro che l'idea che noi ci facciamo di cosa vuol dire l'Europa, di cosa vuol dire unificare l'Europa, pesa poi anche sull'immagine che gli storici possono avere di Carlo Magno. Perché la storiografia non è neutra naturalmente. La storiografia risponde sempre alle esigenze del presente. E' impossibile per noi che facciamo questo mestiere guardare al passato senza essere influenzati da quelle che sono le nostre priorità, da quella che è la nostra agenda. E questo è il motivo per cui Carlo Magno oggi in qualche modo sta godendo di una nuova fortuna fra gli storici e anche come immagine. Perché si associa l'idea di Carlo Magno a questo processo di costruzione europea che insomma forse proprio adesso in questi mesi comincia a mostrare un pochino di stanca ma che insomma per anni è stata la forza dominante della nostra politica internazionale. Carlo Magno di questo è visto davvero come un nome tutelare. Addirittura viene assegnato dalla comunità europea un premio Carlo Magno che ogni anno viene dato ad acquisgrana a un uomo politico che si è distinto particolarmente nello sforzo per la costruzione dell'Europa. Ecco, di nuovo, è impressionante rendersi conto che in altre epoche, anche non tanto lontane, l'immagine di Carlo Magno ha potuto sembrare molto diversa. Proprio perché i precedenti che si avevano in mente erano diversi. Io vorrei citare ancora una volta un libro veramente fondamentale, un grande storico del Novecento che si è occupato di Carlo Magno, è uno storico austriaco Heinrich von Fichtenau, che nel 1949 pubblica a Vienna quello che è forse tuttora il più grande libro sull'impero carolingio. Si intitola proprio così, l'impero carolingio. Ecco, anche qui immaginiamoci il contesto, il 49 a Vienna. Cosa vuol dire occuparsi di Carlo Magno in quel momento? In una città occupata, occupata da eserciti stranieri, compreso quello sovietico, in una città in macerie dove si continua a soffrire la fame, il freddo e si continuerà ancora per anni a soffrirli. Ecco, in questo contesto il Fichtenau, che è uno storico con una fortissima carica morale, dà la sua interpretazione di Carlo Magno e del suo impero. Non è naturalmente un libro viziato da una posizione, come dire, troppo soggettiva. È un grande libro di storia che analizza molto in profondità quello che Carlo Magno ha fatto e il modo in cui il suo impero funzionava e poi a un certo punto ha smesso di funzionare e si è sfasciato. E però il Fichtenau non può fare a meno di avere una sua prospettiva morale, appunto, uno sguardo etico su questa impresa, su questa costruzione di un continente. E di nuovo, agli occhi di questo storico austriaco che scrive negli anni 40, l'impresa di Carlo Magno, l'unificazione di un continente con la forza, con la forza delle armi e con la forza dell'ideologia, perché anche questo aspetto è centrale in Carlo Magno, un'ideologia poderosa che sta dietro a questo sforzo imperialistico di unificazione di un continente. Ebbene, quando ragiona su questo, il Fichtenau non riesce ad avere nessun trionfalismo. La sua prospettiva è quella di chi guarda all'impresa di Carlo Magno, con tutta anche la pietas, il senso di compassione che si può avere verso le grandi imprese del passato che poi però si sono disgregate, che sono fallite. Il suo tema è il fallimento dell'unificazione europea tentata da Carlo Magno. E il discorso di fondo che il Fichtenau non è così ingenuo da fare in modo espresso, ma che viene fuori comunque, si intuisce chiaramente che questo c'è nella sua anima, il discorso di fondo è guardate come vanno a finire i conquistatori che cercano di unificare l'Europa con la spada. Ecco, dal nostro punto di vista oggi, nel 2003, cosa vuol dire allora a questo punto lo sforzo di Carlo Magno di unificare un continente? Io credo che l'importanza storica di questo evento si possa capire meglio se paragoniamo quello che è stata l'Europa di Carlo Magno con l'impero romano. Noi siamo abituati a pensare che anche l'impero romano sia in qualche modo un progenitore della nostra Europa, un punto di partenza della nostra civiltà. Ma cos'era l'impero romano dal punto di vista geografico? Era un impero che davvero poteva chiamare il Mediterraneo Mare Nostrum, perché questo mare era al centro dell'impero romano. Un antico romano era a casa sua non soltanto in Gallia, in Italia, in Spagna, era a casa sua nei Balcani, era a casa sua in Asia Minore, un antico romano era a casa sua in Medioriente e in Nordafrica, e il Mediterraneo era il centro di questo impero. Mentre invece va anche detto che quando l'antico romano si spingeva fino al Danubio o al Reno, aveva veramente la sensazione di essere arrivato ai confini della civiltà. Si metteva le mani nei capelli se pensava a quello che c'era oltre questi fiumi. Ecco, paragonato a questo, il mondo di Carlo Magno invece assomiglia molto di più al nostro. Certo non è soltanto Carlo Magno che ha fatto questo, altrettanto importante è stato Maometto. Se vogliamo riprendere un ultimo grande libro del Novecento, Maometto e Carlo Magno di Henri Piren, certo, sono le invasioni arabe che hanno dato il primo colpo decisivo all'unità del Mediterraneo, che hanno portato via il Medioriente e il Nordafrica, che prima erano parte integrante della civiltà cristiana. E però Carlo Magno è quello che in qualche modo trae le conseguenze di questo. È con Carlo Magno che si crea e che si unifica uno spazio geopolitico che da questo punto di vista non ha più niente del vecchio impero romano e che invece assomiglia in modo impressionante a quello che è la nostra Europa. Quello di Carlo Magno è uno spazio geopolitico per cui il Mediterraneo non è più il cuore, è un confine. Al di là c'è un'altra civiltà, che poi quest'altra civiltà sia vista in modo ostile oppure con sforzi di collaborazione, questo è un tema interessante di cui magari riparleremo, ma certamente al di là ci sono gli altri. E invece questa Europa di Carlo Magno è uno spazio politico incentrato sul continente, incentrato sul reno, che è il suo asse commerciale, con rapporti economici che vanno verso il Nord, verso la Scandinavia, verso le isole britanniche. E al tempo stesso è uno spazio geopolitico che si sente molto diffidente verso il mondo dell'Europa orientale, verso i Balcani, verso la chiesa greco-ortodossa. Ecco, a me sembra che tutti questi aspetti ricordano abbastanza da vicino, nel bene e nel male, certe caratteristiche dell'identità dell'Europa di oggi. E allora forse non è un caso se ancora oggi il cuore e il cervello dell'Unione Europea battono in luoghi che sono gli stessi luoghi dove si aggirava Carlo Magno. A Bruxelles, a Strasburgo, a Maastricht, a Ginevra, ecco questi luoghi che per noi sono in fondo così simbolici della modernità di un'Europa che si sta unificando, sono gli stessi luoghi dove Carlo Magno risiedeva, sono gli stessi luoghi dove radunava le sue assemblee, da cui partivano le sue guerre, erano il cuore dell'antico paese franco, e in qualche modo appunto la continuità di questi luoghi traccia un filo rosso che unisce l'opera e il tempo di Carlo Magno con l'Europa come noi la concepiamo oggi. Carlo Magno nacque il 2 aprile 742, forse. In realtà non siamo affatto sicuri che sia andata davvero così. Bisogna pensare che la gente dell'epoca non stava molto attenta in generale alla propria data di nascita. Uno potrebbe pensare che nel caso di un personaggio importante come Carlo Magno non sia così e invece quando Carlo Magno nacque nessuno si prese la briga di registrare questo fatto. Tutto quello che sappiamo sulla sua data di nascita lo ricaviamo dalle informazioni relative alla sua morte. Quando morì infatti la gente si preoccupò di ricordarsi più o meno quanti anni aveva, solo che appunto in generale si ricordarono più o meno è abbastanza impressionante anzi vedere come le testimonianze tutte dello stesso momento divergono. L'autore degli annali regi che sono la fonte più ufficiale che veniva prodotta dal governo dell'impero scrive che l'imperatore morì circa nel settantunesimo anno di vita. Siccome non erano tanto sicuri sulla sua tomba si limitarono a mettere una lapide che diceva che aveva già compiuto i settant'anni, era septuagenarius. Il biografo di Carlo Magno è Ginardo che scrive dopo la sua morte e più preciso dice che Carlo morì nel suo settantaduesimo anno di vita e dando fede a Ginardo e tornando indietro si arriva al 742. Ma appunto non dobbiamo fermarci troppo su questo. La gente dell'epoca, ripetiamolo, non dava importanza a cose di questo genere. Non si festeggiava il compleanno e a dire la verità all'epoca in cui Carlo Magno nacque si era appena cominciato a contare gli anni col nostro sistema a partire dalla nascita di Cristo. Era un sistema inventato da poco e di cui molto probabilmente la grande maggioranza della gente non sapeva nulla e a cui non si dava nessuna importanza. Noi anzi sappiamo che in generale la gente quando doveva per forza ricordarsi la propria età approssimava. Questo noi lo sappiamo perché sia nell'antichità sia nel medioevo capita di incontrare dei testi, dei verbali di processi per esempio. Si chiamano i vecchi del paese perché bisogna stabilire se tanto tempo fa un certo possedimento apparteneva al monastero oppure no. Quindi si chiamano questi testimoni e gli si chiede di dichiarare la loro età e regolarmente nessuno mai dice ho 73 anni, ne ho 57. Dicono tutti delle cifre tonde. Tutti dicono ho 50 anni, ho 60 anni. Nel migliore dei casi dicono ne ho circa 55. Ecco che a questo punto non ci stupiamo per niente che nemmeno Carlo Magno si ricordasse esattamente quanti anni aveva. E forse se vogliamo capire la gente di quest'epoca dovremmo come dire cominciare a fare i conti con questa vasta indifferenza nei confronti del tempo. Come ha scritto uno dei più grandi studiosi del medioevo, Mark Bloch. Noi siamo ossessionati dal sapere in che anno esattamente viviamo, quanti anni abbiamo compiuto e così via. Loro prendevano le cose in altro modo. Per loro il tempo aveva tante dimensioni. Intanto era qualcosa che apparteneva a Dio e non all'uomo. Aveva una dimensione ciclica che nella vita di un re specialmente conta molto. Su questo torneremo, lo vedremo. Il passaggio ciclico degli anni nel corso dei quali si fanno sempre le stesse cose. E non sarebbe a questo punto una grande scoperta storica sapere che Carlo Magno non era nato nel 742 ma per esempio nel 743. Siamo più vicini a lui, alla sua mentalità, se impariamo a contentarci di quello che abbiamo. E sappiamo che morì nell'814 e aveva più o meno 70 anni. Dove nacque Carlo Magno? Questo è un altro di quei problemi che a noi oggi sembrano fondamentali. Nelle enciclopedie si dice sempre di tutti i personaggi dove sono nati e dove sono morti. E questo è di nuovo uno di quei casi in cui invece la gente del tempo di Carlo Magno ragionava in un altro modo. Bisogna anche tenere presente che quello era un mondo di campagna, non di città. Era un mondo dove la gente viveva tutta in campagna e nemmeno in villaggi, ma spesso in piccoli insediamenti, in ville isolate. Quanto ai re, e Carlo Magno è nato figlio di un re, giravano continuamente. Risiedevano a seconda di quello che dovevano fare, la guerra, la caccia, l'assemblea, nell'una o nell'altra delle tantissime ville di cui disponevano in campagna, residenze padronali. Il padre e la madre di Carlo Magno, Pipino, re dei franchi e Berta, possedevano decine e decine di grandi residenze in campagna, sparse un po' in tutto il Regno Franco. Molto concentrate però in quella che era la zona d'origine della famiglia, tra il Reno, la Mosa, la Mosella. E quindi certamente quando Berta doveva partorire sarà andata a stare in campagna in una di queste residenze, scelta in base al clima, al fatto che il raccolto lì fosse andato bene e che quindi c'erano buone scorte di grano e di vino, che sia nato Carlo Magno nell'uno o nell'altra di queste residenze è del tutto irrilevante, chiaramente. Però c'è stata un'epoca in cui invece questa faccenda è sembrata molto importante. Questa è di nuovo una storia curiosa che fa vedere come il nostro atteggiamento nei confronti del passato in realtà è sempre condizionato dalle nostre preoccupazioni. La storiografia ottocentesca si è preoccupata moltissimo di stabilire dove esattamente era nato Carlo Magno. E perché se n'è molto preoccupata? Perché l'Ottocento era un'epoca dominata dal nazionalismo in cui anche gli storici erano profondamente coinvolti da questi problemi e più di tutti gli storici francesi e tedeschi. L'Ottocento è il secolo in cui Francia e Germania si scontrano continuamente, ripetutamente per il predominio in Europa. Ora sia la Francia sia la Germania vengono fuori dall'impero di Carlo Magno. Sia i francesi sia i tedeschi in passato hanno guardato a Carlo Magno come a un eroe nazionale a cui richiamarsi. Ecco che allora a questo punto ai loro occhi diventava importante stabilire esattamente dove fosse nato. Nell'Ottocento ci sono innumerevoli pubblicazioni di storici francesi che cercano di dimostrare che Carlo Magno è nato al di qua del Reno, in luoghi che adesso appartengono alla Francia. E ci sono subito le risposte degli storici tedeschi che invece con le speculazioni più azzardate cercano di dimostrare che Carlo Magno era nato di là, dalla loro parte, oltre il Reno, in terra tedesca. Naturalmente dopo di allora ci si è resi conto non solo che non importa dove è nato, ci si è resi conto che al tempo di Carlo Magno non esistevano né i francesi né i tedeschi. Esisteva il popolo franco che era un'altra cosa e quindi la questione è completamente uscita dalle preoccupazioni storiografiche. Ma è interessante vedere che invece c'è stata un'epoca in cui questa cosa era considerata vitale. Va anche detto che la discussione comunque non ha ragion d'essere anche per un altro motivo. Abbiamo detto che il grosso delle residenze di re Pipino si trovavano fra il Reno, la Mosa, la Mosella. In realtà se uno va a vedere dove si collocano le più importanti, quelle in cui risiedeva soprattutto in quegli anni, negli anni in cui è nato Carlo, si vede che molto probabilmente in realtà Carlo Magno è nato in Belgio. Carlo Magno era il figlio di Pipino, re dei franchi. A dire la verità, quando Carlo nacque suo padre era re in pratica, ma non era ancora re formalmente, perché il regno franco aveva una strana forma di governo. Esisteva un re che non contava nulla ed esisteva un personaggio che era a metà fra il primo ministro e il dittatore che in pratica governava il regno. Questo era Pipino quando nacque Carlo Magno, ma pochi anni dopo Pipino decise che questo ruolo non gli bastava più e riuscì a diventare a pieno titolo re dei franchi. Questa è una storia che vale la pena di raccontare, perché ci dice anche molto sul ruolo per cui Carlo Magno è stato educato. Carlo Magno è nato sapendo già che avrebbe governato i franchi, lo sapeva fin da bambino, e quando era un ragazzino è diventato anche chiaro che li avrebbe governati non come primo ministro, ma come il loro re. E divenne anche chiaro che questo re dei franchi avrebbe avuto una missione precisa. Infatti se il re Pipino, quando Carlo Magno era un ragazzino, riuscì a farsi consacrare il re, questo fu essenzialmente grazie all'alleanza con la Chiesa, all'alleanza con il Papa. E in quel momento prende forma un asse, un asse politico fra il Regno Franco e la Chiesa di Roma, che sarà poi decisivo per tutta la carriera di Carlo Magno. E quindi su questo vale la pena che ci fermiamo, perché Carlo Magno, anche se ha preso certamente tante decisioni in vita sua, però recitava un ruolo. Era stato educato per il ruolo previsto. Sarebbe stato re dei franchi e avrebbe condotto una politica, i cui binari erano già in qualche misura fissati, e in cui era assolutamente centrale l'alleanza con il papato. Come mai questo? Beh, dovremmo tornare indietro nel tempo. Dovremmo tornare indietro nel tempo a quando i franchi si erano convertiti per la prima volta al cattolicesimo, molto tempo prima di Carlo Magno. Quella era un'epoca in cui le invasioni barbariche stavano travolgendo l'impero romano d'Occidente e in cui i vari popoli germanici si convertivano uno dopo l'altro al cristianesimo, in genere abbandonavano molto in fretta. È addirittura impressionante vedere la facilità con cui questi barbari invasori abbandonano le loro vecchie religioni, i loro vecchi dei, Odino, Thor, e si convertono al cristianesimo. Ma in generale la maggioranza di questi popoli germanici si sono convertiti al cristianesimo in una forma che era considerata eretica dalla chiesa di Roma, al cristianesimo ariano, che aveva certe idee particolari su Cristo, lo considerava creato e non generato, contrariamente a quello che i cattolici oggi dicono nel credo. Ebbene, quindi la chiesa romana guardava con molta diffidenza tutti i popoli germanici, tutti tranne uno. I franchi con Clodoveo, il loro re, si convertono direttamente al cristianesimo cattolico, tra le benedizioni e l'entusiasmo naturalmente del papa e della sua curia. Non a caso la conversione di Clodoveo al cristianesimo è considerata in Francia come una delle grandi date della storia di Francia. Lì nasce questa vocazione particolare dei franchi, nasce questa idea che i franchi sono un popolo che ha un legame speciale con la chiesa di Roma e a partire da questo momento tutta la politica del regno franco fino a Pipino e poi tutta la politica di Carlo Magno sarà improntata in modo decisivo a questo tema. Il fatto che cioè esiste un asse solidissimo che unisce i franchi al papa, alla chiesa cattolica e su questa base Carlo Magno costruirà tutta la sua politica di unificazione dell'Europa. Questo tema del cattolicesimo dei franchi, della loro strettissima relazione con il papa di Roma è un tema fondamentale per capire la personalità di Carlo Magno. Questo è un ragazzino che è cresciuto in un ambiente in cui incessantemente si esaltava il popolo franco come popolo eletto da Dio. Con una retorica addirittura impressionante, i papi sono i primi a usare questa retorica quando si riferiscono ai franchi in modo addirittura vorrei quasi dire spudorato. I papi parlano dei franchi come della gente santa, regale sacerdozio, popolo chiamato da Dio. E i franchi non sono da meno. Nel prologo delle loro leggi concludono con questa esclamazione. Viva il Cristo che ama i franchi! Ecco, in questo ambiente di esultanza perché i franchi sono un grande popolo, un popolo cristiano fino al midollo, un popolo da sempre amico della chiesa di Roma, nasce quello che in fondo è il vero corpo di stato di Pipino che da primo ministro del regno franco si trasforma nel suo re. Quindi questo pone anche le basi per il fatto che poi Carlo Magno stesso sia allevato per regnare sui franchi e non solo sui franchi ma in qualche modo su tutto il mondo cristiano proprio per via di questa strettissima alleanza con il Papa. In effetti anche se il re Franco al tempo di Pipino contava poco, però liquidarlo e prendere il suo posto non era uno scherzo evidentemente. I popoli germanici davano molta importanza al sangue dei loro re, davano molta importanza al fatto che i re discendessero da una stirpe carismatica voluta da Dio per governare. Carlo Magno non era nato in una stirpe del genere, era nato in una grande famiglia che da molto tempo governava il regno ma i re erano degli altri, non erano i carolingi la famiglia di Carlo ma erano i merovingi. E quindi dobbiamo immaginare che sia stata una cosa grossa, questa che si è progressivamente pianificata nell'ambiente di Pipino quando Carlo Magno, ripetiamolo, era un ragazzino per cui suo padre Pipino ha cominciato a tessere le fila di un intrigo che doveva portarlo a diventare il vero ufficiale re dei franchi. Per questo ci voleva il consenso del popolo innanzitutto. Il consenso del popolo che poi, questa non è certamente un'epoca democratica, era espresso dai suoi capi, dai potenti, dai grandi latifondisti, dai vescovi. Il loro consenso era fondamentale perché Pipino potesse compiere questo passo decisivo, togliere di mezzo il re, chiuderlo in monastero e farsi incoronare. Ma non bastava ancora, non bastava ancora perché un re è un personaggio sacro, è un personaggio messo lì da Dio a governare e quindi ci vuole una sanzione superiore, bisogna che sia il papa a confermare che Pipino davvero deve essere re dei franchi. Perciò l'intrigo va al di là della Gallia, raggiunge Roma. Noi possiamo solo provare a immaginare quanti colloqui, quanti negoziati siano stati necessari per convincere il papa a questo passo. Alla fine il papa è convinto e allora si può compiere il passo ufficiale. Pipino manda a Roma una lettera con un quesito, chiede Padre Santo è giusto che presso i franchi quello che porta il nome di re non governi, mentre quello che governa davvero non si chiama re. E il papa risponde no, non è giusto, bisogna che quello che governa davvero i franchi porti anche il nome di re. E a questo punto il papa si muove, fa un lungo viaggio, una cosa assolutamente insolita per l'epoca, va in Gallia e pubblicamente incorona Pipino, re dei franchi, e lo unge con l'olio santo. A partire da questo momento Pipino è un personaggio consacrato e Carlo Magno lo sarà dopo di lui. Sull'infanzia di Carlo Magno non sappiamo praticamente niente. Il suo biografo Eginardo dice che non c'è più vivo nessuno che si possa ricordare di queste cose e quindi non ne parla affatto. Naturalmente trattandosi di un uomo dell'epoca non è strano, i bambini all'epoca non erano considerati in modo particolare e comunque prima che si cominciasse a scrivere qualcosa sulle imprese di un uomo bisognava che avesse fatto qualche cosa che valeva la pena di menzionare. Noi però abbiamo un piccolo elemento che ci permette di aprire uno squarcio su quella che forse ha potuto essere l'infanzia di Carlo Magno, o perlomeno sul tipo di cose che gli venivano raccontate quando era bambino, su chi era lui, che cos'era la sua famiglia, quale sarebbe stato il suo destino. Uno degli intellettuali della corte di Carlo Magno, un italiano, Paolo Diacono, racconta che l'imperatore un giorno gli riferì una vicenda straordinaria che era avvenuta a un suo antenato. L'imperatore avrebbe raccontato questo, il suo antenato era un santo, vescovo di Metz, Arnolfo, uno degli antenati a cui la famiglia di Carlo teneva di più. Era un santo ma essendo un vescovo e quindi all'epoca anche un uomo politico poteva pensare di avere qualche cosa da farsi perdonare. Arnolfo anzi, raccontava Carlo Magno, era in qualche modo ossessionato dal senso dei suoi peccati e perciò un giorno si rivolse a Dio e decise di fare un patto con lui. Avrebbe fatto penitenza fino a quando Dio stesso non gli avesse detto che poteva bastare. E per questo Arnolfo gettò nella mosella un anello d'oro e si impegnò a fare penitenza fino a quando quell'anello non fosse tornato fra le sue mani. Molti anni dopo, raccontava sempre Carlo, un cuoco di palazzo trovò quell'anello nella pancia di un pesce che stava cucinando per il vescovo. Corse immediatamente a portarglielo e Arnolfo si rese conto che Dio aveva perdonato i suoi peccati. Ecco, quello che ci interessa di questo racconto, o meglio, sono tante le cose che ci interessano, che rapporto c'è fra questa storia e il mondo della fiaba? Il tema dell'anello gettato nel fiume ritrovato nella pancia di un pesce è chiaramente un motivo folclorico, ricorre spesso nelle fiabe. Ma per Carlo Magno questa non era una fiaba. Quello che qui ci interessa di più è il fatto che Carlo Magno da vecchio si ricordava di questo racconto su un suo antenato che evidentemente gli era stato raccontato quando era bambino. Si sa fra l'altro che da vecchio si possono a volte dimenticare le cose recenti ma invece le cose che abbiamo imparato da piccoli ce le ricordiamo. Carlo Magno da vecchio ricordava bene questa fiaba che non pensava fosse una fiaba, ma che pensava fosse un avvenimento davvero verificatosi. E questo è lo squarcio che in qualche modo ci si apre grazie a questo racconto di Paolo Diacono su quella che ha potuto essere l'infanzia di Carlo Magno. Il bambino figlio del capo dei franchi, figlio dell'uomo che a un certo punto diventa poi anche ufficialmente il re dei franchi, capo di un popolo che Dio ha prescelto come popolo eletto, come nuovo Israele, capo del popolo che la chiesa romana ha scelto come il suo alleato, ebbene figlio di una famiglia che ha antenati come questo. Questo è quello che ci importa. Certamente Carlo Magno da bambino è vissuto in un ambiente in cui si stava costruendo la leggenda della sua famiglia. Questo era il genere di racconti che sentiva e non erano racconti fatti soltanto per tenerlo buono e farlo addormentare, erano racconti che servivano per costruire in lui il senso di chi era, a quale famiglia apparteneva e qual era il destino a cui era chiamato. Nell'anno 769 il re Pipino morì, probabilmente di idropisia, e Carlo Magno divenne re dei franchi. Ma non lui da solo, perché aveva un fratello, un fratello minore. Questo fratello minore si chiamava Carlo Manno. Dobbiamo tenere presente naturalmente che a quell'epoca Carlo Magno non lo chiamava nessuno Carlo Magno, si chiamava Carlo e basta. Magno è un soprannome che gli verrà poi appiccicato in tarda età e soprattutto dopo la morte. Dunque il re Pipino lasciava due figli, Carlo e Carlo Manno. E vale forse la pena di soffermarci su questo nome così insistito, su questa radice, Carl, che è presente nei nomi di tutti e due i fratelli. È una radice che nella lingua dei franchi indicava la forza, la virilità, la mascolinità, questo voleva dire. Bene, due fratelli, tutte e due eredi al trono. Perché nelle usanze dei franchi a quell'epoca non esisteva la primogenitura, tutti i figli maschi avevano lo stesso diritto di spartirsi l'eredità paterna, e un regno tutto sommato era un'eredità come qualunque altra. Nessuno si sarebbe mai sognato di dire che il regno spettava tutto al primo genito e che il secondo doveva restare con un pugno di mosca in mano. Pipino, prima di morire, organizzò faticosamente una spartizione del suo regno che doveva permettere ai due fratelli di vivere e governare d'amore e d'accordo. Ecco, senza tornare qui al clima delle fiabe, si può però immaginare facilmente che due fratelli in quella situazione non sempre vivono d'amore e d'accordo. Noi abbiamo indicazioni precise del fatto che questi due Carli, Carlo e Carlo Manno, tolleravano male, tutte e due, il fatto di dover spartire con il fratello il governo sul popolo franco. Per fortuna però era ancora viva la madre, quella Berta o Bertrada, che spesso i germani di quest'epoca avevano nomi che si presentavano in diverse versioni. Il nome germanico originario probabilmente era proprio Bertrada. Poi il personaggio è stato tramandato anche nelle canzoni cavalleresche, nelle canzoni di gesta, ed è diventato un po' più facile da pronunciare per noi appunto Berta. Le chansons de geste la ricordano come Berta dai grandi piedi, per motivi su cui non vorrei qui indagare troppo. In ogni caso Berta era viva e si trovava nella posizione rara a quell'epoca, in cui una donna poteva contare qualcosa. All'epoca una donna contava qualcosa nella misura in cui riusciva a influenzare suo marito, ma ufficialmente non contava niente. Anche una donna comune aveva la sua dote, i suoi possedimenti, ma era il marito che li amministrava. E una regina, appunto anche lei, poteva contare qualcosa se il marito si lasciava influenzare, altrimenti no. Ma per una vedova il discorso era diverso. Il re Pipino è morto, i suoi due figli sono subentrati al potere, sono giovani, tutte e due, sono inesperti e la madre, che al massimo della sua esperienza, li può guidare, li può dirigere, li può consigliare. I primi anni di regno di Carlo Magno sono sotto il segno di questa tutela prudente della madre, noi la intuiamo da piccoli accenni, piccoli accenni dei cronisti agli interventi di questa donna, qualche volta anche ai suoi viaggi per stringere accordi diplomatici con i regni vicini. Certamente è la presenza di Berta, della madre, che impedisce ai due fratelli di scontrarsi, perché gli umori intorno a loro erano accesi e molto probabilmente senza Berta si sarebbe arrivati a uno scontro aperto. Invece non ce n'è bisogno. Questa è un'epoca in cui si muore facilmente anche giovani, Carlo Manno a un certo punto si ammala e muore e suo fratello Carlo assume il potere su tutto il popolo franco. Non risulta che sia stata aperta un'inchiesta sulla morte di Carlo Manno, ma certo un cronista dell'epoca elogia Carlo per essere riuscito a impadronirsi del regno del fratello morto senza colpo ferire, senza mettere nessuno in prigione, senza fare morti. Insomma, certamente si era temuto il peggio a un certo punto. Chi ci rimetteva erano la vedova e i figli del morto, perché Carlo Manno aveva una moglie, aveva dei bambini che avrebbero potuto in teoria aspirare a succedere al padre sotto la tutela materna. E invece il nostro Carlo, che qui per la prima ma non l'ultima volta si dimostra un politico spregiudicato, ha preso possesso di tutto. Tanto che la vedova, la cognata Gerberga e i suoi figli fuggono dal regno e vanno a cercare riparo nel regno confinante, nel regno Longobardo. Ecco, qui noi incontriamo per la prima volta un ambiente che noi italiani conosciamo in generale, perché è l'ambiente descritto dal Manzoni nella Delchi. E quindi tutti noi a scuola abbiamo sentito parlare di queste cose, del re Desiderio, re dei Longobardi. Ebbene, è proprio presso Desiderio che la vedova e i figli di Carlo Manno vanno a rifugiarsi. E questa cosa Carlo non deve averla presa tanto bene. Anche se un cronista lo elogia anche in questo caso, dicendo, ah il re la considerò una cosa normale, ma sotto sotto non doveva essere tanto normale. Bisogna dire che il rapporto del regno Franco con i Longobardi in quel momento era ottimo. La vecchia Bertrada o Berta si era data da fare proprio per questo, per fare in modo che i suoi due figli non avessero un nemico sul confine meridionale. Carlo Magno in particolare aveva avuto a un certo punto un eccellente rapporto con il re Desiderio, tanto che aveva sposato sua figlia, quella che tutti noi conosciamo grazie al Manzoni come Ermengarda. Ecco, può essere carino ricordare a questo punto che non si chiamava affatto Ermengarda. Questo nome l'ha inventato il Manzoni e l'ha inventato per il buon motivo che nessun cronista dell'epoca si è degnato di dirci come si chiamava questa donna. Questa è una bella indicazione di come in certi ambienti, specialmente negli ambienti intellettuali della Chiesa, le donne non fossero esattamente considerate tanto importanti. Carlo Magno sposa questa donna, ma nessun cronista ci dice come si chiama. Chiaramente il Manzoni non poteva avere un'eroina senza nome e quindi ha inventato per lei questo nome che suona bene, fra l'altro, Ermengarda. Ecco, però noi sappiamo anche sempre dal Manzoni, e questo è vero, che questo matrimonio a un certo punto non è andato bene. Ed è proprio all'interno di questo contesto politico che stiamo raccontando, che naufraga il matrimonio di Carlo con Ermengarda, chiamiamola così anche noi. Naufraga perché Carlo Magno non è più così convinto di voler avere buoni rapporti col re Desiderio, con suo suocero. Adesso che si è impadronito del regno del fratello, adesso che la cognata e i nipotini sono scappati da Desiderio, e Desiderio ne sta anche approfittando, perché è una carta importante questa che ha in mano. Questi bambini un giorno potrebbero rivendicare la loro parte del regno franco, e questa cosa per Carlo Magno è molto scomoda. Ecco, aggiungiamo che per quanto ne sappiamo, Ermengarda, sposata ormai da più di un anno, non aveva ancora dato figli a Carlo Magno. Non era ancora neanche rimasta incinta. E questo, per una regina in quell'epoca, era molto pericoloso. Insomma, mettendo tutto insieme, Carlo Magno decide che è ora di cambiare politica. Rimanere amici con il re Desiderio non gli conviene più. Ripudia Ermengarda e comincia a pianificare quella che sarà la sua prima grande guerra vittoriosa, l'invasione del regno Longobardo. Fare la guerra ai Longobardi era una cosa abbastanza naturale per un re Franco. Anzi, a dire la verità, la cosa strana è che sotto Bertrada ci fosse stata una politica di pacificazione e di matrimoni, perché invece tradizionalmente il regno Franco e il regno Longobardo erano violentemente ostili. E non solo perché confinavano. C'era anche un motivo, come dire, ideologico, profondo di questa ostilità. I Longobardi avevano invaso l'Italia molto tempo prima, avevano conquistato tutto il centro nord, si erano fermati davanti a Roma. Poi i gruppi Longobardi si erano spinti anche più a sud, fino a Benevento, ma non avevano mai occupato Roma. E non aver preso Roma era sempre rimasta una spina per i re Longobardi. Tutti i re Longobardi, quando possono, cercano di occupare militarmente Roma. Roma che è difesa dai papi innanzitutto. I papi che sono stati praticamente lasciati lì, dall'imperatore bizantino, con l'incarico di difendere quel poco d'Italia che non è stato ancora sommerso dall'invasione Longobarda. Quindi i papi sono per tradizione ostili, ferocemente ostili ai Longobardi. E contro i Longobardi si sono abituati a ricorrere all'aiuto franco. Non per niente i franchi sono il nuovo popolo eletto, il popolo cattolico prediletto da Dio, perché aiutano i papi a difendersi dalla pressione Longobarda. Ci sono nelle lettere che i papi scrivono ai principi franchi, per esempio al tempo in cui Carlo Magno era bambino, espressioni straordinarie dell'odio contro i Longobardi e del bisogno di aiuto che i papi hanno. A un certo punto Papa Stefano II manda a re Pipino un appello disperato in cui parla in prima persona l'Apostolo Pietro. Correte, correte, correte e aiutateci! E i franchi normalmente correvano. Erano più potenti, sconfiggevano i Longobardi, salvavano Roma, salvavano il Papa e rendevano ogni volta più stretto questo loro legame politico con la Chiesa di Roma. Come possiamo immaginare la politica di pacificazione tra Franchi e Longobardi nei primi anni del regno di Carlo Magno non era piaciuta per niente al Papa. Il fatto che Carlo Magno a un certo punto abbia sposato quella povera Ermengarda, per esempio, suscita a Roma scandalo e costernazione. C'è una lettera formidabile che Papa Stefano III scrive a Carlo Magno per sgridarlo di avere sposato una Longobarda. E vale la pena di citarla perché fa vedere quale fosse il tono della retorica nella corrispondenza politica di quei tempi, che non era certo compassata come quella odierna. Scrive il Papa Che pazzia è mai questa! Il vostro nobile popolo franco, luce di tutti i popoli, e la vostra illustra e nobile stirpe regale, insozzati dal popolo puzzolente e traditore dei Longobardi, che non ha diritto nemmeno al nome di nazione, e dal quale, come è noto, provengono i lebrosi. Ecco, sulla competenza medica di Papa Stefano III ovviamente non ci pronunciamo, ma certamente qui è all'opera una retorica che tende a spingere appunto su questo pedale. I Longobardi sono i nemici di Dio, mentre i franchi sono i suoi amici. È innaturale che siano alleati. Ecco che quindi c'erano molti motivi per cui Carlo Magno a un certo punto poté decidere di cambiare linea politica. Quando decise di ripudiare la moglie Longobarda e di invadere il regno Longobardo per togliere di mezzo, una volta per tutte, questa potenziale minaccia al suo potere, il Papa naturalmente non poté che essere molto molto contento. E così questa prima grande guerra di Carlo Magno nasce, come poi nasceranno tutte le altre, sotto un segno ideologico molto preciso, quello di una guerra voluta e benedetta da Dio. Nella guerra contro i Longobardi noi vediamo per la prima volta Carlo Magno in veste di comandante militare, che è poi quello che ha fatto praticamente per tutta la vita, perché quello era il primo compito di un re dei franchi. I franchi erano un popolo militare, aggressivo e il compito del loro re era precisamente quello di guidarli ogni anno in imprese militari, se possibile vittoriose, di invadere paesi nemici, sottomettere popoli, riportare a casa bottino. È questo che i franchi chiedevano ai loro re, per questo li seguivano, per questo li ubbidivano. Carlo Magno dunque è un militare, è uno che tutti gli anni della sua vita conduce spedizioni di guerra. Non è però un combattente. Non abbiamo nessuna testimonianza sul fatto che mai Carlo Magno abbia impugnato personalmente la spada. Non lo vediamo mai nelle fonti dell'epoca, le canzoni di gesta più tardi sono un'altra cosa chiaramente, non lo vediamo mai combattere in mezzo ai suoi guerrieri. E non è neanche un generale, nel senso di un Napoleone per dire, che sa con il colpo d'occhio vincere le battaglie, anche quando magari si trova in situazioni di inferiorità. In realtà Carlo Magno combatte in vita sua pochissime battaglie, combatte molte guerre, ma pochissime battaglie. Carlo Magno è però un grande generale, ma è un grande generale nel senso che noi oggi possiamo capire forse meglio, e cioè innanzitutto un grande organizzatore. Carlo Magno è uno stratega moderno, assomiglia molto ai generali di cui si parla oggi, quelli delle ultime guerre americane, il generale Schwarzkopf, o pochissimo tempo fa Tommy Franks. Carlo Magno è uno che si trova a disposizione enormi risorse, perché è il re più potente d'Europa, e che eccelle nel pianificare l'uso di queste risorse. E pianificare le risorse non era uno scherzo, perché condurre una campagna militare nelle condizioni logistiche dell'epoca, e condurla bene, con successo, come normalmente fa Carlo Magno, era una sfida in realtà abbastanza difficile. Noi dobbiamo immaginare che già nel corso dell'inverno Carlo Magno e i suoi consiglieri decidevano quale sarebbe stata la campagna dell'estate successiva. E il Regno Franco aveva nemici da tutte le parti, i Longobardi d'Italia, i Sassoni al nord, gli avari all'est, gli arabi di Spagna oltre ai Pirenei, quindi si poteva decidere di condurre la campagna in zone d'Europa diversissime fra loro. Ed era necessario pianificare l'afflusso dei soldati nella zona prescelta, con molto anticipo. Molti mesi prima dovevano partire le lettere per i comandanti locali, per i conti e anche per i vescovi, che erano incaricati di radunare gli uomini in tutte le province del Regno e di condurli poi nel giorno stabilito al luogo fissato per l'incontro. Era quindi un'impresa anche amministrativa complessa in un paese dove quasi non c'erano strade, dove quasi non esisteva un apparato di governo, la burocrazia era ridotta al minimo, dove tutte le lettere e gli ordini si spostavano a cavallo. Ecco, immaginiamo cosa vuol dire in queste condizioni pianificare il movimento di molte migliaia di uomini con i loro cavalli, i loro carri di rifornimenti, allo scopo di trovarsi poi tutti al momento stabilito alla frontiera Longobarda oppure a quella Sassone, per poi condurre una campagna che durerà tutta l'estate e l'autunno, quando poi normalmente si smette di fare la guerra, si torna a casa, si va a caccia, si fanno cose più piacevoli. Ecco, in questo senso Carlo Magno, che combatté pochissime battaglie in vita sua, però dovette pianificare ogni anno una campagna militare e in generale lo sapeva fare bene. Nel caso dell'invasione dell'Italia Longobarda, il problema strategico che Carlo Magno doveva risolvere non era affatto semplice. Il regno Longobardo occupava tutta l'Italia centro-settentrionale, il che vuol dire che le Alpi lo difendevano dai franchi. Tuttavia il confine non era lo spartiacque, come oggi il confine tra Francia e Italia, e questo favoriva in realtà la pianificazione della campagna da parte di Carlo Magno. Infatti i franchi sostanzialmente erano più forti dei Longobardi. Nel corso di secoli di guerre li avevano ricacciati indietro, avevano spinto il confine dei due regni, dallo spartiacque alpino, fino giù al fondo valle. Per essere concreti, quando i franchi scendevano in Italia potevano passare dalla Val di Susa, ma la Val di Susa era tutta parte del Regno Franco. Il confine si trovava laddove la valle sbocca nella pianura italiana, vicino a Torino. Oppure potevano passare dalla Valle d'Aosta, ma anche la Valle d'Aosta era parte del Regno Franco. Il confine si trovava allo sbocco della pianura. Questo evidentemente era un grosso vantaggio per Carlo Magno. Se i Longobardi avessero potuto fortificare le cime alpine, probabilmente le cose sarebbero andate in modo diverso. Invece le valli erano in mano a Carlo e i Longobardi si potevano fortificare soltanto allo sbocco. E però si fortificavano. E si erano fortificati e come. Esisteva fin dal tempo dell'impero romano una tradizione per cui venivano fortificati gli sbocchi delle valli alpine nella pianura padana. E venivano fortificati con opere difensive che avevano un nome preciso che è rimasto anche nella leggenda, le chiuse. Sono famose in particolare le chiuse della Valle di Susa. Tuttora esiste un luogo che ha questo nome, le chiuse di San Michele, allo sbocco della valle. Ma anche lo sbocco della Valle d'Aosta era fortificato. Chi conosce quei luoghi sa che attualmente c'è lì un grande forte ottocentesco, il forte di Bar, che sbarra completamente il passaggio. Ecco, già al tempo di Carlo Magno dobbiamo immaginare che esistessero fortificazioni equivalenti. In cosa consistevano esattamente queste chiuse? Ecco, su questo la storiografia ha molto discusso, perché a un certo punto è sembrato che fosse semplicemente una leggenda, l'idea che ci fosse davvero un'enorme muraglia che sbarrava completamente la Valle di Susa e la Valle d'Aosta. Per molto tempo la storiografia ha pensato che queste fossero esagerazioni. Sembrava più logico pensare che queste chiuse, su cui i Longobardi contavano per difendersi dall'invasione franca, che queste chiuse fossero in realtà un insieme di fortini, torri d'avvistamento, barriere doganali, perché naturalmente si pagavano pedaggi passando da un regno all'altro. Ecco, questo è uno di quei casi in cui la storiografia più recente invece ha dimostrato che le vecchie leggende non erano così sbagliate. Nel senso che ci sono testimonianze sul fatto che il re Desiderio aveva investito parecchio nella fortificazione dei confini del suo regno e ci sono testimonianze archeologiche che fanno pensare che almeno la Valle di Susa fosse effettivamente sbarrata con una grande muraglia. Certo, niente di paragonabile non solo alla muraglia cinese ma nemmeno al Vallo di Adriano lassù in Scozia, qui si tratta di una muraglia di pochi chilometri, quanto basta per chiudere una valle alpina, ma quasi certamente si trattava davvero di un muro, un grande muro, contro il quale Desiderio e i Longobardi potevano sperare che l'invasione franca si sarebbe arenata. Ecco, quindi quando noi cerchiamo di entrare nella testa di Carlo Magno, che deve pianificare l'invasione dell'Italia a Longobarda, il problema principale che dobbiamo avere presente è questo. Ci sono due strade possibili ed entrambe sono sbarrate da muraglie. Dietro i Longobardi lo aspetteranno. La prima scelta che Carlo Magno doveva compiere per organizzare l'invasione dell'Italia a Longobarda era quella della strada da prendere. O si passava per il Monginevro, il Moncenisio e si scendeva dalla Valle di Susa, o si passava per il Gran San Bernardo e si scendeva dalla Valle d'Aosta. Naturalmente questa era una scelta cruciale perché i Longobardi lo avrebbero aspettato, un intero popolo in armi con tutti i suoi guerrieri radunati dal re, in attesa, in pianura, dietro le loro fortificazioni. E lo avrebbero aspettato certamente perché sappiamo che radunare un esercito era cosa che richiedeva mesi e mesi di preparativi. Quindi sicuramente una volta che Carlo Magno avesse scelto il luogo in cui radunare l'esercito, la notizia in un modo o nell'altro sarebbe trapelata. E quindi i Longobardi avrebbero saputo da che parte veniva il colpo. Ecco, la prima intuizione che abbiamo del fatto che Carlo Magno non era uno qualunque ma che su queste cose ci ragionava e ci sapeva fare, l'abbiamo proprio dalla scelta del luogo in cui Carlo Magno raduna le sue forze. Infatti gli ordini che partono dalla corte di Carlo Magno nell'inverno e che raggiungono tutte le autorità locali e progressivamente mettono in moto tutta questa massa di guerrieri, stabiliscono che il punto dove l'esercito deve concentrarsi è Ginevra. E basta un'occhiata alla carta per capire che da Ginevra era possibile sia prendere la strada della Val di Susa, scendendo lungo il Rodano, sia prendere la strada del Gran San Bernardo, costeggiando il lago e poi risalendo il Rodano verso Martigny. Questo vuol dire che Carlo Magno ha scelto per radunare il suo esercito l'unico punto da cui il nemico non avrebbe potuto ricavare informazioni. In realtà poi Carlo Magno va anche oltre. Infatti per invadere l'Italia decide di non affidarsi alla sorte, di non concentrare tutte le sue forze su un'unica strada. Organizza per la prima volta quella che poi diventerà la sua manovra preferita, e cioè una manovra Atenaglia. Carlo Magno farà scendere una parte del suo esercito dalla Val d'Aosta, sotto il comando di un suo zio, Bernardo, mentre l'altra parte dell'esercito Franco, guidata personalmente da Carlo, scenderà per la Valle di Susa. Naturalmente non stiamo parlando qui di colpi di genio, ma di una pianificazione molto accurata che sfrutta al meglio le opportunità. E su questo vorrei fermarmi un momento, perché questa faccenda della manovra Atenaglia sarà poi una caratteristica della strategia di Carlo Magno, in quasi tutte le sue campagne militari. E vorrei sottolineare che non si tratta soltanto di un'intuizione di Carlo, ma si tratta anche, anche qui, quasi di trasformare in vantaggio uno svantaggio. La manovra Atenaglia è possibile, ma anzi è addirittura quasi necessaria perché i franchi sono forti, sono tanti. Carlo è in grado di radunare tanti guerrieri, tanti intendiamoci per l'epoca. Probabilmente un esercito Franco non contava più di dieci o quindicimila uomini, ma per l'epoca erano molti, moltissimi. Una parte di loro erano a cavallo, tutti quanti dovevano stare lontani da casa per molti mesi, già mesi di marcia prima ancora di cominciare la spedizione, e dunque avevano un'enorme quantità di bagagli, salmerie, carri trainati da buoi. Far marciare un esercito di quelle dimensioni su un'unica strada sarebbe stato un azzardo e avrebbe comportato grossi problemi tecnici, logistici, l'acqua finisce, l'erba finisce. Perciò Carlo Magno trae vantaggio da questo che invece potrebbe essere un impaccio, un imbroglio, e impara a organizzare diverse colonne che convergono sull'obiettivo passando da strade diverse, cosa che per un capo barbaro dell'alto medioevo non è trascurabile. La colonna guidata personalmente da Carlo Magno dunque scende per la valle di Susa. Scende per la valle di Susa e arrivata in fondo si trova di fronte le chiuse, e dietro le chiuse il re desiderio col grosso dei suoi guerrieri. Ecco a questo punto la sensazione forte che ci danno tutte le fonti è che Carlo Magno si sia trovato per un momento spiazzato. Come fare per superare questa muraglia? Tutti i testimoni dell'epoca ci dicono che il re riuscì a girare le chiuse, non fu costretto ad affrontarle. Alcuni dicono per la sua abilità riuscì ad aggirarle, altri, come voleva la mentalità dell'epoca, dicono con l'aiuto divino riuscì ad aggirare questo ostacolo. Un cronista molto tardivo però che chiaramente sta raccontando una favola dice che un giullare longobardo traditore raggiunse Carlo e gli raccontò che si poteva passare da un'altra strada per sbucare alle spalle del re desiderio e del suo esercito. Questa storia piacca al Manzoni, torniamo sempre a lui perché è attraverso la Delchi che tutti noi abbiamo sentito parlare per la prima volta di queste vicende. La storia piacca al Manzoni che però non voleva un giullare traditore, voleva qualcosa di un po' più dignitoso e che perciò inventa la storia del diacono Martino che viene mandato da Dio, che scopre una strada alternativa e va a insegnarla a Carlo Magno. Quello che è certo è che effettivamente i franchi in un modo o nell'altro riuscirono a trovare una via alternativa. Quale? Questo è uno di quei problemi di cui gli storici locali si sono appassionati, è come per la discesa di Annibale. Quando un grande esercito passa le Alpi poi nella memoria collettiva rimane in qualche modo il suo ricordo, se non rimane viene poi reinventato dagli eruditi e allora molti si sono rotti la testa per stabilire esattamente da dove sia passato Annibale quando attraversò le Alpi e allo stesso modo molti si sono chiesti da dove effettivamente Carlo Magno e i suoi franchi siano passati per aggirare le chiuse. La cosa poi al giorno d'oggi può avere anche ricadute turistiche. Credo che in Val di Susa esista tanto di sentiero segnato come sentiero dei franchi con i cartelli che invitano i turisti a ripercorrere la strada di Carlo Magno. Tanto sicuri non si può essere, ma chi conosce la zona sa che effettivamente una strada alternativa c'è. Si discende, arrivate a un certo punto, verso destra, si piega in una valle laterale, la valle del Sangone, e si va a sbucare in pianura ai laghi di Avigliana alle spalle delle chiuse. E molto probabilmente è proprio questo il percorso seguito da Carlo Magno. Quello che è certo è che non ci fu battaglia. Non ci fu battaglia, i franchi comparvero all'improvviso alle spalle dei Longobardi e li misero in rotta. Naturalmente non vorrei escludere che a questa rotta dei Longobardi abbia contribuito anche l'altra colonna che scendeva per la valle d'Aosta al comando dello zio di Carlo Magno, ma si sa ai cronisti interessava dare il merito al re e quindi è essenzialmente di quello che fece Carlo che sentiamo parlare. Ma appunto l'idea che l'altra colonna, discesa da un'altra strada, sia comparsa anch'essa alle spalle dei Longobardi, servirebbe certamente a spiegare ancora meglio la loro rotta improvvisa. Quello che è certo è che appunto, ripeto, non c'è battaglia, l'esercito Longobardo si disperde, il re Desiderio, in rotta, va a chiudersi con i suoi fedelissimi dietro le mura della sua capitale, Pavia. Mentre uno dopo l'altro i duchi Longobardi, i potenti del regno, cominciano a chiedersi se non sia il caso di passare dalla parte dei vincitori e uno dopo l'altro abbandonano il loro re e vanno a fare atto di sottomissione a Carlo Magno. La guerra di Carlo Magno contro Desiderio è praticamente vinta prima ancora che si sia combattuto. Carlo Magno assediò in Pavia il re dei Longobardi e Desiderio per più di un anno. Questo a pensarci è straordinario. Carlo Magno aveva invaso la pianura padana senza incontrare praticamente resistenza. Il regno Longobardo si era spappolato, Desiderio era stato abbandonato da quasi tutti i suoi duchi, si era chiuso nella sua capitale a Pavia e lì resiste per più di un anno. È impressionante perché ci dà il senso della pochezza tecnica dell'epoca. Carlo Magno, nonostante tutto il suo potere, non aveva le macchine da guerra, le macchine d'assedio per conquistare una città e quindi deve assediarla per più di un anno finché la città non si arrende per fame. Pavia cade, Desiderio si sottomette, viene spedito in un monastero a scontare i suoi peccati e la guerra questa volta è davvero finita. Ecco, questo assedio di Pavia è stato raccontato da un monaco dell'epoca in termini leggendari, fiabeschi, ma in un passo che vale la pena di leggere. Adesso vorrei fare una cosa diversa da quella che facciamo di solito, vorrei leggere questo brano per intero perché è veramente una testimonianza straordinaria della leggenda di Carlo Magno, della potenza di Carlo Magno così come era percepita dai suoi contemporanei. Ecco, questo monaco immagina che quando l'esercito di Carlo si avvicina alle mura di Pavia, il re Desiderio sale sulla più alta torre per vedere questi nemici che si avvicinano. Con lui c'è un Franco, un traditore che è passato dalla parte dei Longobardi, Uggeri, e che conosce bene Carlo e il suo esercito. E il monaco racconta, quando comparvero le salmerie che sarebbero state degne delle imprese di Dario o di Cesare, Desiderio disse a Uggeri, c'è Carlo in quell'esercito così grande? Gli rispose, non ancora. Vedendo poi la massa dei semplici combattenti radunati dall'immenso impero, disse con sicurezza a Uggeri, certo c'è Carlo in mezzo a queste truppe. E Uggeri rispose, ma non ancora, non ancora. Allora Desiderio cominciò ad agitarsi e a dire, ma che faremo se verrà con forze ancora maggiori? Disse Uggeri, vedrai com'è che verrà, quanto a noi non so cosa ci accadrà. Desiderio ormai spaventato dalla luce e desideroso solo della morte, balbettò singhiozzando, scendiamo giù e nascondiamoci sottoterra per non vedere il furore di un avversario così formidabile, al che gli rispose l'impaurito Uggeri, che in passato aveva conosciuto il modo di fare e le risorse dell'incomparabile Carlo. Quando vedrai una messe di ferro spuntare nei campi e il Po e il Ticino neri di ferro inondare le mura della città come i flutti del mare, allora forse vorrà dire che Carlo sta arrivando. Non ebbe il tempo di finire, quando ecco che da Occidente apparve un temporale simile a una nube nera, che trasformò la luce del giorno in paurosa ombra. E allora videro il ferreo Carlo, crestato d'un elmo di ferro, alle braccia maniche di ferro, il ferreo petto e le spalle protetti da una corazza di ferro. Il ferro riempiva i campi e le pianure, i raggi del sole si riflettevano nella schiera di ferro. Al gelido ferro s'inchinava il popolo raggelato ed eccheggiava il confuso clamore degli abitanti. Oh, il ferro, oimè, il ferro. Ecco, in questo racconto di un monaco vissuto pochi anni dopo la morte di Carlo Magno ci rendiamo conto del modo in cui la potenza guerriera di Carlo era passata nella memoria dei suoi popoli. Nella Delchi il Manzoni ci racconta la morte eroica del principe Longobardo. Quando Carlo conquista Pavia e sarebbe disposto a fare grazia della vita, sia a desiderio sia a suo figlio, ebbene in realtà Delchi sotto l'onta della disfatta ha voluto farsi uccidere, ricompare sulla scena Moribondo e insomma con una grande uscita da eroe romantico muore sulla scena. Anche questa storia il Manzoni l'ha inventata completamente. In realtà, tanto per cominciare, Delchi non si era chiuso in Pavia insieme al padre ma si era rifugiato più indietro in un'altra fortezza, Verona. E quando il regno Longobardo crolla definitivamente, Delchi non si fa affatto uccidere sul campo, ma fa qualcosa di molto diverso. Cerca scampo in quello che all'epoca era il paradiso dei profughi, dei guerrieri diseredati e in cerca di fortuna, a Costantinopoli. A Costantinopoli l'imperatore bizantino manteneva una guardia formata da guerrieri germanici e chiunque sapesse battersi sapeva che lì avrebbe trovato uno stipendio e un ingaggio. Poi naturalmente Delchi non va soltanto a Costantinopoli a fare il mercenario. Delchi è pur sempre il principe Longobardo che è stato spodestato da Carlo Magno e quindi è una carta che politicamente può essere molto rilevante, che può essere utile da giocare anche per l'imperatore bizantino. Noi sappiamo che Delchi viene accolto a Costantinopoli con tutti gli onori e che a un certo momento l'imperatore bizantino pensa seriamente di usarlo contro Carlo Magno per fare ribellare l'Italia contro Carlo Magno. I Longobardi del Sud, i Longobardi di Benevento non erano stati completamente sottomessi da Carlo Magno e a un certo punto noi sappiamo che a Delchi venne fatto sbarcare nell'Italia meridionale proprio con l'idea di fare ribellare i Longobardi italiani contro Carlo, contro questa nuova dominazione franca. In realtà poi risulta che i Longobardi si guardarono bene dall'insorgere e quindi questa avventura di a Delchi finì ingloriosamente. Dopodiché davvero perdiamo le sue tracce, probabilmente è morto facendo il pensionato di lusso a Costantinopoli. Però anche su a Delchi la memoria collettiva della gente del tempo ha conservato un racconto, un racconto che è affascinante almeno quanto quelli inventati dal Manzoni. Racconta un cronista che a Delchi un giorno tornò in incognito in quello che era stato il suo regno. Entrò travestito nella sua capitale, Pavia, dove adesso sedeva Carlo Magno. Entrò nel palazzo, si introdusse nella sala dove Carlo Magno banchettava e insieme a tutta la folla di Franchi e Longobardi si sedette a tavola e mangiò. Dunque Carlo banchetta nel palazzo conquistato, il principe Longobardo travestito in incognito è lì, mangia e siccome è un principe mangia più di tutti gli altri. Sotto il suo posto si accumulano le ossa della selvaggina che ha divorato. Quando poi il banchetto è finito, a Delchi è scomparso, se n'è tornato chissà dove e Carlo Magno si accorge di questo enorme mucchio di ossa che è rimasto sotto il tavolo e si rende conto che soltanto un principe può avere mangiato così tanto. Allora in quel momento Carlo Magno si rende conto che Adelchi è stato lì di nascosto e lo ha beffato. Ecco questo è il modo in cui un cronista non molto tempo dopo inventava, ricamava su quella che era stata in realtà la grande tragedia dell'epoca, cioè il crollo improvviso e catastrofico del regno Longobardo di fronte all'offensiva dei franchi di Carlo Magno. La caduta del regno Longobardo fu certamente un evento traumatico, magari non tanto per quei duchi che si erano affrettati a tradire il loro re ed erano subito passati dalla parte del vincitore, piuttosto per la gente comune. Dobbiamo sempre tenere presente che questo era un mondo povero, era un mondo dove la gente viveva comunque in condizioni di sussistenza e quindi una guerra, un'invasione era sufficiente per gettare nella miseria intere regioni. C'è un documento, un documento privato che fu redatto appena un mese prima della resa di Pavia in una fortezza dell'Appennino Emiliano ancora non occupata dai franchi. Questo documento si apre con una formula senza precedenti che testimonia il senso di catastrofe che si era impadronito della gente. Questo documento anziché essere datato come al solito è datato in questo modo, nel nome di Cristo, carta scritta in un periodo di barbari avvenimenti. Ecco i barbari avvenimenti, cioè la calata dell'esercito franco in Italia, con tutte le devastazioni e i massacri che questo ha comportato, sono ben tangibili, ben riconoscibili nelle fonti dell'epoca. Noi sappiamo da una serie di indicazioni, per esempio da una lettera del Papa Adriano, che la guerra si era lasciata dietro a uno strascico tale di fame e di miseria che il traffico degli schiavi era improvvisamente aumentato. Molti Longobardi vendevano i loro schiavi, vendevano i loro stessi familiari, al limite vendevano se stessi in schiavitù perché non avevano più niente da mangiare. Siccome il traffico degli schiavi era permesso, ma non di schiavi cristiani, il Papa giustamente si inquietava per questa cosa. C'è proprio una sua richiesta di intervento presso Carlo Magno perché faccia qualcosa, perché risulta che i Longobardi si vendono ed è pieno di mercanti greci che approdano con le loro navi e sono pronti a imbarcare questa gente per portarla all'estero. Carlo Magno effettivamente intervenne. È molto importante ed è proprio collocato in questo momento il primo intervento legislativo di Carlo Magno per l'Italia conquistata. È una legge estremamente significativa che più o meno dice questo. Il re è informato che laddove è passato il suo esercito, con le devastazioni conseguenti, molta gente è stata costretta a vendere la sua terra, è rimasta in miseria. Molti addirittura costretti dalla fame si sono venduti in schiavitù. Molti hanno regalato le loro proprietà alla Chiesa, sperando che almeno la Chiesa potesse mantenerli. Ecco, questo è il quadro delle devastazioni che hanno seguito la guerra, ma altrettanto interessante è l'intervento legislativo con cui Carlo Magno decide di riportare l'ordine, di rimettere in ordine questo regno italiano che ha conquistato. Carlo Magno stabilisce che tutte le vendite di persone o di terre fatte dal momento della conquista siano annullate da autorità. Si deve fare un'inchiesta su ogni vendita. Ogni volta che risulta che il venditore ha venduto spinto dalla fame, la vendita è cassata e i relativi atti devono essere stracciati. E per ogni vendita bisogna che una commissione di inchiesta calcoli il prezzo e si accerti che il prezzo fosse giusto. Tutte le dedizioni in schiavitù sono automaticamente annullate. Ecco, questo è come dire, certo, Carlo Magno stesso era il responsabile di questa miseria, di questa fame, ma è indicativo che dopo la conquista immediatamente l'ordine del giorno cambia. Dopo la conquista l'ordine del giorno è rimettere in piedi questo paese conquistato, riportare la pace, riguadagnare in qualche misura il consenso della gente. E anche in questo appunto si vede in realtà la grandezza del politico Carlo Magno, che non è soltanto un generale, ma è anche uno che sa poi governare i popoli che ha sottomesso. Il modo in cui Carlo Magno organizza l'Italia conquistata a partire dal 774 è estremamente indicativo delle idee politiche di Carlo Magno ed è anche qualche cosa che ha poi influito in modo notevole sul futuro dell'Italia, quindi vale la pena di parlare. Carlo Magno aveva sottomesso e conquistato il regno Longobardo. Potremmo aspettarci che questo regno fosse abolito, dissolto, che l'Italia fosse semplicemente annessa al regno franco. Invece questo non succede. Carlo Magno fa qualche cosa di completamente diverso. In buona sostanza Carlo Magno dice io ho sconfitto il re dei Longobardi, Desiderio, che era un traditore, un malvagio, un nemico della fede, ma se volessimo parafrasare in modo moderno questo discorso, in fondo il messaggio che Carlo Magno sta lanciando è io non ce l'ho con il popolo Longobardo. Tant'è vero che quando è padrone dell'Italia Longobarda Carlo Magno si fa incoronare lui stesso, re dei Longobardi. In altre parole il regno Longobardo non viene sciolto. Tutta la sua struttura amministrativa, elementare si capisce, i regni di quest'epoca sono strutture molto semplici, terra terra, però comunque esistono. Hanno leggi, consuetudini, un minimo di sistema fiscale, un apparato di amministrazione dislocato sul territorio. Ebbene tutto questo non viene abolito. Il regno Longobardo continua a esistere, continua a funzionare. Semplicemente ha un nuovo re, Carlo. Quindi Carlo Magno a partire da questo momento sarà re di due popoli, re dei Franchi e re dei Longobardi. E devo dire che questa politica di Carlo Magno sostanzialmente ha successo. Magari non tanto con le élite Longobarde, perché i ricchi e i potenti Longobardi ogni tanto si ribellano, ci vorranno diversi interventi di Carlo Magno per liquidare certe frange poco affezionate. E in parte l'aristocrazia Longobarda alla lunga viene effettivamente sostituita con gente nuova, con franchi che vengono importati da oltre le Alpi. Ma il grosso del popolo Longobardo viene lasciato tranquillo, continua a vivere secondo le sue leggi, continua a pagare le tasse e a prestare servizio militare al re Longobardo. Semplicemente questo re non è più desiderio, ma è Carlo. E va detto che sostanzialmente i Longobardi si adeguano a questa nuova situazione. Le guerre successive di Carlo Magno sono spesso combattute con l'intervento di contingenti armati Longobardi che combattono per lui, senza la minima difficoltà. Ancor meglio quando a un certo punto Carlo Magno si trova ad avere un figlio adulto e lo manda a governare il regno Longobardo al suo posto. Uno dei figli di Carlo Magno, argomento questo dei figli di cui parleremo a lungo più avanti, uno dei figli di Carlo Magno, Pipino, a un certo punto viene nominato re dei Longobardi nel quadro complessivo dell'impero. E quindi i Longobardi sanno di essere ancora sempre un popolo, di avere il loro regno. E questo certamente serve a conquistarli alla causa dei conquistatori. È anche interessante vedere che lentamente la vecchia espressione regno dei Longobardi lascia il posto a una nuova espressione. Si comincia a parlare di regno d'Italia o di regno italico. Ed è per questo che poi, chi si ricorda qualcosa della vecchia storia medievale studiata a scuola, nell'epoca successiva a Carlo Magno incontriamo questi strani personaggi, i re d'Italia, Berengario, Arduino di Vrea, intorno al mille. Ecco, questi possono essere re d'Italia perché esiste in qualche modo un concetto politico di Italia all'interno dell'impero di Carlo Magno. Certo è un'Italia limitata, tutto il mezzogiorno è ancora in mani bizantine, ma quel che c'è, il centro nord, è un'entità politica riconosciuta come tale. E questo evidentemente nella storia d'Italia è una cosa che ha contato. Bene, per oggi è tutto, ci risentiamo lunedì prossimo. Qual era l'aspetto fisico di Carlo Magno? Lasciamo parlare a Eginardo, che lo conobbe personalmente e che dopo la sua morte scrisse la biografia più importante che noi abbiamo oggi su Carlo Magno. Eginardo scrive, era di taglia grossa e robusta, di statura alta ma non eccezionale, giacché misurava sette piedi di altezza. Ecco, questa è già una prima cosa su cui viene voglia di fermarsi. Cosa diavolo vuol dire sette piedi di altezza? Beh, il piede che usavano loro era ancora l'antico piede romano e sette piedi vuol dire un metro e novanta. A prima vista restiamo un po' sorpresi, anche perché siamo abituati a pensare che la gente del Medioevo fosse un po' più bassa di noi. E invece ecco che Eginardo ci dice che Carlo Magno era alto un metro e novanta e ci dice anche che non era poi una statura così eccezionale. Ora, in realtà è vero che questi germani erano molto alti. I romani, che erano gente mediterranea e tracagnotta, erano molto colpiti dall'altezza dei barbari. E in effetti sette piedi è la misura che spesso anche i cronisti antichi attribuiscono ai germani. Detto questo, noi potremmo anche pensare che Eginardo magari stesse un po' esagerando. E invece anche questo è uno di quei casi in cui la ricerca moderna ha confermato quello che diceva l'autore medievale. Nell'Ottocento a un certo punto gli scienziati sono andati a aprire la tomba di Carlo Magno ad Acquisgrana, hanno tirato fuori lo scheletro e l'hanno misurato. Ed era davvero alto un metro e novantadue. Oltre a questo Eginardo ci dice che aveva la testa rotonda, gli occhi molto grandi e vivaci, il naso appena più grosso del normale, i capelli bianchi ma ancora belli, Eginardo l'aveva conosciuto quando era già vecchio, l'espressione allegra e ridente, il collo corto e grasso, il ventre è un po' sporgente. La voce chiara ma un po' troppo sottile per la sua stazza. Ecco, questo è uno di quei particolari che ci fanno capire, o almeno che ci fanno pensare che siamo di fronte alla verità. Perché Eginardo, che sta costruendo un ritratto ideale del suo padrone, non ci avrebbe detto questa cosa se non fosse vera. Quindi questo colosso, alto un metro e novanta, grande e grosso, con anche un po' di pancetta, aveva una vocina un pochino effeminata, ma insomma pazienza. Abbiamo modo di confermare questo ritratto magari con qualche immagine, non è che nell'alto medioevo ci siano tanti ritratti della gente. Di Carlo Magno però qualche cosa abbiamo. Abbiamo per esempio le monete. Ogni re dell'epoca si faceva rappresentare sulle sue monete, in modo che tutti i sudditi, quando avevano in mano un pezzetto d'argento, sapessero che quel pezzetto d'argento era garantito personalmente dal re. E sulle monete di Carlo Magno, l'effigie che troviamo, c'è poco da fare, è quella. È un uomo corpulento, col collo grasso, taurino, i capelli tagliati corti sulle orecchie, i baffoni spioventi, insomma è sicuramente il Carlo Magno che ci rappresenta Eginardo. Baffoni quindi, non c'entra niente quell'iconografia più tarda a cui tutti siamo abituati, del Carlo Magno con una gran barba bianca. I franchi non portavano la barba e quella era un'epoca poco individualista. La gente seguiva le abitudini del suo popolo. I franchi avevano il mento rasato, tant'è vero che quando Carlo Magno sconfigge il duca Longobardo di Benevento, negli articoli del Trattato di Pace ci mette anche questo, che il duca dovrà farsi tagliare la barba e radere il mento all'uso franco, a dimostrare la sua sottomissione. Invece l'uso franco prevedeva i baffoni e non c'è dubbio che appunto di questi mustacchi Carlo Magno avesse un gran bel paio. Che lingua parlava Carlo Magno? Anche questo è un problema che bisogna porsi. I franchi anticamente parlavano un loro dialetto germanico di cui non sappiamo moltissimo, ma insomma si rende l'idea se si dice che il discendente diretto è l'olandese. Però i franchi da molto tempo erano distribuiti anche in mezzo ai romani della Gallia e gran parte dei franchi parlavano ormai una lingua romanza, come dicono i filologi, cioè in sostanza un dialetto del latino, l'antenato del francese odierno. I franchi quindi erano spaccati, una parte parlava in lingua germanica, una parte parlava in lingua neolatina. Ed è proprio in quest'epoca che nasce il concetto, che poi è destinato a avere successo nel mondo moderno, di tedesco, di lingua tedesca. Le prime testimonianze sono proprio di quest'epoca. Il dialetto germanico di quei franchi che sono rimasti più a nord e parlano ancora l'antica lingua, nelle fonti del tempo di Carlo Magno è chiamato lingua teodisca. E questo era certamente il dialetto di Carlo Magno, la lingua materna voglio dire. Ci sono alcuni casi in cui lo stesso Carlo Magno, nelle sue leggi, cita delle espressioni in lingua germanica e le commenta proprio in questo modo, con la frase come noi diciamo in lingua tedesca. Quindi da questo punto di vista sarebbero stati contenti gli storici tedeschi dell'Ottocento, insomma, alla fin fine parlava in lingua germanica. Ma questa è soltanto una piccola parte del patrimonio linguistico di cui un Carlo Magno doveva disporre. Tanto per cominciare qualunque re di quest'epoca parlava latino. Parlava latino perché il latino era l'inglese dell'epoca, era la lingua internazionale, era l'unica lingua scritta. Chiunque volesse scrivere qualche cosa o leggere qualche cosa doveva sapere il latino. Tutte le lettere, tutti gli atti di governo, tutte le leggi sono scritte in latino. E quindi certamente Carlo Magno aveva imparato il latino e in latino poteva conversare con intellettuali che venivano dai quattro angoli d'Europa, perché alla sua corte si trovano intellettuali longobardi, intellettuali anglosassoni. Tutti costori avranno anche imparato il franco, ma in latino potevano parlare fin dal primo giorno con loro re. Una versione più plebea del latino, una versione dialettale, era quella che parlavano i franchi della Gallia. E sicuramente Carlo Magno, re dei franchi, doveva essere in grado di discorrere con tutti i suoi sudditi. Quindi non c'è dubbio che oltre al latino dotto, quello che serviva per parlare con gli ambasciatori dei papi, Carlo Magno sapeva anche parlare il dialettaccio della gente, quello che era l'antenato del francese moderno. E poi non basta, c'era ancora un'altra lingua internazionale dell'epoca, difficile, maledettamente difficile, ma senza non si poteva stare, il greco. Cioè naturalmente tutti quanti ne facevano a meno benissimo, ma non il re, non il re che doveva ricevere spesso ambasciatori bizantini, che doveva gestire una politica estera complicata con l'impero di Costantinopoli, e che difficilmente poteva accontentarsi degli interpreti. Per certe questioni era importante che potesse discutere personalmente con gli ambasciatori. E Ginardo ci dice che Carlo Magno si impegnò molto seriamente per imparare il greco. Ci dice anche Ginardo che non lo imparò mai proprio bene bene, non si azzardava troppo a parlarlo in pubblico, ma certamente lo capiva, certamente era in grado di verificare, quando arrivavano gli ambasciatori bizantini, se le traduzioni degli interpreti funzionavano o se invece lo stavano menando per il naso. Ecco quindi un aspetto che se vogliamo è facile dimenticare, che invece è importante essere un politico, anche a quell'epoca, significava saper padroneggiare le lingue straniere. E più uno le padroneggiava, più la sua politica poteva essere poi efficace. Come si vestiva Carlo Magno? Ecco bisogna pensare che questa è un'epoca in cui ogni popolo, così come aveva il suo modo di tagliarsi i capelli, i baffi, la barba, allo stesso modo ogni popolo era reso immediatamente riconoscibile dal modo di vestirsi. Ripetiamolo, questa non era un'epoca individualista, questa era gente che aveva molto forte il senso dell'identità etnica, dell'appartenenza a un popolo, che doveva essere immediatamente visibile anche nell'abbigliamento. E quindi Carlo Magno si vestiva alla maniera franca e i cronisti questo lo sottolineano. Ma in cosa consisteva poi il modo franco di vestirsi? Noi abbiamo una descrizione incantevole di Carlo Magno che si alza all'alba per andare a sentire il mattutino in chiesa e che si mette soltanto la biancheria, mutande e camicia. Questo peraltro non era una raffinatezza da re, tutti all'epoca portavano la biancheria, è una leggenda il fatto che le mutande siano state inventate molto tardi. Sopra la biancheria Carlo Magno si metteva una lunga cappa, lunga fino ai piedi, e così se ne andava in chiesa a sentire il mattutino. Poi tornava e finiva di vestirsi. L'abbigliamento complessivamente comprendeva essenzialmente un capo di abbigliamento fondamentale, la tunica, una tunica fino alle ginocchia che si stringeva alla vita con una cintura e che era praticamente uguale per tutti. Questa era un'epoca non democratica, ma egualitaria sì, perché erano tutti abbastanza poveri. Anche il lusso che poteva concedersi il re non era poi qualcosa di straordinario. Quindi anche il re si vestiva come gli altri. Certamente la sua tunica sarà stata di tessuto migliore, più pregiato, magari di seta importata dall'Oriente, la cintura sarà stata magari ornata d'oro, ma alla fine sempre quello era. Portavano i calzoni, che erano come sappiamo un'invenzione dei germani, gli antichi romani non li usavano i calzoni, però potevano anche non metterli volendo, perché la tunica appunto arrivava fino alle ginocchia. Portavano le calze, che spesso avevano una suola di cuoio e quindi sostituivano anche le scarpe. Quando faceva freddo, un pellicciotto. E ci dice Eginardo, Carlo Magno aveva pellicciotti di lontra, di agnello e di ratto. E anche questo è straordinario. Il padrone di mezza Europa che si fa fare una pelliccia di pelli di topo. Anche questo ci dà il senso della fondamentale povertà materiale di questo mondo. E poi naturalmente c'era la lunga cappa, la cappa lunga fino ai piedi, che Carlo Magno prediligeva. Questa cappa lunga fino ai piedi colpì i contemporanei per un motivo molto preciso e molto semplice, che era un capo di abbigliamento fuori moda. E però Carlo Magno, che era uno che faceva di testa sua in generale, continuò sempre a usarla e non solo. Quando si accorse che la moda stava cambiando e che in giro si vedevano dei mantelli delle cappe più corti, ebbene Carlo Magno trovò che quella era una pessima cosa. Questa novità non gli piaceva per niente. Introdusse addirittura una legislazione per scoraggiare i commercianti dal mettere in vendita cappe troppo corte. E giustificò questa cosa in un modo che è molto indicativo della personalità di Carlo Magno. Carlo Magno era un uomo sanguigno, sensuale, ne riparleremo, che cadeva spesso anche nella volgarità. E nel caso della cappa risulta che affermò chiaramente che le cappe dovevano essere lunghe. Altrimenti quando uno si apparta fuori in campagna per un bisogno c'è da gelarsi i piedi se la cappa è troppo corta. E su questo pretesto intervenne per vietare che i mantelli in vendita nel suo regno fossero troppo corti. Solo due volte in vita sua Carlo Magno fu convinto, faticosamente, a non vestirsi alla moda franca. Sono le due volte in cui andò in visita ufficiale a Roma e i papi, i suoi alleati, lo pregarono di vestirsi all'uso romano, visto che dopotutto era pur sempre l'imperatore romano e sembrava una cosa sgradevole che si facesse vedere in giro per la città eterna abbigliato come un capo barbaro. Come si svolgeva la giornata di Carlo Magno? Oggi le nostre giornate sono scandite soprattutto dai pasti. In realtà all'epoca si faceva un unico pasto principale, quello che gli antichi romani chiamavano la cena e che si svolgeva in realtà all'inizio del pomeriggio. Non era questo che scandiva la giornata di Carlo Magno. La sua giornata era determinata in modo molto più importante dai servizi liturgici. E questo è un aspetto che rischiamo di dimenticare pensando a questo re guerriero, cacciatore, sensuale, spesso violento. In realtà Carlo Magno era al tempo stesso un personaggio sacro. Era il re unto con l'olio santo e che doveva fare da tramite fra il suo popolo e Dio. E come tale aveva il dovere di colloquiare con Dio regolarmente, quotidianamente. Carlo Magno si svegliava come i monaci estate e inverno all'alba. Si vestiva alla belle meglio, come abbiamo appena detto, e protetto dalla sua lunga cappa andava in chiesa a sentire il primo servizio del mattino, il mattutino. Soltanto dopo questo primo servizio, che poteva essere anche molto lungo e impegnativo, tornava in camera e davanti al fuoco, sera e inverno, si vestiva. A quel punto era già completamente sveglio, forse avrà sonnecchiato un po' durante il mattutino, ma mentre si vestiva era già in piena attività. E Ginardo ci riferisce espressamente che spesso il re ascoltava i ministri, prendeva decisioni, a volte addirittura decideva delle cause mentre si stava vestendo. Era uno di quegli uomini evidentemente che una volta che si sono messi in moto hanno voglia di andare avanti e di lavorare. Lavorava molto. Noi di nuovo pensiamo a volte che un re barbaro passasse il suo tempo tra gozzoviglie e festini. C'era anche questo, ma Carlo Magno doveva lavorare. Lavorava parecchio e lavorava tutta la mattina praticamente, finché non andava a sentire messa. Di nuovo, questo aspetto, questa alternanza fra l'attività politica e il colloquio con Dio, che sono due aspetti, tutte e due indispensabili per il re. La messa normalmente concludeva la mattinata che era la parte più lunga della giornata. Non sappiamo se nel frattempo trovava il tempo di fare colazione. Questo è uno degli aspetti della vita quotidiana più ovvi che per il passato lontano ci sfuggono. Facevano colazione e cosa mangiavano? Naturalmente il caffè non c'era, non c'era il tè, non c'era la cioccolata. Alcune fonti parlano di pane inzuppato nel vino. O forse avrà mangiato una buona minestra, come facevano i nostri contadini ancora fino a non molto tempo fa. Probabilmente quello era il breakfast, il modo per rompere il digiuno di una lunga mattinata. Poi la messa e dopo la messa finalmente il pasto, il pasto principale. Questi pasti alla corte di Carlo Magno erano dei momenti impegnativi. Non che esistesse un'etichetta vera e propria, come ci sarà poi alla corte del re Sole molti secoli dopo, ma insomma una certa etichetta in realtà c'era. Il re mangiava da solo, servito da personaggi importanti, da vescovi o conti del suo regno. Quando lui aveva mangiato si mettevano a tavola tutti i potenti, quando anche loro avevano finito si metteva a mangiare la gente normale della corte e quando anche la gente normale aveva finito si mettevano a tavola i domestici, gli sguatteri. Un giorno Carlo Magno fu rimproverato da un vescovo che gli disse non ho capito perché in tempo di quaresima quando le regole dicono che bisogna cominciare a mangiare solo quando fa buio, tu cominci a mangiare già prima. Carlo Magno gli disse non hai capito? Allora d'ora in poi tu mangerai insieme ai domestici con l'ultimo servizio e il vescovo si rese conto molto rapidamente che i domestici si mettevano a tavola a notte fonda, solo dopo che tutti gli altri avevano mangiato e quindi era una forma di cortesia, di umanità da parte del re decidere che si cominciasse a andare a tavola un po' prima dell'ora stabilita. A Carlo Magno piaceva molto mangiare, bere, beveva ma Eginardo assicura che non si ubriacava, la cosa dire il vero è un po' strana per un barbaro e potremmo anche essere tentati di non crederci. Quanto al mangiare non era soltanto un piacere, era quasi un dovere per un re. I re dovevano essere alla testa del loro popolo anche dal punto di vista della carnalità, della presenza fisica. Un re doveva andare a caccia, doveva far fuori molta selvaggina e poi doveva mangiarsela e in questo modo i guerrieri avrebbero saputo che alla loro testa c'era un uomo che meritava di comandarli. Infatti Carlo Magno era un grande mangiatore di arrosti e può anche darsi che l'alta statura di questi capi germanici dipendesse proprio dal fatto che erano allevati fin da bambini con questo tipo di dieta. Gli arrosti per Carlo Magno diventano a un certo punto un problema quando in vecchiaia i medici cominciano a pensare che forse non gli faccia tanto bene questo regime, ma su questo il suo biografo Eginardo è esplicito. Faceva di testa sua e non stava a sentire i medici, anzi li detestava perché volevano convincerlo a rinunciare agli arrosti per accontentarsi dei bolliti. Un altro problema per questo tipo di dieta è che in quest'epoca i divieti religiosi dal punto di vista alimentare erano presi molto sul serio. La quaresima era rispettata sul serio e non solo. Tutte le settimane, il venerdì e il sabato, il cristiano doveva astenersi dalla carne. Carlo Magno lo faceva, doveva dare il buon esempio, ma certamente cipativa. Il piatto che preferiva in assoluto era la cacciagione allo spiedo e possiamo immaginare anche nel suo caso la quantità di ossa che si accumulavano sotto il tavolo. Il pasto era anche un'occasione in qualche modo intellettuale perché mentre il re mangiava si leggevano antiche storie, si raccontavano le imprese dei suoi antenati, ecclesiastici leggevano libri morali, Sant'Agostino per esempio. Almeno questa è la versione ufficiale. Poi abbiamo anche aneddoti che ci ricordano le canzoni conviviali e magari anche le barzellette spinte con cui ci si divertiva durante i banchetti. d'estate mangiata la frutta, beveva un ultimo bicchiere e poi aveva l'abitudine di farsi una sana e lunga siesta. Si svestiva, andava a letto e dormiva anche due o tre ore e poi si risvegliava pronto a ricominciare. L'etichetta non era rigorosa, i franchi si facevano beffe di popoli di più antica civiltà come i bizantini alla cui corte si osservavano regole molto precise, correvano addirittura barzellette sull'assurdità dell'etichetta dei pasti bizantini. Però anche Carlo Magno comunque sapeva che il modo di stare a tavola contava e si aspettava che anche nelle grandi occasioni conviviali tutti dimostrassero nei suoi confronti il giusto rispetto. Abbiamo già detto che di solito pranzava da solo, a volte capitava che potesse invitare alla sua tavola come segno di particolare favore alcuni dei suoi collaboratori o qualche ecclesiastico di riguardo o ambasciatori stranieri e anche in questi casi però appunto Carlo Magno che era uno a volte abbastanza suscettibile a cui saltava la mosca al naso stava ben attento a che le forme fossero osservate. Si racconta che una volta invitò a pranzo un vescovo e che il vescovo cominciando a mangiare benedì una pagnotta, poi la prese, se ne tagliò una fetta e solo a quel punto offrì la pagnotta all'imperatore. Carlo rimase piccato, gliela restituì e gli disse mangiatela pure tutta. Parlando di un uomo che è vissuto 1200 anni fa è molto difficile pretendere di sapere quale fosse il suo carattere. Però Carlo è uno di quei personaggi che ci sono rappresentati in modo così colorito che quasi abbiamo l'impressione di immaginare davvero invece che tipi erano. Carlo Magno certamente era un uomo sanguigno, sensuale, che si lasciava andare volentieri, molto sicuro di sé, con un grande senso pratico, capacità d'azione, amore per il piacere fisico, ma anche una tendenza per esempio a deprimersi nella solitudine. Carlo Magno era certamente uno che non sapeva stare da solo. Su questo i contemporanei insistono molto. Intorno all'imperatore c'è sempre folla, c'è sempre gente, c'è sempre frastuono e lui è l'unico che sembra tranquillo e che non perde la testa in questa situazione. Non voleva mai stare solo, voleva sempre avere per esempio i figli, le figlie specialmente con sé. Amava essere circondato di gente anche in situazioni disparate, per esempio Carlo Magno che amava moltissimo le acque termali, le piscine, che ha scelto di andare a vivere ad Aquisgrana in vecchiaia perché lì c'era una fonte termale che prediligeva. Ebbene Carlo Magno andava in piscina insieme a un sacco di gente. Ci sono lettere del suo consigliere Alcuino che raccontano di come certe volte si mettevano a discutere di teologia standosene a bagno in piscina e certe volte l'imperatore ordinava che anche tutte le guardie del corpo scendessero giù nell'acqua. Per cui c'era un'occasione in cui c'erano cento persone insieme che facevano il bagno. Era dunque un carattere da un certo punto di vista aperto, solare, anche aperto alle spacconate naturalmente. Un giorno riflettendo sul fatto che il suo impero era separato dall'impero bizantino soltanto dal mare avrebbe detto se non ci fosse questa pozzanghera allora sì che potremmo spartirci i tesori dell'Oriente. Era molto convinto delle sue qualità e era sensibile all'adulazione. Uno dei suoi poeti Teodulfo scrisse che le doti di Carlo Magno erano più vaste del bacino del Nilo, più grandi del Danubio e delle Eufrate, maestose quanto il Gange. Ma non risulta che Carlo si sia dispiaciuto. Un'altra volta, questo lo racconta Alcuino, uno dei suoi amici più intimi, uno dei suoi uomini di fiducia, Carlo Magno riflettendo sui grandi santi del passato, di cui sentiva appunto leggere le opere mentre mangiava, si sarebbe fatto scappare un'esclamazione di questo genere. Se potessi avere anche solo una dozzina di chierici dotti come Sant'Agostino e San Gerolamo, al che Alcuino gli replicò prontamente, ma come? Perfino Dio ne ha soltanto due di quel livello e tu ne vorresti una dozzina. Certamente era comunque un uomo che sapeva stare allo scherzo. I suoi scambi di battute, di barzellette, di poesie con gli intellettuali della sua cerchia, da questo punto di vista sono molto indicativi. Questi erano uomini che erano pronti adularlo spudoratamente, ma che all'occasione vivevano anche con lui appunto su un piede di amicizia e di scherzo. Una volta Alcuino, per fargli fare bella figura, gli chiese chiarimenti su una certa questione di calendario liturgico, faccende oggi dimenticate ma che per la gente dell'epoca erano importanti. Carlo Magno naturalmente ne sapeva poco, ma si fece scrivere una bella risposta da qualche ecclesiastico e la spedia dal Cuino firmata da lui. Alcuino trovò che la risposta era completamente sbagliata e scrisse a Carlo Magno dicendo che non solo non ne sapeva niente, ma che doveva anche imparare a copiare da qualcuno che almeno fosse un po' più bravo. E anche in questo caso non risulta che Carlo Magno si sia offeso. Non era sempre solare il carattere di Carlo Magno. Di lui sono ricordati anche gli scoppi d'ira improvvisi, i momenti di brutalità, anche i momenti di crudeltà sanguinaria, certe volte calcolata da quel politico che era, certe volte invece probabilmente sfuggiti al controllo nei momenti veramente di irritazione estrema. I suoi cronisti naturalmente sono reticenti su questo, ma non c'è dubbio che in certi momenti, specialmente in guerra, Carlo Magno trascendeva. E anche nella vita privata ci sono testimonianze di questa sua mancanza di freni, che è anche questo un tratto che rientra in modo abbastanza coerente, credo, nel carattere dell'uomo. Ci sono aneddoti ripetuti su questo. Non saranno tutti veri, anzi, per carità, lo storico rigoroso dovrebbe dire che probabilmente quasi tutti gli aneddoti che noi sentiamo raccontare su Carlo Magno possono anche essere inventati. Però quello che conta qui è che circolavano, che quella era l'immagine che la gente si faceva dell'imperatore. E allora appunto in questi aneddoti emerge spesso anche proprio la brutalità dell'uomo. C'è quell'aneddoto per esempio per cui un giorno Carlo, stava ascoltando il servizio liturgico in compagnia di un vescovo. Ora il servizio liturgico a quell'epoca, che fosse la messa, che fosse il mattutino, i vespri, era sempre una liturgia complessa, gestita da un gran numero di ecclesiastici che cantavano. Era uno spettacolo a suo modo e infatti il valore di un uomo di chiesa si misurava anche da questo, dal fatto che sapesse cantare bene. Ebbene, ascoltando questa messa, a un certo punto Carlo Magno dà una gomitata al vescovo che gli sta seduto vicino e gli fa notare che uno dei chierici canta particolarmente bene, ha una bellissima voce. Il vescovo non sapeva che quel chierico era un parente della regina e quindi scherzosamente risponde ma a me non sembra mica tanto che abbia una bella voce, ho sentito dei contadini che strillano così quando pungolano i buoi dietro l'aratro, al che l'imperatore per tutta risposta gli dà un pugno che lo sbatte per terra. Appunto, sarà una storiella apocrifa, ma è significativo che fosse in circolo e che a metterla in circolo sia anzi un autore che voleva creare un panegirico di Carlo Magno. Altre volte aneddoti di questo genere ci mostrano quella volgarità di Carlo Magno, che già abbiamo avuto occasione di ricordare, e che ugualmente faceva parte integrante del personaggio, che di freni inibitori non ne aveva tanti. Una volta un suo ambasciatore, che era stato a Costantinopoli, tornò e riferì il suo colloquio col Basileus, con l'imperatore d'Oriente. L'imperatore d'Oriente si era informato di come andava la guerra di Carlo Magno con i Sassoni e questa guerra non andava tanto bene. E l'imperatore d'Oriente aveva detto, ah mi dispiace molto che il mio caro figlio debba avere tante difficoltà. Già in questo modo di rivolgersi a Carlo Magno, chiamandolo il mio caro figlio, ce n'era abbastanza per far saltare la mosca al naso a uno come Carlo. Dopodiché l'ambasciatore continua il suo racconto. L'imperatore d'Oriente ha detto che in fondo questa guerra contro i Sassoni non dovrebbe essere tanto difficile da vincere. In fondo questi Sassoni chi sono? Quattro disgraziati, un popolo insignificante, è assurdo che Carlo non riesca a sconfiggerli. Anzi, dice l'imperatore bizantino, rivolto all'ambasciatore franco stupefatto. Questi Sassoni veramente sono quattro gatti, guarda, te li regalo. In questo si legge, come dire, quella sicumera che i franchi rimproveravano agli imperatori d'Oriente che continuavano a comportarsi come se fossero i padroni del mondo. Ma a noi interessa qui piuttosto la risposta attribuita a Carlo Magno, che ha un suono inconfondibilmente autentico nella sua volgarità. Avrebbe fatto meglio a regalarti un paio di mutande per il viaggio. Quest'uomo sanguigno, goloso, volentieri brutale, mangione, spesso volgare, amava circondarsi di poeti. Tutti i collaboratori più stretti che Carlo Magno chiama alla sua corte e di cui fa spesso dei ministri, dei consiglieri, oltre a occuparsi di politica, per esempio della sua politica culturale, si occupano di poesia, scrivono poesie. E Carlo Magno è compiaciuto di questa attività che fiorisce intorno a lui e lui stesso partecipa a questa cosa. Ecco, questo è un aspetto di nuovo curioso perché ci fa vedere questo mondo intermedio fra una cultura barbarica e lo sforzo di assimilare la cultura classica, la cultura del mondo romano, che rimane un modello inimitabile, per cui un re non può essere soltanto un rozzo guerriero, cacciatore, divoratore di arrosti, ma deve anche avere un suo profilo intellettuale. E questa cosa Carlo Magno la prendeva molto sul serio. Va detto che la poesia latina che si scriveva alla sua corte in genere è una poesia di ottima qualità. Noi siamo abituati a pensare al medioevo come un'epoca diversa rispetto all'antichità. Siamo abituati a pensare che la letteratura classica fosse finita, morta e che al massimo si potessero fare delle palide imitazioni, ma questa gente non la pensava così. Se c'era un termine che loro non possedevano era medioevo, se c'era una cosa che non sospettavano era di essere medievali. Loro sapevano di vivere in continuità col mondo antico. L'antico impero romano si era molto degradato, ma appunto Carlo Magno lo rimette in piedi. E dunque loro scrivevano poesia latina non con la sensazione di copiare gli antichi, ma si sentivano parte integrante di quella cultura. È per questo che la loro poesia è viva in realtà. Ci sono quadri della vita quotidiana di Carlo Magno che soltanto la poesia appunto potrebbe darci. Ce lo fanno vedere per esempio che torna a casa stanco dalla caccia e tutti i suoi figli e le sue figlie, ragazzini, che gli corrono incontro, le ragazzine che gli portano fiori e frutta, i maschi che gli prendono la spada, i guanti. Ecco, quadretti di questo genere, che altre fonti non ci darebbero perché i cronisti non si occupano di queste cose, vengono proprio da questa abitudine degli uomini che stavano intorno a Carlo Magno di scrivere poesia. E Carlo Magno stesso scriveva poesie. non le avrà scritte da solo, neanche quelle, sicuramente se le faceva correggere, si faceva aiutare, ma le scriveva. E questi suoi scambi poetici con i suoi collaboratori, di nuovo a volte ci danno degli squarci inattesi sugli umori, sugli scherzi, sul privato di questa gente. Ecco, sono il modo con cui noi possiamo vedere il re e i suoi ministri e vedere cosa c'era dietro lo sfondo, insomma, sostanzialmente, cosa c'era dietro l'apparenza della grande politica. Una volta, per esempio, Carlo Magno manda una poesia a uno dei suoi uomini di fiducia, Paolo Diacono, l'italiano, manda una poesia a Paolo Diacono in cui scherzosamente gli pone questa alternativa, gli dice dimmi un po' cosa preferiresti, o ti mando a convertire i danesi oppure ti metto in prigione. Dimmi quale delle due cose preferisci. I danesi naturalmente sono gli antenati dei vichinghi, cattivissimi barbari del nord, pagani, feroci, quindi la scelta non è facile, è uno scherzo naturalmente, ma allo scherzo bisogna saper stare. Paolo Diacono deve scrivere una risposta con cui cavarsela in qualche modo, e per non fare brutta figura di fronte a tutti. Paolo Diacono non è uno sciocco se la cava. Scrive la sua bella poesia in perfetti esametri latini e la manda all'imperatore. E in pratica in questa poesia gli dice ma io ci andrei molto volentieri a convertire i danesi, purtroppo non so la lingua. La più dura e la più lunga di tutte le guerre combattute da Carlo Magno fu quella contro i Sassoni, i pagani del nord. Carlo Magno marciò per la prima volta contro di loro nel 772, quando aveva 30 anni, e l'ultima grande deportazione in massa che conclude questa vicenda triste e sanguinosa, è dell'804, quando Carlo Magno di anni ne aveva ormai più di 60. Per 30 anni, praticamente per tutta la vita, Carlo Magno combatté per sottomettere i Sassoni. Come mai una guerra del genere? I Sassoni occupavano praticamente tutta la Germania del nord, fino al Mar Baltico e all'Elba, ed erano una grande popolazione ancora pagana. Questo dal punto di vista di Carlo Magno era decisivo. I Sassoni per il resto erano molto simili ai franchi, il livello di civiltà non era tanto diverso, la lingua era simile, ma il regno franco, lo sappiamo, era da sempre un regno cattolico che su questa identificazione con la fede cristiana costruiva la sua politica. Perciò sottomettere i Sassoni e cristianizzarli è uno degli obiettivi centrali di tutta l'attività politico-militare di Carlo Magno. Questo naturalmente significa anche, dal punto di vista delle conseguenze storiche, estendere l'impero, appunto, fino a occupare tutta l'Europa centrale. È un passo decisivo per la formazione dell'Europa come la conosciamo noi oggi. La guerra contro i Sassoni in realtà ha due tipi diversi di motivazioni. Quelle religiose, che sono quelle ufficiali, non sono le uniche. Avere un confine aperto con questo popolo pagano, come lo chiamavano loro, era un problema costante. I Sassoni a loro volta detestavano i loro vicini cristiani e la frontiera fra franchi e Sassoni non era segnata da montagne, da corsi d'acqua, era una frontiera aperta nel pieno della Germania centrale, un paese certo di foreste, di paludi, ma anche di pianure. E costantemente questa frontiera aperta era attraversata da razziatori, da banditi. Ma Carlo Magno, diversamente dai suoi predecessori, è uno che quando intraprende un'impresa la porta fino in fondo. Anzi, questa direi che è una delle caratteristiche più spiccate del Carlo Magno politico. La visione, la capacità di vedere complessivamente il punto d'arrivo e di non risparmiare gli sforzi per arrivarci. Carlo Magno non si accontenta di sottomettere i Sassoni, di convincerli a star buoni. Intende annetterli, occupare il loro paese, occupare il loro spazio. E questo lo può fare perché c'è la giustificazione ideologica rappresentata dal fatto di convertirli. Questi sono l'ultimo grande popolo germanico sul continente ancora pagano. Carlo Magno li convertirà, costruirà in mezzo a loro una chiesa cristiana, vedremo poi con quali sistemi. E questo significa che anche la sua guerra contro i Sassoni è una guerra benedetta da Dio. Un missionario germanico che operava in mezzo ai Sassoni, San Lebuino, di fronte alla loro ostinazione, al loro rifiuto di collaborare, a un certo punto gli disse proprio questo. Se non accetterete di credere in Dio, c'è un re nel paese vicino che entrerà nel vostro paese per conquistarlo e devastarlo. E visto che i Sassoni si ostinavano a non credere, quel re alla fine si mosse. La guerra di Carlo Magno contro i Sassoni fu una guerra durissima, atroce. Fu la guerra di conquista e di sottomissione di un popolo che a nessun costo voleva farsi sottomettere, che a nessun costo voleva rinunciare alle sue radici, alla sua identità religiosa. Fu una guerra condotta in profondità, con incursioni nel paese nemico rivolte a portare il terrore, a stroncare la resistenza con l'esempio. Fu una guerra di colonne franche che penetravano nel paese sassone in forze, con forze così schiaccianti che i Sassoni non potevano affrontarle in campo aperto e quindi ovunque i franchi arrivassero i capi sassoni erano costretti a sottomettersi, erano costretti a battezzarsi, a pagare il tributo e ovunque arrivavano i franchi costruivano fortificazioni, fortificazioni primitive, di legno, come potevano fare allora, e ci lasciavano delle guarnigioni. E poi veniva l'autunno e il grosso dei guerrieri franchi tornavano in patria e queste guarnigioni e anche i preti che si erano portati dietro restavano soli in mezzo a un nemico che in apparenza si era sottomesso e regolarmente ogni inverno o qua o là qualche capo sassone si ribellava. In una zona o nell'altra i Sassoni insorgevano, aggredivano le fortezze, se riuscivano a prenderle sterminavano la guarnigione, regolarmente arrivavano notizie di chiese attaccate, di sacerdoti uccisi e allora regolarmente cominciavano le rappresaglie. Appena la stagione lo permetteva nuove forze franche comparivano nel paese, si spingevano ancora più in profondità, saccheggiavano e distruggevano e bruciavano i villaggi e portavano via il bestiame e portavano via gli uomini in schiavitù per punire le province che si erano ribellate. E ancora una volta i Sassoni apparentemente si sottomettevano perché non potevano fare diversamente, erano più deboli, solo molto raramente dei capi sassoni sono riusciti a radunare delle forze per dare battaglia in campo aperto, normalmente non lo facevano. E anche qui era una guerra di pianificazione dal punto di vista di Carlo Magno, si trattava di avere ben chiaro come è fatto il paese, dove sono le strade, dove sono i fiumi, molti rifornimenti potevano essere mandati alle guarnigioni su chiatte che discendevano i fiumi, si trattava di stabilire ogni anno come fare per spingere ancora un po' più in là la rete delle fortificazioni. Ogni anno Carlo Magno radunava gente, entrava in paese nemico, riceveva sottomissioni di capi che poi l'anno dopo lo avrebbero tradito e si spingeva un po' più in là, un po' più verso il mare del nord, un po' più verso l'elba, edificava nuove fortezze, bruciava qualche villaggio, portava via prigionieri. Alla lunga, alla lunga i franchi hanno prevalso, alla lunga questa guerra che è diventata in certi momenti quasi una guerra di sterminio fra un regno poderoso e un popolo diviso, inferiore, ecco, alla lunga i franchi hanno prevalso, questa guerra si è conclusa con la vittoria dei franchi. Ma certamente è un impegno con cui Carlo ha dovuto fare i conti per tutta la vita praticamente. La svolta decisiva si ha quando Carlo Magno per la prima volta si rende conto che non è possibile continuare a entrare nel paese dei sassoni d'estate e poi ritirarsi lasciando soltanto delle guarnigioni. La svolta decisiva si ha in quell'anno, mi pare che sia il 786, in cui per la prima volta Carlo Magno sverna personalmente nel cuore del paese sassone, si porta dietro l'esercito, la famiglia, la moglie, i bambini, la corte, costruisce grandi fortificazioni, resta lì, resta lì tutto l'inverno. E questo è un cambiamento decisivo perché fino a quel momento i capi sassoni d'inverno respiravano, potevano radunare gente, radunare scorte alimentari, prepararsi a riprendere la lotta. Invece in quell'inverno la cavalleria franca arriva dappertutto, disperde i concentramenti di partigiani, chiamiamoli pure così, brucia i villaggi e le scorte e l'anno dopo i capi sassoni davvero si trovano con l'acqua alla gola assediati nel loro stesso paese e stavolta si sottomettono sul serbo. Il Carlo Magno della guerra sassone è un Carlo che ci appare sotto la luce meno gradevole, non c'è dubbio su questo. È il generale che sta conducendo una guerra di annientamento, una guerra ideologica contro un nemico che continua a ribellarsi, che chissà perché non vuole sottomettersi. È il generale che comanda un esercito poderoso, continuamente aggredito e molestato da partigiani, da ribelli, e che risponde di conseguenza. La guerra di Carlo Magno in Sassoni è una guerra appunto di terrore, è una guerra di rappresaglia, è una guerra di esecuzioni di ostaggi, innumerevoli occasioni, una in particolare è rimasta famosa ed è rimasta come una macchia sulla memoria di Carlo, tanto che gli storici sono rimasti anche turbati da questo episodio. C'è un'occasione a Verden, sulla Weser, quando nel 782 Carlo Magno si è fatto consegnare più di 4.000 ostaggi sassoni e quando gli arriva notizia di una nuova ribellione fa giustiziare in un solo giorno tutti questi ostaggi. Ecco, di fronte a cose come queste, storici come quelli dell'Ottocento, ma anche del Novecento, che volevano in qualche modo celebrare la grandezza di Carlo, sono rimasti impressionati. C'è tutta una letteratura che cerca di negare l'autenticità storica di questo massacro. In realtà poi dopo ne abbiamo viste ben altre, quindi non c'è da stupirsi che in quest'epoca in particolare un comandante militare assediato in un paese nemico potesse ricorrere a misure di questo genere. Altrettanto sgradevoli sono le misure di deportazione. Ci sono più occasioni in cui Carlo Magno, per stroncare la resistenza di qualche capo sassone, decide di sgomberare il suo territorio. Tutta la popolazione viene radunata e deportata in altre zone. E nelle zone che sono rimaste libere Carlo Magno fa affluire coloni. Fa affluire coloni franchi, fa affluire coloni slavi, cosa che poi gli storici tedeschi, specialmente in epoca nazista, non gli perdoneranno. Caccia via i sassoni, che sono dei puri e duri germani, e al loro posto fa venire gli slavi. Ma evidentemente a Carlo Magno non interessava l'aspetto etnico, razziale. Non era una guerra nazista questa, ma era una guerra di religione. I sassoni dovevano essere sottomessi e convertiti. E in questo senso tutti i mezzi erano buoni. Anche l'emanazione di una legge terribile, come il capitolare sassone di Carlo Magno, è la legge che stabilisce come dovranno essere puniti quei sassoni che si ostinano a non accettare il governo franco e che si ostinano a non accettare la nuova religione. Ed è appunto davvero una legge impressionante. È la legge che stabilisce che quando un sassone aggredisce un sacerdote o saccheggia una chiesa, deve essere messo a morte. E quando un sassone viene colto nell'atto di non rispettare il digiuno della quaresima, deve essere messo a morte. E quando un sassone è sospettato di avere compiuto gli antichi riti pagani o di aver sepolto i suoi morti, secondo l'usanza pagana e non quella cristiana, deve essere messo a morte. È una legge la cui durezza si misura specialmente se noi sappiamo che normalmente le leggi di quest'epoca non condannavano a morte. Questa era un'epoca dura, rozza, ma era un'epoca in cui la legge dello Stato, la legge del Re, non condannava nessuno a morte. La gente poteva cavarsela, qualunque cosa avesse commesso, pagando delle ammende, accettando di fare penitenza. Se poi uno aveva ammazzato qualcuno, se la vedeva con i parenti del morto, questa è un'altra faccenda, e il Re non ci metteva mano. Ma le leggi del Re non condannavano a morte nessuno del suo popolo. Ecco, invece veramente incontrare questa legge sassone, che così spietatamente elenca tutta una serie di delitti, di colpe, di offese alla fede cristiana, per cui l'unica pena prevista è la morte, ci dà la misura di come Carlo Magno in certi momenti, per disperazione, abbia pensato che soltanto un regime di terrore gli avrebbe fatto vincere la resistenza dei sassoni. Abbiamo parlato a lungo degli aspetti più sgradevoli, anche impressionanti, della guerra sassone, ma c'è anche un altro risvolto su cui vale la pena di fermarci. Questo, l'abbiamo detto più volte, era un'epoca dura, rozza, ma questo non vuol dire che la gente dell'epoca non sapesse ragionare, non sapesse riflettere e discutere su quello che stava facendo. A un certo momento, nell'ambiente di Carlo Magno, fra gli intellettuali della sua corte, fra gli uomini di chiesa dell'impero, si comincia a avere la sensazione che forse questo non è il modo giusto per convertire un popolo. Si comincia a dire che forse stiamo sbagliando, ecco, questo è il discorso che viene fuori con insistenza, stiamo attenti perché stiamo sbagliando, ed è un discorso che diventa via via sempre più articolato, è una critica serpeggiante che viene anche da voci inaspettate, da persone molto vicine a Carlo Magno, al Cuino per esempio, il principale dei suoi consiglieri. Si comincia a discutere e si dice ma siamo poi sicuri che si può convertire la gente con la spada, con la forza, che si può obbligarli a convertirsi. Ecco, questa non era gente, anche gli intellettuali, che amasse discutere molto in profondità di teologia e però in occasioni come queste si vede che invece la discussione nasce. Cosa vuol dire convertirsi? È possibile costringere la gente a credere? No, non è possibile. Come pure si riflette sul modo in cui in questo paese conquistato si sta costruendo la chiesa, perché c'è anche tutto questo aspetto. La conquista, la conversione non hanno soltanto un aspetto militare, ma c'è un investimento grosso per portare fra i sassoni ecclesiastici, missionari, per edificare una struttura ecclesiastica. Un investimento grosso è anche costoso perché questi missionari rischiano sul serio la pelle, sono i primi che vengono fatti fuori quando i sassoni si ribellano. Allora a questo punto si dice benissimo noi stiamo costruendo fra i sassoni la chiesa cristiana, ottima cosa. Stiamo costruendo la chiesa, la rete delle parrocchie, abbiamo impiantato parroci un po' dappertutto e naturalmente la prima cosa che abbiamo detto è che adesso la gente deve pagare la decima al parroco. E questo è normale perché in occidente, nell'impero, già da molto tempo è stato stabilito che tutti i fedeli devono pagare una tassa, la decima appunto, per mantenere il clero. E però alcuno e altri cominciano a dire attenzione perché perfino noi che siamo cristiani da secoli ci secca lo stesso pagare la decima. Adesso noi abbiamo convertito questi sassoni, gli portiamo la parola di Dio e come prima cosa gli diciamo pagate. Forse non è la cosa giusta. E la cosa più impressionante è che queste discussioni non rimangono confinate ai circoli intellettuali, ma a un certo punto cominciano a avere una ricaduta politica. Quando ormai i sassoni sono praticamente sottomessi, Carlo Magno intraprende una guerra contro un altro popolo pagano, gli avari. Questi stanno in Oriente, in Pannonia, sono un popolo asiatico, una specie di unni, anche loro pagani. Anche loro vanno sottomessi e cristianizzati. Bene, nell'accampamento stesso dell'esercito che sta per marciare contro gli avari, si riunisce una conferenza episcopale per tracciare le linee, per pianificare la conversione degli avari. E lì si dice non rifacciamo gli stessi sbagli che abbiamo fatto nel caso dei sassoni. Bisogna predicare la parola di Dio e non chiedere le decime. Bisogna parlare dell'inferno ma anche del paradiso. Bisogna convincerli perché obbligarli non serve a niente. Ed è in questo stesso contesto che Carlo Magno alla fine si lascia convincere a ritirare la legge sassone, a ritirare quella legge tremenda che in pratica imponeva lo stato d'assedio in tutta la Sassonia, e a concordare con i capi stessi dei sassoni una nuova legge molto più moderata. Ed è in questo contesto che la guerra sassone si conclude davvero. Le donne hanno avuto un'importanza enorme nella vita di Carlo Magno. Basta qualche cifra per accorgercene. Carlo Magno ha avuto in vita sua cinque mogli e almeno sei concubine. Almeno vuol dire che si tratta di concubine che conosciamo con precisione perché i cronisti ne hanno parlato. Su tutte le altre di cui nessuno ha detto niente il silenzio ovviamente rimane. Tutte queste donne, undici donne conosciute, ripeto, gli hanno dato almeno venti figli. Dieci maschi e dieci femmine. E questi naturalmente sono soltanto quelli che conosciamo, quelli che hanno avuto fortuna e che sono vissuti. A quell'epoca un bambino su due moriva nei primi anni di vita. Quindi il numero di figli che Carlo Magno può aver generato rimane aperto alle supposizioni. Certamente dieci maschi e dieci femmine sono sopravvissuti. Però bisogna anche andare un pochino oltre queste cifre perché detto così insomma appunto cinque mogli e sei concubine è un po' impressionante. In realtà bisogna fare un dotto discorso su cosa voleva dire il matrimonio e cosa voleva dire il rapporto con una concubina all'epoca di Carlo Magno. Perché se vogliamo capire che cosa davvero ha significato per lui, per quell'uomo, il rapporto con tutte queste donne, bisogna renderci conto di cosa significava nel suo mondo, nella sua società, il rapporto fra marito e moglie. E allora bisogna dire per prima cosa che a quell'epoca il matrimonio era una cosa lontanissima dal matrimonio cristiano come noi siamo abituati a conoscerlo. A quell'epoca la Chiesa si preoccupava abbastanza poco del matrimonio e in ogni caso non lo considerava un sacramento. È soltanto molto tempo dopo, diversi secoli dopo Carlo Magno, che la Chiesa comincerà a parlare del matrimonio come di un sacramento. All'epoca di Carlo Magno il matrimonio era un accordo, un accordo laico, un accordo tra famiglie, che si organizzavano e decidevano di far sposare un ragazzo e una ragazza e naturalmente prendevano una serie di accordi dal punto di vista giuridico, dote, spartizione del patrimonio, tutto questo c'era. Non era quindi lasciato al caso l'accoppiamento di uomini e donne, tutt'altro. Era il matrimonio un momento giuridico ben previsto e preciso, ma in cui la Chiesa centrava molto poco. E però, al tempo di Carlo Magno, per l'appunto, noi ci accorgiamo che la Chiesa comincia a pensare che questa faccenda del matrimonio è troppo importante per lasciarla ai laici. Carlo Magno ha regnato molto a lungo, una cinquantina d'anni, e nell'arco di quei cinquant'anni l'atteggiamento verso il matrimonio è cambiato. Ecco, questa è una cosa che vale la pena di sottolineare, perché quando Carlo Magno era un ragazzo, il matrimonio era una cosa, e quando Carlo Magno era vecchio, il matrimonio era diventato un'altra cosa. E se vogliamo capire cosa ha significato per lui, ecco, è necessario ripercorrere un pochino questo percorso. La Chiesa si interessava soprattutto di una cosa. Alla Chiesa non piaceva la promiscuità sessuale. La Chiesa fin dai primi secoli aveva combattuto nel mondo romano appunto la promiscuità, l'omosessualità, le relazioni libere e allegre che caratterizzavano le elite del mondo antico. Alla Chiesa importava cercare di convincere i cristiani che bisogna avere una sola moglie. E questa cosa, nell'arco della vita di Carlo Magno, la Chiesa la porta avanti con sempre maggiore insistenza. Una sola moglie significa che non bisognerebbe divorziare e che quando uno dei coniugi muore, l'altro dovrebbe restare in stato di castità, non dovrebbe risposarsi. Ecco, quello che sappiamo di Carlo Magno ci dice che era molto difficile far passare questo messaggio presso i laici. E però questo è uno sfondo che dobbiamo tenere presente. Ecco, se la Chiesa insisteva tanto che i cristiani dovevano, se possibile, avere una sola moglie, come mai Carlo Magno ne aveva avute cinque. E che le cose poi andavano un po' diversamente da quello che la Chiesa si aspettava. Intanto c'era il divorzio. Sembra curioso pensando alla fatica che si è fatta nel mondo contemporaneo per reintrodurre il divorzio nei paesi cattolici, ma nel Medioevo il divorzio era una cosa assolutamente scontata. Intendiamoci anche qui, il divorzio era il marito che ripudiava la moglie. E Carlo Magno, almeno una delle sue mogli, l'ha ripudiata, come vedremo. E poi oltre a questo, il problema è che queste mogli morivano facilmente. Le donne si sposavano molto molto giovani ed era chiarissimo a tutti che lo scopo era fare figli. Ci si sposava per fare figli. Le donne potevano avere anche un ruolo nella vita sociale, a seconda dei casi, ma sostanzialmente la loro funzione era di fare dei figli. Allora cosa succedeva a una ragazza che si sposava appena pubere e cominciava a fare figli subito e continuava a farne uno all'anno? Che prima o poi un parto andava male e moriva. A Carlo Magno, su cinque mogli che ha avuto, una l'ha ripudiata e le altre quattro gli sono morte. Il caso forse estremo è quella della più importante fra tutte le mogli di Carlo Magno, il de Garda, che gli diede ben nove figli, quattro maschi e cinque femmine e poi morì nell'anno 783. Bene, questa donna che aveva dato nove figli a suo marito, quando morì aveva 25 anni, si era sposata a 13 e aveva fatto praticamente un figlio all'anno. Ecco, in queste circostanze si capisce che un uomo, un uomo che aveva la fortuna di campare come Carlo Magno, che campò fin oltre i 70 anni, di mogli potesse anche averne molte. Certo, la Chiesa spiegava che sarebbe stato meglio se un vedovo si fosse trattenuto, fosse vissuto nella castità, non erano cose da Carlo Magno queste. Carlo Magno ogni volta tornava a sposarsi. Ma c'è anche un altro aspetto che va sottolineato. Prima che la Chiesa si preoccupasse di definire il matrimonio come sacramento, i germani, i franchi di Carlo Magno, avevano due tipi diversi di matrimonio. Di nuovo mi scuso se entro in dei dettagli quasi tecnici adatti agli specialisti, ma se vogliamo capire cosa volevano dire le donne per Carlo Magno, queste cose vanno dette. Un capo germanico poteva sposarsi secondo tutte le regole, con la dote, l'accordo familiare, la spartizione patrimoniale, oppure se voleva poteva sposarsi con un matrimonio, diciamo così, più leggero, provvisorio. Poteva prendersi una donna e questa cosa era regolare, prevista dalla legge, onorifica. Nessun padre di famiglia si sarebbe sentito offeso se il re avesse scelto una delle sue figlie. Anche soltanto per questo matrimonio, diciamo così, più provvisorio. Non c'erano tante formalità giuridiche, però il matrimonio era legale a pieno titolo. Un uomo poteva scegliersi una donna che gli piaceva e vivere con lei fino a quando magari la politica non lo obbligava a fare un altro matrimonio. Questa cosa è fondamentale per capire Carlo Magno, lo diremo subito, ed è fondamentale il fatto che i figli che nascevano da questi matrimoni erano tutti uguali, tutti legittimi. Non esisteva quando Carlo Magno era giovane l'idea che se il matrimonio non è quello proprio ufficiale previsto dalla chiesa, allora il figlio non è legittimo e per esempio non può pretendere di succedere al padre. Niente del genere. Un capo germanico poteva sposare parecchie donne in vita sua in modo legale o in modo, come dire, provvisorio e tutti i figli che nascevano erano figli legittimi. Ecco, durante la lunga vita di Carlo Magno le cose hanno cominciato a cambiare. La chiesa ha cominciato a spiegare ai cristiani che questa faccenda non funzionava mica tanto. Mogli legittime di primo grado, mogli di secondo grado, matrimoni provvisori che poi venivano sciolti. Questa cosa alla chiesa non piaceva, non era ordinato, non era regolare. La chiesa comincia a dire il matrimonio è una cosa seria e quindi questi matrimoni provvisori, leggeri, che voi germani avete sempre usato, non vanno bene, dovete rinunciare. E la chiesa comincia anche seriamente a dire i figli nati da questi matrimoni provvisori non ci piacciono, non vanno bene, non sono figli legittimi, non possono essere messi sullo stesso piano di quelli che nascono da un vero matrimonio cristiano. Ecco, questa cosa ha influenzato Carlo Magno, e buffo dirlo, fin dalla nascita in qualche modo. Carlo Magno era nato dal re Pipino e da sua moglie Berta, in un momento in cui i due non erano ancora sposati secondo il pieno matrimonio cristiano legittimo. Era un tipico caso in cui un capo germanico si era preso una donna che gli piaceva, secondo forme ben previste dalle consuetudini, ci aveva anche fatto un figlio, Carlo Magno. Ecco, solo in un secondo momento il re Pipino, decise che effettivamente quella era la donna della sua vita, per cui questo matrimonio con Berta venne ufficializzato. Bene, è probabile che quando Carlo Magno era bambino questa cosa non importasse a nessuno. La chiesa aveva appena cominciato a preoccuparsi di queste faccende. I germani erano abituati all'idea che i figli sono figli e che non stiamo tanto a fare delle differenze in base al matrimonio da cui sono nati. E infatti Carlo Magno, che è il primo genito di Pipino, anche dopo che è nato un altro figlio, Carlo Magno, e Carlo Magno è nato da un matrimonio legale, ormai Pipino ha sposato Berta. E va bene, questo non fa nessuna differenza. Carlo e Carlo Magno ereditano il regno sullo stesso livello, sullo stesso piano. Ma quando Carlo Magno era vecchio i discorsi erano un po' cambiati. Quando Carlo Magno era vecchio i vescovi avevano convinto un po' tutti che ci sono figli legittimi e figli illegittimi. Che quelli che sono nati da un vero matrimonio hanno tutti i diritti e invece quelli che sono nati da una relazione in qualche modo più informale di diritti non ne hanno. Ed è qui che noi intuiamo che i biografi di Carlo Magno si sono spaventati. Perché fatti due conti si sono accorti che Carlo Magno quando è nato era nato illegittimo. Carlo Magno è nato quando suo padre e sua madre erano sposati secondo il matrimonio di tipo provvisorio all'antica che nel frattempo la chiesa aveva messo fuori legge. E invece quando poi era nato l'altro fratello Carlo Magno i genitori si erano sposati, tutto legale. Ecco, secondo la morale in vigore quando Carlo Magno era vecchio e dopo, soprattutto dopo, secondo quella morale Carlo Magno era un figlio illegittimo. E questa cosa ha cominciato a serpeggiare nei discorsi. Questo fatto che Carlo Magno in realtà non avesse diritto a subentrare al padre come re perché era figlio illegittimo comincia a venire fuori oppure comincia a essere messa a tacere. Dal punto di vista leggendario nelle canzoni di gesta questo tema ogni tanto salta fuori. E invece il biografo ufficiale di Carlo Magno e Ginardo se la cava in un altro modo. L'abbiamo già accennato uno dei giorni scorsi ridiciamolo. E Ginardo quando deve parlare della nascita di Carlo Magno dice ma non c'è più nessuno che si ricorda di quei tempi perciò non ne parliamo. Ecco, un motivo forse c'era. Ecco, la prima moglie di Carlo Magno fu appunto una moglie sposata secondo il vecchio sistema. Una moglie vogliamo chiamarla provvisoria ma non va bene in realtà. Loro lo chiamavano fridele, matrimonio d'amore. Voleva dire che ci si metteva insieme, le forme erano salve, era una cosa onorevole, i figli che nascevano erano garantiti, però poi se l'uomo per qualche motivo doveva prendersi un'altra moglie poteva farlo. Il primo matrimonio di Carlo Magno è di questo tipo e con una donna che certamente gli piaceva, che magari non era la più adatta per un re perché non era magari di famiglia importante, ma gli piaceva e quindi la prende. Si chiamava Imiltrude, su questo devo scusarmi, i nomi dei germani sono di questo tipo, non erano nomi graziosi in generale. Imiltrude diede a Carlo Magno un figlio e questo figlio venne chiamato Pipino. Ora di nuovo su questa cosa bisogna fermarci perché la scelta dei nomi non era per niente una cosa casuale. Questa è una società tradizionale in cui le persone sono vincolate dalle usanze, non è come oggi che si può dare il nome che si vuole e in fondo quelli che danno ai bambini il nome dei nonni in fondo sono visti come qualcuno che aderisce a vecchie tradizioni. Al tempo di Carlo Magno invece era così e basta. Il primo figlio, se era un figlio destinato a continuare le orme del padre e del nonno, se era un membro a pieno titolo della famiglia, doveva avere il nome del nonno. Su questo non si discuteva e quindi al bambino che nasce dai Imiltrude, Carlo Magno dà il nome di suo padre, Pipino. Questa cosa è estremamente significativa, vedremo poi che ci sono delle conseguenze grosse di questa cosa. Questo bambino viene chiamato Pipino ed è chiaro che nelle intenzioni di Carlo è destinato a succedere al trono, perché altrimenti non l'avrebbe chiamato così. Il nome per questi germani è il destino di una persona. Se tu vieni chiamato come tuo nonno il re Pipino, sarai il re dopo di lui. Questo è chiarissimo. E però a un certo punto Carlo Magno ripudia questa sua prima donna, ripudia Imiltrude. Ed è molto chiaro che è per ragioni politiche che è costretto a farlo. Ecco, forse non sono stato chiaro prima, più di una moglie per volta non si può avere comunque. Su questo la Chiesa sta attenta. E allora viene un momento in cui il re dei Franchi non può più stare con la donna che si è scelto perché gli piace e che gli ha dato il suo primo figlio, perché deve fare un matrimonio politico. Viene il momento in cui le ragioni della politica prevalgono su quelle personali, sentimentali. Sono i primi anni di regno di Carlo Magno, quelli in cui c'è lo sforzo di fare accordi di pace con il regno Longobardo, è il momento in cui Carlo Magno, per ragioni puramente politiche, sposa la figlia del re Desiderio. Ricordate quella che Manzoni chiama Ermengarda, ma che in realtà probabilmente non si chiamava così perché nessun cronista si è degnato di dirci il nome di questa donna. Per sposare Ermengarda Carlo Magno deve ripudiare Imiltrude, che in questo momento sparisce dalla storia. E Carlo Magno fa un nuovo matrimonio, questa volta ufficiale, con tutti i crismi, benedetto dalla Chiesa e politicamente significativo, con la figlia del re Longobardo. Ecco, già in questo momento vediamo come appunto la vita privata di un re non esiste in realtà. Un re può essere, come era Carlo Magno, certamente affascinato dalle donne, attaccato a loro, ma la ragion di Stato c'è già e in qualche modo lo costringe a fare delle scelte che forse non avrebbe voluto fare. Il matrimonio con la figlia di Desiderio è una scelta di questo genere e le conseguenze si vedranno subito. Il matrimonio di Carlo Magno con Ermengarda finì malissimo. Finì malissimo un po' perché Carlo Magno litigò con il suocero, con il re Desiderio, e cominciò a pensare che forse era meglio fargli la guerra anziché cercare di mantenere buoni rapporti a tutti i costi. E un po' sicuramente perché Ermengarda non rimase incinta. Questa era la cosa fondamentale comunque che si chiedeva a una donna e specialmente a una regina. Non per niente si sposavano giovanissime. Erano lì per quello, erano lì per produrre eredi. Questo chiaramente era una cosa che importava a tutti, chiunque voleva avere eredi e far proseguire il suo sangue, ma nel caso del re la cosa non era soltanto un fatto privato. Nel caso del re la cosa era un fatto pubblico. Carlo Magno deve avere eredi perché il suo popolo dipende da quello, la pace del suo regno dipende da quello. E quindi quando una donna sposata da più di un anno non è ancora rimasta incinta, ebbene un uomo impaziente comincia a pensare che sarebbe meglio sostituirla. E Carlo Magno, ormai lo abbiamo capito, aveva tante qualità, tanti difetti, ma tanto paziente non era. Ne consegue che insomma a un certo punto Carlo Magno ripudia Ermengarda. Sappiamo poi tutto, come dire, il profitto che ricava il Manzoni da questa situazione tragica di questa donna, ma naturalmente Carlo Magno non è che la ripudia per poi restare da solo. La ripudia per prenderne immediatamente un'altra, che finalmente gli dia dei figli. Ne ha già avuto uno, ricordiamocelo, Pipino. Ha un figlio e poco. Un bambino muore facilmente. Ce ne vogliono molti perché il re possa essere sicuro che dopo di lui il regno resterà in buone mani. Quindi Carlo Magno sposa un'altra ragazzina, una ragazzina giovanissima, tredicenne, il de Garda appunto. Ragazzina è giovanissima perché così si comincia subito e ci sono buone possibilità che tanti eredi vengano a arricchire la famiglia reale. E infatti è così, il de Garda farà molti figli a Carlo Magno e fra questi i suoi tre figli più importanti. I tre figli più importanti che dopo Carlo Magno devono proseguire la sua opera. C'è sempre il primo Pipino, ricordiamocelo, rimane lì sullo sfondo e tornerà fuori fra poco. Ma intanto ne nascono altri. Ed è sui nomi di questi figli che ancora una volta ci fermiamo perché sono significativi. Se il primo figlio di Carlo Magno si era chiamato Pipino come il nonno, il secondo ovviamente riprende lo stesso nome del padre, Carlo. Il terzo riprende, a questo punto cosa rimane di nomi di famiglia? C'era lo zio paterno Carlo Manno, quello che era morto al momento giusto così Carlo si era potuto impadronire del suo regno. Il terzo figlio di Carlo rifà il nome dello zio Carlo Manno. E poi nascono due gemellini. Nascono due gemellini e si capisce benissimo che Carlo Magno ha cominciato a ragionare con i suoi consiglieri come li chiamiamo questi. I nomi della nostra famiglia sono finiti perché si chiamavano tutti o Pipino o Carlo. Almeno quelli che erano stati re. Gli altri contavano poco. Ma la famiglia di Carlo Magno era subentrata alla vecchia dinastia regale, ai Merovingi, con un vero e proprio colpo di stato. Anche se si cercava di fare finta che non fosse stato un colpo di stato, il papa aveva benedetto Pipino quando si era fatto consacrare il re. Ma prima di loro un'altra famiglia regnava, i Merovingi. Ebbene, impadroniamoci anche di loro. Sono nati due gemellini, gli diamo i nomi dei vecchi re Merovingi. I vecchi re Merovingi si erano chiamati Clodoveo, Clotario. Riprendiamo i loro nomi. Intanto la lingua è un po' parlata. Clodoveo è diventato Ludovico. Ma se proviamo a immaginare la forma germanica del nome capiamo che è la stessa cosa. Clotario è diventato Lotario. I due gemellini si chiamano Ludovico e Lotario. E questa è una cosa programmatica. Vuol dire dopo i Merovingi ci siamo noi ed è sempre la stessa dinastia che regna sui franchi. Bene, noi abbiamo detto che durante il lungo regno di Carlo Magno l'influenza della chiesa diventa sempre più forte. E l'influenza della chiesa tende a dire distinguiamo i bambini. Quelli che sono nati da un matrimonio legittimo sono buoni. Loro possono succedere al padre. Il sangue è quello giusto. Ma quelli che sono nati da un matrimonio leggero, provvisorio, da una concubina, come dicono i preti che non si fanno tanti scrupoli, ebbene quelli non hanno diritto di succedere. Ora ricordiamocelo, lo so che questa genealogia è complicata, ma facciamo uno sforzo perché vale la pena di seguire questa vicenda che è pazzesca pensandoci. Carlo Magno aveva avuto un primo figlio da una moglie, diciamo così, di seconda categoria, e l'aveva chiamato Pipino come suo padre. Un nome che era un programma. Bene, a un certo momento succede una cosa pazzesca. Carlo Magno, che ha avuto altri figli nel frattempo, Carlo, Carlo Manno, Ludovico, ecco, prende il secondo di questi bambini, che si chiama Carlo Manno, va con lui a Roma dal Papa, lo fa ribattezzare, gli cambia nome e lo chiama Pipino. Portare un bambino a Roma dal Papa e farlo battezzare dal Papa evidentemente è una cosa che ha un significato politico grosso. Questa è un'epoca in cui si sa bene cosa vuol dire padrino. Un rapporto di padrinaggio è una cosa importante. Se il Papa fa da padrino tuo figlio, bene, questo è una garanzia di alleanza. Ma non prende un figlio qualunque, prende quello che c'era già, che aveva già il suo nome, e gli cambia nome. Ecco, questa cosa si può interpretare in un solo modo. I preti, che contano sempre di più nell'ambiente di Carlo Magno, che intanto pian piano sta invecchiando, i preti l'hanno convinto che il suo primo figlio, il primo Pipino, siccome non è nato da un matrimonio cristiano ufficiale, è nato da quella che i preti chiamano una concubina, non ha il diritto di succedergli. E quindi Carlo Magno non ha più un Pipino, non ha più un figlio con il nome di suo padre, ne fabbrica un altro. Butta via il nome del fratello, che tanto insomma quello era sacrificabile, tutto sommato Carlo Magno non aveva mai avuto una grande passione per questo suo fratello Carlo Manno, si fabbrica un nuovo Pipino. Ecco, io adesso porrei un problema, come l'avrà presa il primo figlio? Come l'ha presa Pipino? Il quale a un certo punto si rende conto che anche se tutti continuano a trattarlo con tutti gli onori, però pian piano lo stanno mettendo fuori dalla successione al trono, al punto che ufficialmente fabbricano un altro Pipino per sostituire lui. Ecco, è una situazione, ripeto, abbastanza impressionante da immaginare. Stiamo facendo delle speculazioni senza documenti che ci permettano di farlo? Forse no, perché il primo Pipino a un certo punto si ribella. Va anche detta una cosa, questo primo Pipino i cronisti lo chiamano Pipino il Gobbo. Suona bene, aiuta a metterlo da parte, era Gobbo, era deforme, giusto che non abbia potuto subentrare al padre. Ma quello che noi sappiamo di Pipino il Gobbo è che a un certo punto Pipino comincia a prendere accordi con dei nobili dell'impero scontenti con la fronda, con l'opposizione, e a un certo punto viene fuori una vera e propria congiura di Pipino il Gobbo contro suo padre. Nel preciso momento in cui ormai era chiaro che gli stavano facendo la festa e lo stavano escludendo dalla successione. La congiura è scoperta, Pipino e i suoi complici sono portati davanti all'assemblea, sono tutti condannati a morte, dopodiché il padre grazia il figlio a patto che si chiuda in monastero e non dia più fastidio, e Pipino il Gobbo si chiude in monastero e muore lì. Bene, torniamo alle mogli di Carlo Magno. La terza, la sola, la seconda ufficiale però, il de Garda, muore nel 783. A questo punto Carlo Magno aveva appena compiuto 40 anni, aveva già avuto tre mogli e gli restavano in vita quattro figli maschi. Certo, il primo dovere di un re era di dare un erede al trono, ma a questo punto potremmo anche dire che di eredi ne aveva abbastanza. E quindi Carlo avrebbe anche potuto a questo punto dare retta ai consigli della chiesa e vivere il resto della sua vita in castità. Ma Carlo non piaceva stare da solo. Pochissimo tempo dopo la morte di Hildegarda Carlo si risposa, e anzi noi abbiamo gli elementi per sapere che aveva una gran voglia di risposarsi, perché quell'estate Carlo Magno stava combattendo in Sassonia e a un certo punto torna indietro dal fronte apposta per sposare questa nuova ragazza, giovanissima anche lei, che si chiama Fastrada, e che vivrà 11 anni insieme a lui, prima di morire anche lei, probabilmente di parto. Ecco, su Fastrada i cronisti di corte sono divisi. Immaginiamoci la situazione, c'è questo re che appunto ormai ha passato i 40 anni, è un uomo maturo, anzi comincia a invecchiare, almeno per le regole dell'epoca, ha già avuto tante mogli, questa è la quarta. È una ragazzina giovanissima e certamente lo influenza. E nell'ambiente di Carlo Magno girano i pettegolezzi sul fatto che questa moglie non lo influenza mica tanto bene, che questa moglie gli fa fare delle cose che non dovrebbe, gli fa compiere delle crudeltà. Forse non è un caso se è proprio durante il regno di Fastrada che si ribella Pepino il Gobbo. Ed è anche in quest'epoca che i cronisti dicono sì, il re in certi momenti ha avuto degli scatti, ha compiuto degli eccessi, ma era colpa della regina comunque, che aveva una cattiva influenza su di lui. Ecco, sarà così, non sarà così, naturalmente il pettegolezzo di corte è sempre una cosa insomma da prendere con le molle, ma quello che è certo è che Carlo Magno comunque amava stare con questa donna, tant'è vero che l'unica lettera privata che noi abbiamo di Carlo Magno è una lettera a Fastrada, scritta dal fronte durante la guerra contro gli avari. Poi muore anche Fastrada. Carlo Magno a questo punto ha passato la cinquantina, la posizione ufficiale della chiesa è che i vedovi dovrebbero vivere nella castità, che approfittino dell'occasione, visto che peccati ne hanno commessi tanti in passato. Bene, Carlo Magno non ci pensa neanche, si risposa. È la quinta moglie, Liutgarda. Questa non gli dà figli, almeno nessuno che sia sopravvissuto e che noi conosciamo. Tira avanti sette anni, nell'anno ottocento muore anche lei. Siamo poco prima dell'evento più importante della vita di Carlo Magno, l'incoronazione imperatore. Fino a questo momento, ricordiamolo, era soltanto il re dei franchi e solo nell'anno ottocento che a San Pietro viene incoronato imperatore. Bene, la regina Liutgarda è morta poco prima, pochi mesi prima, e Carlo Magno a partire da questo momento non si risposa più. Non ci sarà mai un'imperatrice, ci sono state cinque regine. Però intendiamoci, questo non vuol dire che Carlo Magno rimanga solo, anzi, non c'è più un'imperatrice in titolo, ma solo per questi ultimi anni, Carlo Magno, ricordiamolo, è il periodo che va dai 60 ai 70 anni della sua vita, solo per questi ultimi anni noi conosciamo i nomi di almeno quattro concubine ufficiali di Carlo Magno, ognuna delle quali gli diede diversi figli, maschi e femmine. Però a questo punto le regole della chiesa erano chiare, ormai si distingueva molto nettamente tra figli legittimi e illegittimi. I figli delle concubine avranno tutti delle buone carriere, dei posti importanti, buoni stipendi, ma non potranno pretendere di succedere altrono. Dunque Carlo Magno nei suoi ultimi anni aveva con sé tre figli maschi e a questi tre figli maschi cercò di costruire una posizione in modo che tutti e tre potessero collaborare con lui nella gestione del regno e poi un giorno succedergli, perché non dimentichiamoci che secondo il diritto franco la primogenitura non c'era. Tutti i figli maschi avevano diritto a una parte dell'eredità paterna. Poi in realtà Carlo Magno da questo punto di vista fu un padre sfortunato, perché di questi tre maschi che avevano fatto in tempo a diventare adulti, che ricevono incarichi di comando anche importanti all'interno dell'impero e di cui Carlo Magno chiaramente cercava di fare i suoi collaboratori più stretti, ecco di questi tre maschi ben due muoiono prima del padre. Questo è certamente un aspetto che insomma, se proviamo a pensare all'uomo e ai suoi sentimenti, avrà pesato. Carlo Magno, che ormai ha più di sessant'anni, vede morire uno dopo l'altro due dei tre figli maschi a cui si affidava per la sua successione. Ne rimane soltanto uno e forse è quello che al padre piaceva di meno. Vabbè, oddio, qui stiamo facendo dello psicologismo spicciolo, però alcuni elementi ci sono per farlo. Il figlio che sopravvive e che raccoglierà l'eredità dell'impero è quel Ludovico che alla storia è passato come Ludovico il Pio. Ora Carlo Magno era certamente un uomo molto religioso, ma forse Pio non era. Non era un uomo pronto ad ascoltare tutti gli ordini della Chiesa, non era un uomo pronto a subordinare il suo privato a un criterio morale astratto. E invece Ludovico il Pio è così. Ludovico il Pio si chiama così per quello. In genere nella storia bisogna diffidare dei sovrani che vengono conosciuti come il buono, il santo, il Pio. In genere questi sono sovrani disastrosi che non sapevano governare. E Ludovico il Pio è un caso di questo genere, indubbiamente. E sicuramente Carlo Magno negli ultimissimi anni di vita deve avere pensato con un rimpianto agli altri figli che gli erano morti. A riempire il vuoto, a riempire il vuoto della sua vita quotidiana, c'erano però tante donne, tante figlie, tante concubine naturalmente, ma soprattutto negli ultimi anni la sensazione è che quello che riempie la vita di Carlo Magno sono le figlie. Carlo Magno ha avuto tante figlie, sia legittime sia illegittime. Queste stanno tutte a corte con lui. Stanno a corte con lui e i cronisti sono perfino stupiti dall'amore che Carlo Magno ha per tutte queste ragazze. Ecco, attenzione, non credo che sia il caso qui di fare delle suggestioni, come dire, imbarazzanti. Non c'è niente del genere. Però di sicuro Carlo Magno amava la compagnia delle sue figlie e anche delle sue nipoti. Fa venire a corte le bimbe dei suoi figli, appena può, gli piace stare in mezzo a tutte queste donne giovani, ed era talmente attaccato a queste figlie che non aveva voglia di lasciarle sposare. Questa è una cosa che specialmente Ginardo nota con un po' di sorpresa. Dice, le amava così tanto che non voleva che si sposassero e se ne andassero via. E pur di tenerle con sé, era disposto a chiudere un occhio. Mi spiego, la corte di Carlo Magno negli ultimi anni dà la sensazione di un posto dove si conduce una vita molto libera. Ci sono tutte queste donne ormai adulte che non si sposano perché papà non vuole, ma che vivono nella corte piena di uomini, piena di gente importante, di gente in gambe, di guerrieri, di intellettuali. E tutte queste ragazze e queste donne hanno relazioni con questi uomini. Diverse figlie di Carlo Magno hanno delle relazioni ufficiali con personaggi importanti della corte, nascono anche dei bambini e non si sposano. E tutti dicono a Carlo Magno piaceva così, gli piaceva tenersi tutti insieme, tutti vicini, non dover rinunciare a niente. Bene, sulle donne di Carlo Magno credo che abbiamo detto abbastanza, ci sentiamo lunedì prossimo. Carlo Magno ha avuto rapporti molto variegati con il mondo arabo e islamico. Gli arabi li aveva vicini, erano gli arabi di Spagna che prima della sua nascita avevano conquistato tutta la Spagna e si erano anche spinti a un certo punto fin nel cuore della Gallia Franca. Era stato proprio il nonno di Carlo Magno, Carlo Martello, a fermarli a Poitiers. Per cui quando Carlo Magno sale al trono, il confine meridionale del suo regno, che è segnato più o meno dai Pirenei, è un confine con l'Islam. Questo Islam ispanico, questo Islam della Spagna non va però frainteso, non era certamente un Islam militante e integralista. Noi sappiamo che sotto il dominio arabo in Spagna la maggioranza della popolazione continuava a essere tranquillamente cristiana, le chiese cristiane continuavano a funzionare, noi abbiamo notizia di vescovi spagnoli che si fanno i loro ragionamenti teologici e si inventano le loro eresie e poi vengono a partecipare ai concili in occidente senza che le autorità arabe gli impediscano assolutamente di muoversi. Quindi è una di quelle realtà, oggi un po' difficili da immaginare purtroppo, ma di cui i manuali ci parlano spesso, dell'Islam tollerante del passato. Però comunque si trattava di un confine e come sappiamo Carlo Magno sui confini non stava mai tranquillo. Se non era minacciato lui era più facile che fosse lui a minacciare gli altri. E questo è proprio quello che succede sul suo confine pirenaico con gli arabi. Bisogna anche dire che il mondo arabo di Spagna al tempo di Carlo Magno non era compatto, non era unito. La Spagna araba era divisa in tanti governatorati, ciascuno col suo emiro che spesso faceva la guerra al vicino. In questo contesto chiaramente un potente regno confinante come quello franco poteva intervenire facilmente. E quindi Carlo Magno a un certo punto decide di fare la guerra anche a questi suoi vicini arabi di Spagna. Non c'è dubbio che decide di farla soprattutto per ragioni imperialistiche, perché gli piace l'idea di espandere il suo potere al di là dei Pirenei. Ma ci sono poi anche motivazioni religiose che magari non sono quelle iniziali, ma che vengono buone per la propaganda. In Spagna vivevano i cristiani e certamente alcune di queste comunità cristiane avranno visto di buon occhio l'idea che il re Franco, protettore di tutta la cristianità, scendesse giù dai Pirenei e venisse a liberarli dal gioco arabo. Poi magari il gioco arabo non era così pesante, ma nella propaganda tornava buono anche questo. E quindi Carlo Magno a un certo punto pianifica una grande campagna contro gli arabi nell'anno 778. Approfitta del fatto che gli emiri di Saragozza, di Barcellona stanno litigando fra loro, che uno di questi emiri chiede aiuto ai franchi contro il suo rivale e immediatamente i franchi arrivano in suo soccorso. Dopodiché va anche detto che questa guerra va a finire male. È una delle campagne più fallimentari di Carlo Magno. Non riesce a conquistare Saragozza, che aveva assediato, e alla fine se ne torna indietro senza avere concluso niente. Questo però è solo l'inizio. Negli anni successivi Carlo Magno non verrà più personalmente in Spagna, ma i suoi generali e poi suo figlio Ludovico, che viene incaricato di questo, continuano per parecchi anni a guerreggiare al di là dei Pirenei. E alla fine un piccolo pezzo di Spagna viene annesso al Regno Franco. Il potere di Carlo Magno viene spinto al di là dello Spartiaco e Pirenaico fino all'Ebro. È quella che è poi rimasta sempre una regione un po' speciale della Spagna. Quella regione dove si parla un dialetto che assomiglia molto al Provenzale e che si è sempre considerata più europea del resto della Spagna, la Catalogna. La campagna condotta personalmente da Carlo Magno contro gli arabi di Spagna nel 778 andò molto male soprattutto per la sua conclusione. È un episodio molto famoso su cui vale la pena che ci fermiamo. L'esercito Franco dunque stava risalendo le valli dei Pirenei per tornarsene in patria senza aver combinato niente, quando improvvisamente la retroguardia dell'esercito viene assalita a sorpresa e praticamente sterminata. Il cronista Eginardo ci dice che in questo combattimento morirono parecchi personaggi importanti della corte di Carlo Magno e fra gli altri uno che Eginardo chiama Hrwodlandus e che era, dice, il comandante responsabile del confine con la Bretagna. Ora questo Hrwodlandus, per citarlo appunto nel latino di Eginardo, non è nient'altri che Rolando, o se preferite Orlando. Il paladino che è protagonista delle canzoni di gesta della chanson de Roland e che poi è protagonista appunto di tutta l'epica successiva della nostra epica rinascimentale, l'Orlando innamorato e l'Orlando furioso. Ecco tutta la saga di questo personaggio che, come sappiamo, ha un ruolo abbastanza centrale nella nostra letteratura cavalleresca, sia quella medievale sia poi quella dei poemi rinascimentali, del Boiardo, dell'Ariosto. Ecco, per non parlare poi dell'opera dei pupi naturalmente, questo personaggio che nel nostro immaginario collettivo ha sicuramente un suo ruolo, il paladino Orlando, il suo aggancio storico è tutto qui. Il racconto di Eginardo per cui durante la ritirata dell'esercito franco dalla Spagna la retroguardia venne assalita, esterminata e fra i morti ci fu appunto questo Rodlandus. Cosa sappiamo di più su questo episodio? Non tanto a dire la verità, ma la cosa affascinante è appunto vedere come una vicenda tutto sommato abbastanza secondaria sia poi stata mitizzata, abbia assunto uno status importantissimo nella nostra letteratura. Tanto per dire, questa è la battaglia che tutti noi conosciamo come la battaglia di Roncisvalle. C'è la canzone di Orlando che appunto racconta l'assalto di questa marea musulmana che aggredisce i franchi, Orlando che si difende fino all'ultimo, non vuole suonare il corno perché non vuole passare per vile, poi finalmente si lascia convincere, suona il corno per chiedere aiuto e troppo tardi i musulmani li sommergono e questo avviene nelle gole di Roncisvalle. Bene, già questa è un'invenzione, nel senso che le fonti dell'epoca non dicono assolutamente niente su dove sia avvenuta la battaglia e solo dopo, quando da molto tempo correvano i racconti, le leggende, quando i giullari cominciavano a scrivere le canzoni su questa battaglia, che qualcuno ha detto, beh, vediamo un pochino dove sarà avvenuta precisamente e che si è individuato questo passo di Roncisvalle che da allora è diventato storico appunto come il luogo della grande battaglia, ma non c'è assolutamente niente che ci garantisca che sia andata davvero così. L'altro aspetto su cui la leggenda si allontana in modo vistoso dai pochi dati storici che possediamo è questo, che per quanto ne sappiamo non sono stati affatto gli arabi ad assalire la retroguardia franca e a uccidere il paladino Orlando. Tutto ci indica che questo agguato venne compiuto dagli abitanti delle montagne, i baschi, che già allora erano evidentemente gente fiera che sopportava poco intromissioni straniere e che quindi al passaggio di questo esercito l'hanno aggredito, ma che erano cristiani, non erano minimamente musulmani. Gli arabi, per quanto ne sappiamo, non c'entrano niente. La disfatta di Roncisvalle e la morte di Orlando avvennero per mano cristiana. I rapporti di Carlo Magno con il mondo islamico non si limitano alle guerre sul confine dei Pirenei contro gli arabi di Spagna. Sono in realtà rapporti molto più complessi e anche più pacifici, se Dio vuole. Il mondo islamico a quell'epoca aveva un suo leader internazionale, che aveva più o meno lo stesso statuto che Carlo Magno poteva avere tra i cristiani. Una specie di imperatore con connotazioni anche sacrali, religiose. Era il califfo, il califfo di Baghdad, che gran parte del mondo arabo riconosceva appunto come capo politico e religioso. Ora, al tempo di Carlo Magno, il califfo di Baghdad era un altro personaggio leggendario. Un personaggio cioè che è davvero esistito, ma che poi è passato nella letteratura e diventato una specie di icona, Harun al-Rashid. Il califfo di Baghdad che per esempio nelle mille e una notte ritorna spesso come protagonista di racconti, di leggende. E che nell'immaginario collettivo del mondo arabo è rimasto come una figura significativa, appunto protagonista di innumerevoli aneddoti. Anche più di Carlo Magno, se vogliamo. Ecco, con il califfo di Baghdad Carlo Magno in generale ha avuto buonissimi rapporti. Tanto per cominciare non confinavano. Non avevano confini comuni, quindi non avevano nessun motivo di litigare. Gli arabi di Spagna, che hanno dato tante scocciature a Carlo Magno, erano ribelli al califfo, non gli ubbidivano. E quindi a Harun al-Rashid non importava proprio niente che Carlo Magno combattesse in Spagna. Anzi, gli faceva forse piacere. Fra l'impero arabo e quello franco c'era una specie di cuscinetto, l'impero bizantino, odiato da tutte e due. Altro buon motivo per cui l'imperatore cristiano e il califfo islamico potevano benissimo andare d'accordo. E fatto sta che in effetti d'accordo andavano. Noi sappiamo che si scambiavano con una certa frequenza ambasciate, messaggeri, regali, su questo poi torneremo, e che in generale si riconoscevano rispettivamente l'uno con l'altro come due grandi potenze internazionali abbastanza lontane, che non hanno nessun motivo di bisticciare e che appunto si rispettano. Ma in modo particolare vorrei sottolineare che Carlo Magno aveva un motivo per cui gli conveniva avere buoni rapporti con il califfo di Baghdad. L'autorità del califfo a quell'epoca si stendeva anche sulla Terra Santa, su Gerusalemme, che gli arabi avevano conquistato un po' di tempo prima, al tempo della loro grande espansione dopo Mahometto. La Terra Santa e Gerusalemme erano in mani arabe. Siccome appunto in quell'epoca l'islam era una civiltà aperta e tollerante, in Terra Santa continuavano a esistere comunità cristiane, continuava a esserci una chiesa cristiana, un patriarca cristiano insediato a Gerusalemme e i pellegrini europei andavano in pellegrinaggio al Santo Sepolcro. Dobbiamo anche pensare che per i cristiani del Medioevo il pellegrinaggio era una cosa importante, era un atto di fede molto sentito. Per cui era importante per i cristiani d'Occidente sapere che si poteva andare liberamente in pellegrinaggio a Gerusalemme, al Sepolcro di Cristo. E Carlo Magno stringe accordi con Harun al-Rashid proprio in questo senso. Il califo si impegna a garantire e proteggere i pellegrini cristiani che vengono in Terra Santa. Anzi a un certo punto fa addirittura di più, in segno di buona volontà, regala a Carlo Magno il piccolissimo territorio su cui c'è il Santo Sepolcro, il Sepolcro di Cristo, che quindi va sotto la giurisdizione personale di Carlo Magno. E infatti a un certo punto il patriarca cristiano di Gerusalemme manda a Carlo Magno le chiavi del Santo Sepolcro, riconoscendolo come protettore dei luoghi santi. Gli scambi di ambascerie fra Carlo Magno e il califo di Bagdad erano anche scambi di regali. Questo naturalmente faceva parte dell'etichetta dell'epoca. Due potenti si scambiavano non soltanto messaggi madoni per dimostrare ciascuno non solo la sua buona volontà e la sua amicizia, ma anche la sua potenza. In effetti il regalo era una cosa un po' a doppio taglio. Più è lussuoso il regalo e più in qualche modo guadagna, in termini di immagine, chi lo fa, non chi lo riceve. E quindi chiaramente era una gara per chi faceva i regali più sontuosi. Una gara che il califo vinceva a mani basse, perché non dobbiamo dimenticare che in quest'epoca il livello di vita e di tecnologia dell'Occidente è molto molto basso. Il mondo musulmano è chiaramente una marcia più avanti dal punto di vista della ricchezza. E questo si vede nei regali. I cronisti occidentali, quando raccontano che è arrivato un ambasciatore dal califo e portava dei regali, sono tutti lì con gli occhi spalancati. E lungamente si fermano a commentare questi regali straordinari che arrivano. Scimmie, tessuti preziosi, aromi orientali, unguenti, un orologio meccanico con automi e suoneria, una tenda da campo, cosa mai vista in Occidente evidentemente. Ecco, Carlo Magno si sforzava in qualche modo per rispondere. Mandava al califo cani da caccia, cavalli, muli. Però non si ha l'impressione che i cronisti arabi fossero molto impressionati da questi regali in generale. Il regalo più straordinario che a un certo punto Carlo Magno riceve è l'elefante. Questa faccenda dell'elefante mandato in dono dal califo a Carlo Magno fece una tale impressione che ne parlano parecchi contemporanei, come se fosse veramente un affare di Stato. Aveva anche un nome questo elefante, si chiamava Abul Abbas, nome arabo che tutti i cronisti franchi devotamente ricopiano con precisione. Questo elefante Abul Abbas arriva in Occidente, arriva al palazzo e fa sensazione. Questa non era un'epoca scientifica, abbiamo pochissimi interventi di intellettuali di quest'epoca che abbiano un tono in qualche modo appunto di osservazione scientifica. L'elefante fa eccezione. Nel caso dell'elefante c'è un intellettuale di corte, un irlandese, Diquil, che a un certo punto si mette a fare delle osservazioni scientifiche sull'elefante, cosa appunto assolutamente inaudita per questi barbari. Questo irlandese dice, beh, i geografi romani quando parlano degli animali esotici dicono che l'elefante non si sdraia, che dorme in piedi. Non è vero, io ho visto che si sdraia come un bue e tutto il popolo del regno dei franchi ha visto la stessa cosa quando c'era l'elefante al tempo dell'imperatore Carlo. Ecco, possiamo solo immaginarci queste folle che stazionavano fuori dal palazzo per vedere l'imperatore, sì, ma soprattutto per vedere l'elefante, che era evidentemente la cosa grandiosa. Tant'è vero che quando l'elefante muore, poco tempo prima della morte di Carlo Magno, la cosa viene vista come un pessimo presagio e gli annali di corte registrano questo fatto. È morto l'elefante. Ecco, detto questo, dispiace dirlo, ma va detto, se uno va a vedere il protocollo del governo del califo, dove tutti i regali erano accuratamente graduati in base all'importanza di chi li riceveva, l'elefante, secondo l'etichetta araba, era classificato come un regalo di seconda categoria, di quelli che si facevano ai sovrani subordinati, inferiori. Questo naturalmente i franchi non lo sapevano e comunque gli ambasciatori di Carlo che sono tornati con l'elefante, anche se l'avevano capito, all'imperatore non l'avranno detto. Ma cerchiamo un po' di capire perché questo fu davvero l'avvenimento più importante, non solo e non tanto forse per Carlo Magno, che in fondo aveva già 60 anni, aveva già compiuto il grosso delle sue imprese, quanto per la posterità, quanto per la storia d'Europa. Ecco, per capire la rilevanza di questo evento nella nostra storia bisogna tornare indietro. Bisogna ricordare che al tempo di Carlo Magno da parecchi secoli non c'era più un imperatore romano in Occidente. Tutti ricordano la data del 476 quando venne deposto Romolo Augustolo e l'impero romano in Europa occidentale cessò di funzionare. Naturalmente c'era ancora un imperatore romano, quello d'Oriente, quello che sedeva a Costantinopoli. Ma l'Occidente era stato conquistato dai barbari, fra cui i franchi che ormai ben conosciamo, e i capi di questi barbari, per quanto potenti, non avevano mai osato prendere il titolo di imperatore. Si chiamavano semplicemente re, un titolo che secondo l'etichetta romana e bizantina era un titolo in realtà inferiore, indicava il capo di un singolo popolo, ecco era un titolo etnico in qualche modo. Mentre il concetto di imperatore aveva tutta un'altra portata. Imperatore voleva dire qualcuno che può governare una moltitudine di popoli. E il concetto di imperatore aveva anche un senso religioso in questa Europa che ormai era tutta integralmente cristianizzata. Imperatore voleva dire uno che può pensare di dominare su tutto il mondo cristiano. Ecco, Carlo Magno era inizialmente soltanto il re dei franchi, ma noi sappiamo che progressivamente la sua attività politica e militare lo porta appunto a allargare il suo potere. Sottomette i Longobardi, diventa re dei Longobardi, allarga la sua dominazione in Germania su popoli nuovi, i Sassoni, allarga il suo potere al di là dei Pirenei sui cristiani che vivono in Catalogna. In buona sostanza, Carlo Magno nella sua maturità, anche se continua a essere soltanto un re, di fatto si trova a essere il capo praticamente di tutti i cristiani che vivono in Occidente. Con pochissime eccezioni, giusto quelli delle isole britanniche sfuggono al suo controllo, ma in quel momento si tratta di territori lontani, marginali. Invece, per esempio, anche tutti i cristiani che vivono in Spagna sotto dominazione araba, riconoscono in Carlo Magno la loro guida e il loro protettore. Perfino le comunità cristiane in Terra Santa, anche quelle sotto dominazione musulmana, riconoscono nel re dei Franchi il leader del mondo cristiano. Ecco, questo nuovo statuto che Carlo Magno assume, a un certo punto, viene apertamente discusso dai suoi contemporanei. Nella letteratura prodotta alla sua corte, anche nelle lettere, nella corrispondenza diplomatica, si comincia a parlare appunto di Carlo Magno come del capo di un nuovo Israele. Se ne parla come del nuovo Davide e del nuovo Costantino. E questo è fondamentale, perché Costantino era stato l'imperatore che tanti secoli prima aveva traghettato l'impero romano verso il cristianesimo, che per la prima volta aveva dimostrato che queste due realtà che fino a quel momento si erano combattute, l'impero e il cristianesimo, potevano invece collaborare, addirittura sovrapporsi. Ecco, quando noi vediamo che ancora prima dell'anno 800, prima dell'incoronazione imperiale, intorno a Carlo si comincia a parlare di lui come di un nuovo Costantino e si comincia a parlare dei suoi possedimenti come di un impero cristiano, ecco, ci rendiamo conto che qualcosa è cambiato profondamente negli equilibri politici dell'Europa. L'incoronazione imperiale di Carlo Magno avviene a Roma, in San Pietro, e questo è un dato estremamente significativo. Diventare imperatore non è qualcosa che un re, anche un re potente come diventato Carlo, possa fare di sua iniziativa. Per assumere un titolo del genere e non farsi ridere dietro dalla gente, ma al contrario far accettare questo nuovo rango dai popoli sottomessi, anche Carlo Magno ha bisogno di una legittimazione. Ha bisogno che un potere ancora superiore garantisca che lui davvero è il nuovo imperatore. E questo potere ancora superiore è soltanto Dio che può darlo. Dio è il suo rappresentante in terra, il papa a Roma. Il fatto che i papi a un certo punto abbiano cominciato a prendere in considerazione l'idea che forse il re dei franchi, poteva essere trasformato in un nuovo imperatore romano, è una svolta politica enormemente importante. E' veramente difficile esagerare l'importanza di questa cosa anche per la formazione di una certa idea d'Europa. Perché appunto, ricordiamocelo, anche se noi in Occidente lo dimentichiamo facilmente, l'impero romano non era morto, continuava a esistere e a prosperare nella parte orientale del mondo cristiano. E però questa parte orientale lentamente si stava distaccando dall'Occidente. In Occidente si scriveva in latino e in Oriente si parlava, si scriveva, si pregava in greco. In Occidente più o meno tutte le chiese locali accettavano di riconoscere nel Vescovo di Roma, nel successore di San Pietro, il loro leader. Mentre le chiese greche erano molto meno convinte. Erano molto meno convinte del fatto che davvero si dovesse in qualche modo subordinarsi a un Vescovo occidentale, latino, sia pure prestigioso come quello di Roma. Ora, i papi di Roma da molto tempo avevano capito di aver bisogno di un forte alleato in Occidente. Da molto tempo avevano avviato un rapporto, come dire, privilegiato con il re Franco. Sappiamo che le guerre di Carlo Magno erano sempre state benedette dai papi come guerre contro i pagani, contro i nemici di Dio. Però al tempo stesso i papi avevano sempre mantenuto uno stretto rapporto col vero imperatore romano, chiamiamolo così perché in fondo è così, col vero imperatore romano che stava a Costantinopoli. Bene, quello che succede a un certo punto è che rende possibile l'incoronazione imperiale di Carlo Magno è che questo rapporto fra Roma e il mondo greco cristiano entra in crisi. Al tempo di Carlo Magno i papi non sono più per niente soddisfatti di quello che sta succedendo fra i cristiani d'Oriente, fra i cristiani dei Balcani, dell'Asia Minore, perché questo in fondo è l'impero bizantino. L'imperatore bizantino si dà tante arie ma non è più capace di difendere l'Italia. Se dipendesse da lui i Longobardi avrebbero conquistato Roma da un pezzo. Sono i franchi che l'hanno difesa. La chiesa greca, certo, sono fratelli, sono cristiani anche loro, ma intanto non si capisce quando parlano. La loro liturgia non è più tanto simile alla nostra. Se siano loro, se siamo noi che abbiamo cambiato, chi lo sa. Ma certo, la liturgia della chiesa greca, vista da Roma, comincia a far alzare qualche sopracciglio e viceversa naturalmente. Le due chiese non si capiscono, si parlano poco, si vogliono bene sempre meno. È in questo contesto sostanzialmente che a Roma può cominciare a maturare questo progetto che a questo punto si capisce è destinato a avere conseguenze epocali, perché vuol dire tagliare il cordone ombelicale con la cristianità d'Oriente e con l'Europa orientale e decidere che l'Occidente, l'Occidente a radice latina e germanica, d'ora in poi farà da sé. Tanto da ricrearsi un suo imperatore occidentale e che se Dio vuole parla e scrive in latino e non in greco. Perché si possa realizzare un progetto colossale come l'incoronazione del re dei franchi a nuovo imperatore romano, nuovo imperatore d'Occidente, naturalmente occorrono anche delle condizioni, come dire, politiche del momento, delle condizioni congiunturali. E queste condizioni si realizzano appunto con l'avvicinarsi dell'anno 800. A Roma è stato eletto un nuovo papa, Leone III. E questo nuovo papa è un personaggio controverso. Certamente è un personaggio politicamente debole, isolato. Non ha i legami giusti con le grandi famiglie romane e con le fazioni della corte pontificia e questo conta a quell'epoca. Non ha i legami giusti, è visto con diffidenza, è un parvenu e sul suo conto, sul conto di questo nuovo papa, Leone III, cominciano presto a circolare voci inquietanti. Accuse di malversazioni, di gestione disinvolta dei fondi, accuse anche che riguardano la sua vita privata. Ecco, queste accuse a un certo punto arrivano anche alla corte di Carlo Magno, che dopo tutto non è ancora l'imperatore, ma è già da un pezzo, il grande re dell'Occidente, il leader di tutti i cristiani. Queste voci arrivano e Carlo Magno decide che è suo dovere indagare. Certo, non è facile indagare sul papa. Questo ci dà la misura della statura politica che aveva ormai raggiunto Carlo. È lui che può assumersi la responsabilità di mandare una commissione d'inchiesta a Roma per verificare se queste strane voci che corrono sul conto del papa in qualche modo abbiano un fondamento. Noi ne sappiamo molto poco, si può immaginare che una vicenda del genere sia stata insabbiata molto profondamente, però qualche cosa che non funzionava c'era di sicuro. La commissione d'inchiesta che arriva a Roma spedisce un rapporto a Carlo Magno e Carlo Magno lo legge insieme con i suoi più intimi collaboratori, con Alcuino per esempio, e poi decide di bruciarlo. Che nessuno deve vederlo questo rapporto su cosa davvero sta combinando il papa. E Alcuino risponde ai vescovi della commissione d'inchiesta che se ne stanno a Roma a continuare la loro indagine. La risposta di Alcuino ce l'abbiamo e l'argomento principale è chi è senza peccato scagli la prima pietra. Quindi insomma evidentemente qualche cosa sulla moralità di questo papa Leone III c'era. Bene, a un certo punto la situazione precipita. A Roma c'è un'insurrezione dei nemici di Leone III. Leone III fugge da Roma. Fugge da Roma, va a rifugiarsi presso Carlo che in questo momento si trova nel cuore della Germania, nel cuore della Sassonia conquistata, a Paderborn, dove sta edificando una nuova città. Prima che arrivi il papa arrivano voci mirabolanti sul suo conto. Si dice che i congiurati l'hanno aggredito e prima di lasciarlo andare l'hanno accecato e gli hanno tagliato la lingua. Ecco queste erano simpatiche abitudini bizantine per cui quando non si voleva avere sulla coscienza una morte si toglievano di mezzo i nemici politici impedendogli di continuare a fare politica. Ecco, accecare qualcuno e tagliargli la lingua era il modo garantito per impedirgli di continuare a fare politica senza avere, come dire, la sua morte sulla coscienza. Dunque, grande aspettativa, grande ansia. Poi il papa finalmente arriva a Paderborn, ha attraversato mezza Europa in fuga da Roma, momentanea delusione. A quanto pare il papa ci vede benissimo e parla. Ma Leone III spiega che davvero gli avevano cavato gli occhi e gli avevano strappato la lingua e poi la provvidenza miracolosamente gli ha fatto ricrescere tutto. E tutto sommato per cortesia si fa finta di credergli. Ecco, è in questo momento, nell'estate 799, nel caldo soffocante di Paderborn, che Carlo Magno e il papa cominciano seriamente a discutere di questa cosa grandiosa che vogliono fare, l'incoronazione imperiale di Carlo Magno. Nel corso dell'anno 800 vengono perfezionati i dettagli della cerimonia. Possiamo soltanto immaginare, perché ne sappiamo poco, ma certamente ci saranno voluti negoziati anche intensi fra la corte papale e quella del re Franco per arrivare a stabilire, insomma, i particolari di una svolta politica così grossa. Finalmente, nell'autunno dell'800, Carlo Magno scende a Roma. Scende a Roma, il papa gli va incontro con tutte le forme previste per gli antichi imperatori, già capiamo insomma qual è il clima, e finalmente il giorno di Natale, dopo che Carlo Magno ha pubblicamente assolto il papa da tutte le accuse che circolavano sul suo conto, finalmente il giorno di Natale avviene la cerimonia. Carlo entra nella Basilica di San Pietro per pregare, e mentre è inginocchiato a pregare, il papa gli si avvicina e gli mette sulla testa la corona imperiale. Il popolo circostante, che poi sarà stato essenzialmente il clero della Basilica Vaticana, acclama Carlo come imperatore Augusto dei Romani. Ecco, sono state rispettate, notiamolo, tutte le forme classiche previste dal rituale imperiale romano, e veramente, nelle intenzioni, l'impero romano che dopo una sospensione ricomincia a funzionare in Occidente. La corona, per esempio, noi siamo abituati a immaginare che ogni re abbia una corona in testa, e invece la corona a quell'epoca praticamente non esisteva. I re barbari non avevano corona. La corona, o meglio il diadema, era esclusivamente un simbolo imperiale. Quindi possiamo immaginare appunto la rilevanza politica di questo gesto con cui il papa la pone sul capo di Carlo. Però, 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 in questa faccenda ci sono anche delle stranezze. E Ginardo, il biografo di Carlo Magno, sostiene che Carlo uscì furibondo da San Pietro. Non era per niente contento di come erano andate le cose, e anzi, secondo Ginardo, Carlo Magno affermò che se avesse saputo che andava a finire così, quel giorno non sarebbe andato a San Pietro. Ecco, tutti naturalmente si sono scervellati per capire che cosa voleva dire Eginardo con questa storia. Sarebbe ingenuo pensare che il papa abbia incoronato imperatore Carlo Magno a sorpresa e che Carlo Magno non ne sapesse niente. È chiarissimo che un passo di questo genere era stato lungamente preparato. Quindi il punto non è questo. Può anche darsi, beninteso, noi dobbiamo fare attenzione a fidarci dei nostri cronisti. Eginardo stava imitando spudoratamente Svetonio, l'autore delle vite dei Cesari. E Svetonio, questo appunto antico storico romano, regolarmente sottolineava la modestia degli imperatori, che non volevano questo onore, che facevano di tutto per respingerlo. Ecco, quindi può anche darsi che quando Eginardo dice che Carlo Magno era scontento, stia semplicemente costruendo questo quadretto della modestia del suo protagonista. Ma può anche darsi che ci sia qualcosa di più. E questo qualcosa di più sta proprio nel tipo di cerimoniale che era stato applicato. Il papa ha messo con le sue mani la corona sulla testa di Carlo. E questo ha una valenza simbolica. Per questa gente la simbologia politica era fondamentale. È il papa che l'ha incoronato. Questo potere Carlo lo ha ricevuto dal papa. È come sottolineare che il papa in qualche modo sta su un gradino superiore. E siccome noi sappiamo bene che per tutto il Medioevo gli imperatori, successori di Carlo Magno, avranno interminabili fastidi da parte dei papi, che appunto pretendono di essere superiori, ecco possiamo immaginare che un politico sveglio come Carlo Magno abbia colto subito queste implicazioni. E forse è per quello che dopo tutto non era tanto contento quando uscì da San Pietro. Già come re dei Franchi e poi ancora di più dopo la sua incoronazione imperatore, Carlo Magno esercitava un potere assoluto sui suoi subiti. Era una figura sacra del resto. L'incoronazione comportava anche l'unzione con l'olio benedetto e questa unzione faceva del re un personaggio diverso dai semplici laici. Ne faceva quasi un sacerdote. Tanto che la formula ricorre a proposito di Carlo Magno. Re e sacerdote. Certo Carlo Magno non si è mai messo in testa di dire messa e non avrebbe potuto farlo, ma era sacerdote in quanto in qualche modo rappresentava il tramite fra i suoi popoli e Dio. Era una figura sacra e non per niente sappiamo che nella giornata di Carlo Magno avevano così tanta importanza i rituali religiosi. Non per niente Carlo Magno si svegliava ogni mattina all'alba per sentire il mattutino e concludeva la sua giornata con la messa. Questo colloquio quotidiano con Dio era parte integrante dei suoi doveri e da questo derivava il potere di vita e di morte che il re e poi imperatore aveva sui suoi sudditi. Normalmente a quest'epoca se qualcuno commetteva un omicidio non era neanche la legge che si preoccupava di punirlo, era la famiglia del morto che aveva il diritto di trarre vendetta e il re rispettava questa vendetta. Era parte delle regole del gioco. Ma invece se il re faceva mettere a morte qualcuno nessuno aveva il diritto di vendicarlo. Questo era stabilito chiaramente nella legge. Se qualcuno insieme col re avrà ucciso un uomo non sia colpevole di nulla. Poiché infatti crediamo che i cuori dei re siano nelle mani di Dio, e questa è una citazione dalla Bibbia, dal libro dei proverbi, non è possibile vendicare colui che il re ha ordinato di uccidere. Però dobbiamo fare attenzione perché questo potere di vita e di morte che Carlo Magno aveva su tutti i suoi sudditi era temperato, era moderato da obblighi molto precisi. Un re, un imperatore non poteva essere un tiranno. Il suo potere doveva essere esercitato con moderazione e la chiesa sorvegliava l'esercizio del potere. Tutti sapevano distinguere perfettamente un re che esercitava il suo potere assoluto nell'interesse collettivo, mentre invece il sovrano che lo esercitava in modo capriccioso perdeva i suoi diritti. Contro di lui era possibile ribellarsi e anzi in generale i sovrani capricciosi non duravano a lungo. Carlo Magno dunque si trovava in questa situazione contraddittoria, personaggio sacro che faceva da tramite fra Dio e i suoi sudditi, che esercitava sulla gente un potere di vita e di morte, ma che era tenuto a esercitarlo con moderazione, con clemenza. E su questo ultimo punto della clemenza vale la pena di fermarci, perché ci dà anche il senso delle differenze fra un'epoca e l'altra. Carlo Magno, lo sappiamo, era un personaggio facilmente collerico che in vita sua ha commesso anche eccessi, crudeltà, ma appunto erano eccessi, di cui poi doveva fare penitenza. Il suo ruolo era un altro e quello che colpisce di più è il fatto che molto spesso i nemici peggiori di Carlo Magno, i ribelli più ostinati, quando vengono alla fine catturati, non sono messi a morte. Carlo Magno quando ha nelle sue mani il re desiderio, oppure Tassilone, duca di Baviera, che più volte si era ribellato contro di lui infrangendo la sua fede, li fa chiudere in monastero, perché passino lì il resto dei loro giorni, meditando sui loro peccati e se possibile salvandosi l'anima. Ecco, la differenza rispetto alle usanze politiche, anche soltanto del ventesimo secolo, è evidente e ci dà appunto il senso di questo potere che non era una tirannide. Il potere del re era moderato dal suo stesso popolo. Infatti uno degli obblighi principali di Carlo Magno come re dei franchi e poi imperatore era di radunare ogni anno un'assemblea che in teoria avrebbe dovuto essere e continuava a essere chiamata l'assemblea di tutti i franchi. Questa era un'usanza ancestrale che risaliva al tempo in cui i franchi erano soltanto una tribù nomade. Ecco, dobbiamo immaginarseli quei franchi dei primi tempi un pochino come gli indiani d'America sostanzialmente. Pochi, tutti i guerrieri liberi, tutti sullo stesso piano, anche quando eleggono un capo, questo capo è tenuto a confrontarsi con l'insieme dei suoi guerrieri. Tutti i popoli germanici ai vecchi tempi funzionavano così. Tutti i popoli germanici erano abituati a radunare ogni anno, in primavera, l'insieme dei guerrieri per discutere tutto ciò che andava discusso con il re. Ecco, naturalmente al tempo di Carlo Magno la cosa era un pochino cambiata. Carlo Magno governava un impero immenso in cui vivevano milioni di uomini liberi. Ovviamente era del tutto escluso che si potesse radunare in assemblea la gente. E però l'assemblea come istituzione continuava a funzionare. Era un obbligo preciso di Carlo Magno ogni anno in primavera convocare i rappresentanti del suo popolo. Naturalmente, attenzione, non facciamoci un'immagine troppo democratica. I rappresentanti non erano eletti. Erano i capi locali, i conti che Carlo Magno collocava a governare le province, erano i vescovi come leader spirituali del popolo. Questa era la gente che Carlo Magno ogni anno radunava in assemblea. Ma questo era comunque un momento indispensabile. Carlo Magno non poteva prendere decisioni, non poteva promulgare nuove leggi senza comunicarle all'assemblea e ottenere l'approvazione dell'assemblea. Noi sappiamo in realtà molto poco su come funzionavano i lavori e io ho qualche dubbio sul fatto che si potesse per esempio votare contro. Non era quello il clima, credo. E tuttavia era come dire un momento simbolico in cui si celebrava la concordia fra il sovrano e il suo popolo. Questa assemblea si teneva in origine all'inizio della primavera, a marzo. Infatti aveva anche un suo nome, si chiamava il Campo di Marzo. E si teneva a inizio primavera perché poi i franchi impiegavano il resto dell'anno a fare quello che gli piaceva fare di più e che sapevano fare bene, cioè la guerra. Siccome nell'esercito di Carlo Magno, e ne parleremo poi anche di questo, la cavalleria contava sempre di più e quindi le spedizioni militari di Carlo comportavano lo spostamento di un gran numero di cavalli e poi di buoi per trainare i carri dei rifornimenti, col tempo la data dell'assemblea si sposta sempre più avanti. Perché si deve aspettare che ci sia l'erba nei prati in abbondanza, perché subito dopo l'assemblea si parte in guerra. Quindi le assemblee di Carlo sono convocate sempre più tardi, in tarda primavera, a inizio estate. Ma il momento rimane e davvero, come dire, fissa ciclicamente l'andamento degli anni. Ogni anno c'è l'assemblea e poi la guerra. E questa cosa è talmente fondamentale che una volta succede nell'estate del 790 che Carlo Magno non ha nessun nemico da combattere, non è riuscito a mettere in piedi una guerra, è l'unica volta in vita sua. Bene, scrivono i cronisti che il re, quell'anno, per non dare l'impressione di intorpidirsi nell'ozio e buttare via il tempo, navigò lungo il fiume Meno fino al suo palazzo di Sels e da lì ridiscese il fiume e se ne ritornò a Worms. Ecco, finché la vecchiaia non lo inchioderà, il re non può fermarsi, perché tutto il popolo franco vive in lui. Una caratteristica fondamentale del potere di un re franco come Carlo Magno era anche il fatto che il re doveva continuamente spostarsi all'interno del suo regno. Non esisteva in quest'epoca nemmeno il concetto di una capitale. Certo, altri stati ben più antichi come l'impero di Costantinopoli, per esempio, avevano una capitale. Perfino i Longobardi in Italia avevano una loro capitale a Pavia. I franchi non avevano la capitale. Carlo Magno passa tutta la sua vita spostandosi incessantemente all'interno del suo regno, dove possiede grandi proprietà fondiarie, ville in campagna e Carlo Magno col suo seguito si sposta da una di queste ville all'altra, oppure visita le diverse città, va a controllare e sorvegliare i vari vescovi, sorveglia il funzionamento degli uffici periferici dell'impero, non si ferma mai. Ecco, una volta si credeva che questo dipendesse dal fatto che l'economia era talmente primitiva che non era possibile neanche l'approvvigionamento della corte e quindi Carlo Magno con tutti i suoi uomini si doveva spostare da una zona all'altra come un branco di cavallette per consumare sul posto le scorte alimentari, i sacchi di grano, i porci salati, le botti di vino. Quando tutto era finito si spostavano da un'altra parte. In realtà questa è un'immagine in qualche misura anche esagerata. Spostarsi era parte dell'arte di governo. Il re doveva farsi vedere, doveva far sentire fisicamente la sua presenza, farsi vedere dai sudditi, in un'epoca senza mass media evidentemente, e soltanto dove lui era presente di persona le cose funzionavano. Dunque non c'era una capitale vera e propria. Questo può entrare in contraddizione con l'immagine che abbiamo di solito della capitale di Carlo Magno a Acquisgrana. Ma in realtà Acquisgrana non è una vera capitale. Acquisgrana è semplicemente un posto dove Carlo Magno, specialmente negli ultimi anni, ama tornare molto più spesso che altrove. E per un motivo semplicissimo, Acquisgrana era un centro termale. A Acquisgrana c'erano le acque calde, che fin dal tempo degli antichi romani erano famose in tutta Europa, e a Carlo Magno queste cose piacevano. Carlo Magno ha sempre amato stare nell'acqua, la piscina, le acque calde, le terme, e quando trova questo posto, che ha appunto degli impianti termali formidabili, decide che quello è il posto dove gli piace stare. Specialmente nell'età appunto matura e poi invecchiaia, quando gli acciacchi si fanno sentire, Carlo Magno sempre più spesso torna ogni anno, dopo la guerra, ad Acquisgrana, a riposarsi e a passare l'inverno in piscina. E quindi Acquisgrana naturalmente ha anche un grosso sviluppo urbanistico. Carlo si fa costruire un palazzo e naturalmente, siccome queste cose hanno una valenza simbolica, manda degli architetti a Costantinopoli per vedere un po' come sono i palazzi dell'imperatore bizantino e poi se li fa copiare. Manda gente in Italia a Roma a portar via statue, marmi preziosi. Però comunque questo palazzo è una residenza, non si tratta di una capitale nel senso di governo. Il governo è ovunque si trova il re con i suoi collaboratori. Lo stesso termine di palazzo, che loro usano molto, non indica tanto l'edificio. Il palazzo, nelle fonti dell'epoca di Carlo Magno, è l'insieme dei collaboratori del re, di quelli che fanno andare avanti la macchina amministrativa. Sono la gente del palazzo, i palatini. E questa parola è quella che poi in italiano, con pronuncia modificata, ha dato i paladini. Ecco, i paladini che noi immaginiamo appunto in un'aura gloriosa, il paladino Orlando, sono in origine semplicemente il gruppetto, la squadra dei collaboratori amministrativi del re, che si spostano con lui e da qualunque sede sono in grado di far funzionare l'impero. La preoccupazione di mantenere, come dire, un filo diretto con il popolo, con la gente, è molto forte in Carlo Magno. E ci sono alcuni momenti della sua vita in cui questo rapporto diretto con i sudditi emerge in modo che è abbastanza impressionante, anche per noi oggi. Se poi pensiamo ai mezzi dell'epoca, la cosa è ancora più impressionante. Ecco, in primo luogo Carlo Magno, che come sovrano emanava leggi, le faceva approvare dall'assemblea, lo sappiamo, ma sappiamo anche che questa approvazione, insomma, non era difficile da ottenere. Ebbene, però, quando queste leggi andavano a cambiare le consuetudini tradizionali dei suoi popoli, perfino Carlo Magno, il sovrano che dominava tutti i cristiani d'Occidente, perfino lui sente il bisogno di far approvare queste novità dalla gente. Ci sono alcuni momenti straordinari in cui Carlo Magno emana nuove leggi che cambiano, magari anche in aspetti marginali, le leggi tradizionali, ancestrali, per esempio, dei Bavari. Ebbene, in questo caso Carlo Magno manda disposizioni ai suoi funzionari in Baviera, dove dice adesso voi convocate tutti gli uomini liberi, ognuno nella sua zona, ognuno nella sua provincia, fate queste grandi assemblee, leggete alla gente le nuove leggi e poi per iscritto io voglio che ogni uomo libero della Baviera venga a firmare, o più facilmente a mettere il suo segno di croce, perché la grande maggioranza dei laici erano analfabeti, in modo che si sappia che queste nuove leggi sono state approvate. Ancora più impressionante è l'occasione, anzi sono due occasioni, in cui Carlo Magno organizza un giuramento di fedeltà a lui come sovrano e impone che tutti gli abitanti dell'impero si presentino a prestare questo giuramento di fedeltà. Di nuovo attenzione, pensiamo alle condizioni dell'epoca, un impero che si estende da Barcellona a Hamburgo, quasi senza strade o comunque con strade miserabili, senza mezzi di comunicazione che non siano corrieri che a cavallo portano le lettere, ebbene in queste condizioni Carlo Magno organizza due volte un giuramento di fedeltà collettivo, in cui chiede che attraverso le autorità locali tutti gli uomini liberi, o si intende i maschi maggiorenni, le donne tanto obbediscono ai maschi e quindi non c'è bisogno di farle giurare, ma tutti i maschi maggiorenni sono convocati dalle autorità locali e tutti in tutto l'impero pronunciano pubblicamente, con la mano sul Vangelo, una stessa formula di fedeltà a Carlo. Ecco, l'organizzazione di questa cosa è forse, come dire, l'aspetto più sbalorditivo dell'attività amministrativa di Carlo Magno. Noi conosciamo le formule anche, ci sono rimaste. Io, tale, prometto nei confronti del mio signore il re Carlo e dei suoi figli che gli sono fedele, è un po' sgrammaticato ma anche nel latino originario è così, e lo sarò per tutta la mia vita, senza inganno e cattive intenzioni. E a noi sono rimaste le lettere che dicono tutti i monaci convocati dal loro abate devono giurare, tutti i preti convocati dal vescovo, tutti i servi convocati dai loro padroni, e così via, insomma. Qualche anno dopo, dopo che Carlo Magno diventa imperatore, decide che non basta più, bisogna far rifare il giuramento, questa volta menzionandolo come imperatore e non più soltanto re. E un'altra volta si rimette in movimento tutta questa faticosissima macchina amministrativa e tutti gli abitanti dell'impero sono chiamati a giurare con la mano sul Vangelo e quindi impegnandosi la loro anima, e questa era la gente che a queste cose ci credeva, tutti sono chiamati pubblicamente a giurare fedeltà al sovrano. Il potere di Carlo Magno si reggeva in gran parte sulla collaborazione con la Chiesa. Noi dobbiamo pensare che a quell'epoca la separazione tra Stato e Chiesa, come la conosciamo noi, praticamente non esisteva. Il re si considerava il capo non soltanto del suo popolo, ma anche della Chiesa del Paese. Il ruolo del Papa era importante, sì, ma da un punto di vista piuttosto onorifico. Chi controllava poi davvero la vita della Chiesa, fino al punto di nominare i Vescovi, era il re. E naturalmente la Chiesa a questo punto era considerata come parte integrante dell'apparato di governo. Carlo Magno, abbiamo detto, aveva una sua ristretta squadra di collaboratori che formava il palazzo e che lo seguiva dappertutto. In questa squadra di collaboratori una parte importante era formata da ecclesiastici. Naturalmente dobbiamo anche pensare che gli uomini di Chiesa erano non gli unici ma quasi che per mestiere dovevano saper leggere e scrivere. E ovviamente per governare un impero personale che sa leggere e scrivere fa comodo. E quindi gran parte degli uomini che governavano per conto di Carlo erano naturalmente uomini di Chiesa. Ma c'è ancora qualcosa di più, qualcosa di più sottile se vogliamo, qualcosa che ha a che fare con la natura sacrale della persona di Carlo. Questo re che ogni giorno, lo abbiamo già detto, ma ripetiamolo perché è fondamentale, che ogni giorno sente messa e non solo la messa ma il mattutino all'alba e i vespri alla sera, deve essere sempre accompagnato da una squadra di ecclesiastici che sono addetti a questa liturgia. E non è una pura forma. È fondamentale perché le cose vadano bene, perché il regno prosperi, perché le guerre si vincano, perché non ci siano epidemie, perché i raccolti vadano bene. È fondamentale che Dio sia contento del re e perché Dio sia contento di Carlo bisogna che lo veda ogni giorno seguire con devozione gli uffici divini. Quindi la squadra degli ecclesiastici che accompagna il re in tutti i suoi spostamenti e che ogni giorno mette in piedi per lui la messa e le altre liturgie ha una funzione in realtà fondamentale nel governo. È uno di quegli aspetti su cui mi fermo perché insomma la nostra mentalità è diversa ovviamente. Se noi vogliamo provare a capire chi era come uomo Carlo e che gente era quella che gli stava intorno, queste cose dobbiamo dirle. La squadra degli ecclesiastici che accompagnava il re tutti i giorni si chiamava la cappella e questi uomini di chiesa si chiamavano i cappellani. Cosa abbastanza ovvia vista da oggi, perché questi termini di cappella e cappellani sono entrati nell'uso comune. Oggi per noi qualunque chiesetta di campagna è una cappella e di cappellani ce ne sono tanti, compresi i cappellani militari. È interessante notare, e credo che pochi lo sappiano, che queste espressioni cappella-cappellani nascono proprio alla corte del re Franco e hanno un'origine molto curiosa. Il santo protettore di Carlo Magno, il santo protettore di tutto il regno Franco era San Martino, il più grande santo della Gallia. Lo conosciamo San Martino, quello che con un colpo di spada ha tagliato in due il suo mantello per darne metà al povero. Il mantello, come si chiamava questo mantello? Nelle fonti dell'epoca in latino si chiamava la cappa. Ora, la reliquia più preziosa che i re Franchi possedevano e che li accompagnava sempre per garantirgli la protezione di San Martino era appunto un frammento della cappa di San Martino. Avevano questo frammento, lo conservavano gelosamente, questo frammento della cappa era conservato in quella che veniva chiamata appunto la cappella e gli uomini addetti a conservarla, gli uomini addetti a conservare questa cappa erano i cappellani. Quindi in origine cappellani sono soltanto gli ecclesiastici della corte di Carlo Magno che custodiscono la cappa di San Martino. La sorveglianza di Carlo Magno sulla chiesa era molto stretta. Carlo Magno era quello che nominava i vescovi, lo abbiamo detto ma anche questo vale la pena di ripeterlo perché è qualche cosa che entra in contraddizione con le nostre abitudini. Noi oggi siamo abituati a una chiesa cattolica in cui è il Papa che da Roma nomina e sorveglia tutti i vescovi della cattolicità. Ecco, allora era un po' diverso. Il prestigio del Papa non si spingeva fino a permettergli di nominare i vescovi. Era l'imperatore che li nominava. Oddio, se volessimo essere veramente precisi, l'imperatore si limitava a suggerire i candidati giusti in modo che poi il clero di ogni città potesse procedere a un'elezione. Ma tutto quello che sappiamo ci fa pensare che questi suggerimenti di Carlo Magno dovessero essere presi molto sul serio. Questo vuole anche dire che la squadra dei cappellani intorno a Carlo Magno era un po' come il vivaio dove lui sceglieva le persone che lo avevano colpito e gli faceva fare carriera. Essere cappellano del palazzo voleva dire essere ben avviati per diventare un giorno vescovo. Possiamo immaginare che quando arrivava la notizia che un vescovo era morto si mettessero subito in movimento parecchi candidati. Tra la soddisfazione generale si era liberato un posto e quindi era il momento di fare intervenire le amicizie importanti. Chi era ben piazzato presso la regina la pregava di dire una parola buona al marito. Chi aveva amici importanti si faceva raccomandare e Carlo Magno sceglieva. Su questa sua capacità appunto di promuovere gli uomini della sua corte e di creare i vescovi c'è un gran numero di aneddoti. Chiaramente questa è una facoltà che colpiva i contemporanei. questo re che di sua iniziativa nomina i vescovi. Per esempio si racconta di quel chierico della corte che venne informato che sarebbe stato nominato vescovo. La nomina era già pronta solo da firmare. Il chierico naturalmente comincia a festeggiare, invita tutti gli amici, fanno una grande bevuta, questa era gente che beveva molto e che si ubriacava volentieri, fanno una grande bevuta e finiscono tutti sotto il tavolo. All'alba Carlo Magno si alza e va in chiesa per il mattutino. Come al solito tutti i chierici sono presenti. Il mattutino, dobbiamo tenere presente anche questo, era una liturgia complessa, cantata. Richiedeva la presenza di molti preti ed ecclesiastici che dovevano cantare a turno i vari pezzi della liturgia. Benissimo, Carlo Magno è lì, avvolto nel suo lungo mantello, forse sonnecchia anche un po', ma intanto segue quello che sta succedendo. Tutti cantano a turno, improvvisamente la liturgia si interrompe. Costernazione generale, Carlo Magno si scuote e comincia a guardarsi intorno con aria seccata. Ovviamente quando Carlo Magno era seccato il clima non era dei migliori. Cosa succede? Manca uno. La liturgia si è interrotta perché manca un chierico. Naturalmente era proprio quello che era stato appena nominato vescovo e che aveva passato la notte a bere e che in quel momento giaceva ubriaco sotto il tavolo. Carlo Magno definitivamente stizzito grugnisce, beh che qualcuno canti. A questo punto un ecclesiastico molto povero, sconosciuto, appena arrivato a corte, prende il coraggio a due mani e canta il versetto giusto. Il finale naturalmente possiamo immaginarcelo. Il poveretto appena arrivato viene nominato vescovo e quello che si era ubriacato e non era intervenuto perde il posto. Naturalmente alla gente piaceva pensare che l'imperatore fosse, come dire, un uomo sì, emotivo, come tutti noi, simile a noi, ma in fondo buono e giusto. È probabile che dietro le nomine dei vescovi ci fossero appunto scelte politiche, calcoli di amicizie, di raccomandazioni ben diverse. Però tutto sommato anche a noi piace immaginarci che ogni tanto episodi di questo genere potessero succedere davvero. Carlo Magno sfruttava molto liberamente le ricchezze della chiesa. A dire la verità le considerava un po' roba sua e i vescovi li considerava un po' come gente sua che veniva piazzata nelle varie diocesi, che doveva amministrare le ricchezze della chiesa e tenerle sempre a disposizione del sovrano, che le usava appunto con la massima libertà. In modo particolare l'abitudine era che ogni anno ogni vescovo e ogni abate di un monastero doveva trasmettere al palazzo dei regali. Non dobbiamo però immaginarci dei regali del tipo appunto di oggetti o pensierini, no. Regali erano i carri carichi di provviste, le mandri di bestiame, gli uomini armati pronti a combattere, tutto un insieme di risorse che erano indispensabili per il funzionamento dell'impero e specialmente delle sue guerre. Questi regali che Carlo Magno si aspettava dalla chiesa erano una parte istituzionale, strutturata nel funzionamento dell'impero. È curioso notare che la parola stessa regalo che noi usiamo nasce da questo. Gli antichi romani non usavano la parola regalo, dicevano donum, dono. Come mai noi usiamo poco la parola dono e invece la parola che è entrata in uso normalmente è appunto regalo. Qual è l'origine? Regalo viene da re. Il regalo è ciò che spetta al re. Ogni vescovo, ma anche ogni notabile dell'impero sa che il re ogni anno vuole grossi regali da lui. Sa che l'impero funziona grazie a questi regali, grazie a queste risorse. Quindi il regalo è ciò che spetta al re. E da qui la parola entra in uso, si diffonde, sostituisce la vecchia parola latina dono. Questi regali, come potete immaginare, non erano a questo punto granché spontanei. Abbiamo conservato una lettera di Carlo Magno a un abate che nell'anno 806 gli dà istruzioni. Gli indica il luogo in cui si radunerà l'assemblea e gli dice quanto ai regali che ci devi portare all'assemblea, mandali entro la metà di maggio. E se per caso potrai organizzare il tuo itinerario in modo da portarceli di persona, preferiamo che tu faccia così. E vedi di non essere negligente se vuoi conservare la nostra grazia. Ecco, come si vede, originariamente il concetto di regalo non prevedeva la spontaneità. E a questo Carlo Magno teneva molto. Ci sono aneddoti in cui lo vediamo anche, come dire, nella sua versione più spiacevole e implacabile quando qualche vescovo lo deludeva dal punto di vista dei regali. Per esempio si racconta di una volta che Carlo Magno arriva improvvisamente in una città, naturalmente cosa fa? Si insedia a casa del vescovo. Il vescovo sta lì anche per quello, per poter ospitare l'imperatore ogni volta che passa, sperando che se ne vada presto, perché ovviamente è piuttosto costoso ospitare Carlo e il suo seguito. E venerdì non si può mangiare carne, il vescovo non trova neanche pesce, si riduce a servire a Carlo Magno un formaggio. Carlo Magno comincia a mangiare questo formaggio. Il vescovo che assiste al pasto, non è seduto a tavola naturalmente, ma insieme con i domestici sta lì in piedi ad assistere, vede che Carlo Magno taglia via la crosta del formaggio e non si trattiene. Gli dice ma cosa fai? Guarda che quella è la parte più buona. Ora Carlo Magno era uno che a volte stava allo scherzo, a volte invece gli saltava la mosca al naso. Stavolta si offende. Assaggia la crosta, dice però è vero hai ragione. Benissimo, d'ora in poi ogni anno mi manderai in regalo due carri di questi formaggi. Il vescovo costernato fa eh ma io non sono sicuro poi di trovarli sempre di questa qualità, sempre così buoni. Ma Carlo è implacabile, gli spiega. Tu li tagli a metà? Controlli. Se sono buoni li richiudi e me li mandi. Se non sono tanto buoni puoi anche tenerli per te. Finora abbiamo visto un impero in cui l'economia era molto più naturale che monetaria, in cui perfino le tasse si pagavano in natura, carri, carichi di grano, bestiame. La moneta esisteva però naturalmente. Non circolava moltissimo perché la moneta era preziosa. Al tempo di Carlo Magno si coniava una monetina d'argento chiamata il denaro e con dodici denari si comprava un bue. Quindi come si può immaginare per le transazioni spicciole il denaro non serviva. Però comunque il denaro c'era, circolava e anzi la riforma monetaria di Carlo Magno è uno degli aspetti più interessanti del suo governo e anche di quelli che hanno avuto conseguenze più di lungo periodo, potremmo quasi dire fino a oggi. Tanto per cominciare Carlo Magno unifica la moneta del suo impero. L'impero l'ha costruito conquistando nuovi regni e nuovi territori. Prima in ciascun regno correvano monete locali. Carlo Magno sente l'importanza di dare alla sua Europa una moneta unica e stabilisce che in tutto l'impero dovrà essere coniato un unico tipo di moneta, appunto il denaro d'argento, secondo specifiche ufficiali che devono essere uguali in tutte le zecche. A questo punto non ci stupisce che qualcuno un po' scherzosamente ma non troppo abbia parlato del denaro di Carlo Magno come di un proto-euro. Effettivamente è la prima volta, dopo i tempi dell'impero romano, che in Europa un'unica moneta corre in tutto il continente. Il significato politico di questa misura è evidente. Le monete passavano di mano in mano ed erano garantite dal fatto che sopra c'era il faccione dell'imperatore e il suo nome. Il nome la gente non lo sapeva leggere ma il faccione lo riconosceva e quindi sapeva che quella moneta era di buon argento e del peso giusto perché l'imperatore lo garantiva. È evidente quindi la funzione politica di stabilità, di garanzia che la moneta dà. Non è un caso se nelle leggi di Carlo Magno i falsari sono puniti in modo estremamente feroce. Raramente, lo sappiamo, le leggi del tempo condannavano a morte i delinquenti. Per i falsari si fa un'eccezione. Ma appunto perché falsificare una moneta non è soltanto un reato economico. Falsificare una moneta vuol dire far perdere la faccia al re. Vuol dire che la gente non si può più fidare che quella moneta con sopra la faccia di Carlo Magno sia buona e quindi il falsario è colpevole di lesa maestà ed è condannato a morte. Dopodiché particolarmente importante per le sue conseguenze durature è il fatto che Carlo Magno stabilisce delle regole precise per la coniazione di questi denari d'argento. Carlo Magno vuole che questi denari abbiano tutti lo stesso peso e quindi manda questo tipo di istruzioni alle zecche. Ogni zecca deve prendere un certo peso d'argento, una libra, e da questa libra d'argento deve coniare 240 denari. Non uno di più, non uno di meno. In questo modo è garantito che ogni denaro avrà il peso giusto. Ecco perché questo è interessante. Perché in realtà in questo modo si uniscono il concetto del valore del denaro con quello del peso, la libra per l'appunto. Col tempo, quando il denaro si svaluta, c'è l'inflazione anche nel medioevo, non soltanto oggi, la gente comincia a abituarsi a usare il termine libra come se fosse una cifra monetaria. 240 denari uguale una libra. Se io ti devo 250 denari diremo che ti devo una libra e 10 denari. Perché mi sto fermando su questo? Perché la libra, la parola libra, comincia a essere usata per indicare un valore monetario. Ed è per questo che molto tempo dopo, in Italia, questa parola libra, semplificata nella pronuncia comune, diventata lira, diventerà il nome della moneta nazionale. Uno dei compiti principali di Carlo Magno, come re dei franchi e poi come imperatore, era la giustizia. Questa non è un'epoca che conosca la separazione dei poteri. Il re incarna nella sua persona sia il potere di fare le leggi, sia quello di farle rispettare, sia il potere giudiziario. Carlo Magno è il giudice supremo del suo popolo. Questo vuol dire molto concretamente che chiunque, almeno in teoria, ha il diritto di sottoporre le sue cause all'imperatore. Chiunque sia stato giudicato dalle autorità locali e voglia fare ricorso, ha il diritto di ricorrere personalmente all'imperatore. Naturalmente Carlo non può gestire davvero lui di persona tutte queste cause, ha bisogno di collaboratori a palazzo che in qualche modo devono filtrare e istruire queste cause, ma certamente una delle funzioni principali che ogni giorno Carlo era chiamato a svolgere era di dare sentenze. E noi sappiamo che appunto a volte già al mattino mentre si vestiva, quando c'era molto lavoro arretrato, cominciava ad ascoltare le cause e a sentenziare. In quanto giudice supremo, il supremo giudice d'appello soprattutto del suo impero, Carlo Magno poi doveva disporre di collaboratori da mandare in giro in tutte le province di questo immenso impero a sorvegliare il funzionamento dei giudici locali. Su questo abbiamo abbastanza informazioni e in genere sono informazioni che ci fanno mettere le mani nei capelli. La sensazione è quella di una giustizia incredibilmente corrotta, dove dappertutto le amicizie, le raccomandazioni, le bustarelle sono quello che fa vincere le cause. Carlo Magno ne è consapevole, in qualche misura cerca di intervenire, ma non è facile farcela. I missi dominici, che sono una di quelle istituzioni dell'impero di Carlo Magno di cui abbiamo tutti sentito parlare a scuola, che ci ricordiamo, i missi dominici sono innanzitutto questo, sono delle commissioni di inchiesta che vengono spedite nelle province quando si è accumulata una quantità esagerata di ricorsi, di proteste, per andare a vedere un po' cosa sta succedendo. In genere succedevano cose tremende. Noi abbiamo una circolare che una commissione di missi mandata da Carlo Magno spedisce ai giudici della provincia dove sta per arrivare e dicono i missi dominici di Carlo Magno ai giudici locali. Badate bene, non dovete dire a quelli che vogliono presentare una querela, state zitti finché i missi non se ne saranno andati e poi ci faremo giustizia fra di noi, perché è in questo modo che i processi vengono insabbiati. Sforzatevi piuttosto di concluderli prima che veniamo da voi. Ecco, se non altro non si può dire che a Palazzo si facessero delle illusioni su quello che succedeva nella giustizia delle province. In realtà però anche i missi dominici erano facilmente corruttibili. Quando Carlo Magno manda nella Francia meridionale uno dei suoi collaboratori più stretti, il vescovo Teodulfo, scrive a casa dicendo ma appena arrivato mi hanno offerto dei regali, io ho detto che non li volevo e sono rimasti tutti stupidissimi. Hanno detto ma tutti gli altri giudici che vengono da Palazzo li hanno sempre accettati. Abbiamo notizia di una causa fra due abati in cui uno dei due abati protesta perché dice come? Il giudice ha accettato i regali dell'altro e non ha accettato i miei. È come se in sostanza accettare regali dalle parti per i giudici dell'epoca non fosse un abuso ma al contrario era quasi un obbligo. I litiganti ci rimanevano male se i loro regali non venivano accettati, quello sì che era un cattivo segno. Contro questo Carlo Magno, come vedremo fra poco, faceva quello che poteva ma certamente la giustizia non era l'aspetto più brillante dell'impero di Carlo. Se vogliamo capire contro cosa lottava Carlo Magno nei suoi sforzi di fare funzionare un minimo alla giustizia, dobbiamo pensare che non esisteva un personale specializzato. Ogni conte che veniva piazzato in una provincia con l'incarico di governarla, di riscuotere le imposte e soprattutto di radunare i guerrieri ogni anno e condurli in guerra, ebbene era la stessa persona che doveva giudicare i processi. Molti conti erano analfabeti, avranno avuto qualche collaboratore che era in grado di leggergli i codici, ma insomma sostanzialmente si trattava di guerrieri, anche piuttosto rozzi, che decidevano le cause come possiamo immaginare. Le lagnanze sono innumerevoli. I conti, quando si presentano finalmente in tribunale, molte ore dopo che la gente li sta aspettando, sono ubriachi. E allora Carlo Magno pubblica una legge. Nessun conte deve presentarsi in tribunale dopo pranzo, devono andare prima. I conti si informano se c'è qualche causa che coinvolge personaggi importanti, quelle le decidono, le chiudono e poi se ne vanno a caccia. La povera gente può anche aspettare. E questo è il meno, perché ci sono anche storie di mala giustizia che sono degne di un romanzo nero. Per esempio a un certo punto salta fuori questa storia. C'era un giudice in Italia che era stato nominato tutt'ora di una ricca vedova. Le donne, meglio che da sole, non stiano, devono avere qualche uomo che si occupa dei loro interessi. Questo poi è un giudice funzionario pubblico. Viene nominato tutt'ora e amministratore dei suoi possedimenti. Il giudice falsifica i titoli, caccia via la vedova dalle sue terre e se ne impadronisce. La vedova, che qualche amico evidentemente ce l'ha, manda un ricorso al palazzo, manda un ricorso a Carlo Magno, spiegando cosa è successo. Carlo Magno manda subito un Misso Dominico per verificare. Misso Dominico arriva, convoca i testimoni e tutti i testimoni dicono ma no, non è vero, quella è una pazza, assolutamente questi possedimenti di cui si parla appartengono al giudice, non sono mai stati di questa vedova. La cosa viene insabbiata. A questo punto la vedova parte personalmente per acquisgrana. Lascia l'Italia, attraversa mezzo impero, raggiunge Carlo Magno passando le Alpi nel cuore dell'inverno, arriva a supplicare personalmente Carlo Magno. Dice guarda che i testimoni che sono stati ascoltati erano pagati e io sono povera, non sono in grado di farmi giustizia. Allora Carlo Magno nomina un nuovo giudice, suo cugino, Vala. A quel livello in genere si può fidare, il cugino ha altri modi per fare soldi, può anche darsi che non accetti i regali e che giudichi come si deve. Vala viene in Italia, quando arriva in Italia trova che la vedova è morta, indaga e scopre che l'avversario, il giudice, l'ha fatto ammazzare, poi ha fatto ammazzare anche i sicari in modo che non si risapesse niente e quando Vala faticosamente fa saltare fuori questa storia e comincia a intervistare testimoni, tutti quelli che parlano dicono no ma guarda che quello io non vorrei dire niente, non mi fido a pronunciarmi contro di lui, quello è uno potente, quello qui nell'amministrazione ha troppi amici, noi non sappiamo niente di questa storia. Insomma è il cugino dell'imperatore ma ci mette mesi per tirare fuori il retroscena di questa vicenda e per riuscire finalmente a incriminare questo assassino che aveva appunto così tanti amici influenti e così tanti mezzi di pressione da poter insabbiare una vicenda come questa. Questo è il caso limite ma la sensazione è che il livello di funzionamento della giustizia nell'impero di Carlo, nonostante tutti gli sforzi personali dell'imperatore, non si allontanava molto da questo. Quando pensiamo all'amministrazione della giustizia nel Medioevo spesso ce ne facciamo un'immagine violentemente barbarica e irrazionale. In genere quando in un film per esempio si rappresenta medievale di solito vediamo subito il ricorso all'ordalia, al giudizio di Dio. In realtà non si tratta di questo. L'ordalia esisteva, ne parleremo subito, ma non dobbiamo immaginare che questa gente fosse più stupida di noi. Questa era gente che aveva modi di ragionare in parte diversi dai nostri ma che aveva un suo concetto di razionalità e questo si vede molto bene quando noi vediamo Carlo Magno impegnato a decidere una causa. Normalmente Carlo Magno sapeva benissimo che innanzitutto se c'erano dei documenti scritti, i documenti scritti erano quelli che stabilivano i diritti e quindi carta canta. Se ci sono documenti scritti il processo si chiude e non c'è bisogno né di giudizio di Dio né di nient'altro. Anche la gente sapeva questa cosa, i documenti scritti erano importanti. Tanta gente magari non li sapeva leggere ma ci restava attaccata perché lì c'era la prova che quella proprietà, quel possedimento è mio e non di qualcun altro. Al tempo stesso lo scritto aveva anche una sua sacralità, forse proprio per il fatto che tanti non lo sapevano leggere. E così ecco che intorno all'esistenza o alla soppressione di documenti scritti spesso vengono fuori storie curiose. Carlo Magno a un certo punto si trova a dover giudicare un prete che era accusato da un altro prete di avergli fregato la chiesa sostanzialmente, mettiamola così per semplificare. Diciamo pure che le chiese a quel tempo potevano essere di proprietà privata. Allora siamo a Lucca fra l'altro, non so perché vengono sempre fuori dall'Italia le storie più nere di mala giustizia. Il prete possedeva una chiesa, aveva promesso di cederla a un altro, gli aveva anche fatto un documento scritto di cessione. Poi non si sa come questo documento sparisce. Carlo Magno avvia l'inchiesta, interroga i testimoni, finalmente viene fuori che il documento è stato rubato e distrutto. Ed è stato rubato da un altro prete che voleva impadronirsi lui di questa chiesa. E questo prete dice sì, io effettivamente sono andato a prendere la carta, il documento. L'ho portato al primo prete, lui mi ha detto benissimo, adesso che abbiamo questa carta in mano siamo a posto, basta distruggerla. E allora però non sapevamo bene come fare perché sapevamo che forse poi ci avrebbero interrogati, non volevamo dover giurare il falso. Allora abbiamo aspettato un po', abbiamo trovato uno straniero, un pellegrino britanno che passava di lì, gli abbiamo detto vieni qua un momento, gli abbiamo dato questo documento e gli abbiamo spiegato che doveva buttarlo nel fuoco. Il pellegrino ha bruciato questo documento e così noi abbiamo pensato che fosse tutto a posto. La storia viene fuori, naturalmente poi questi due furfanti la causa la perdono, ma è interessante appunto questo doppio atteggiamento nei confronti del documento scritto, che da un lato è una fondamentale prova e al tempo stesso appunto ha questa dimensione irrazionale, sacrale quasi. Dopodiché quando c'è bisogno si ricorre al giudizio di Dio. Ma non dobbiamo immaginarci giudizi cruenti in cui appunto la supposta strega viene buttata nel fiume, se viene a galla è colpevole, se invece affoga è innocente, come a volte si vede nei nostri film. Non è così. Il giudizio di Dio nella forma più tipica consisteva in questo, che i due avversari si mettevano in piedi con le braccia larghe contro una croce e quello che resisteva più a lungo, ebbene, quello aveva avuto da Dio la forza di dimostrare che la sua causa era quella giusta. Dopodiché appunto, irrazionalità, forse, ma questa era gente convinta che Dio era lì e controllava quel che succede sulla terra e interveniva per far trionfare il buon diritto. All'interno di questa convenzione anche il giudizio di Dio aveva una sua razionalità. In tutta l'attività di governo di Carlo Magno si riscontra la capacità di fare interventi che anche noi giudichiamo perfettamente razionali, mirati allo scopo, e al tempo stesso di dare fiducia a una sfera invece del soprannaturale, del sacro, che noi vedremmo in contrasto con la razionalità degli interventi politici. Invece di nuovo, se noi vogliamo capire Carlo Magno, dobbiamo sapere che nella sua mente e nella mentalità collettiva questi due aspetti non erano in contrasto. Voglio chiarire questa cosa con un esempio molto concreto. Al tempo di Carlo Magno, di tanto in tanto, delle carestie investivano il paese. Questo era un mondo che viveva a livello di sussistenza, dove anche nelle annate buone la massa dei contadini aveva appena da mangiare e quindi era abbastanza facile che un cattivo raccolto portasse la fame tra la gente. I cronisti parlano in almeno due occasioni durante il Regno di Carlo di carestie molto violente, in cui la gente è ridotta dalla disperazione al cannibalismo, in cui si segnalano allucinazioni collettive, per cui gli affamati in pieno inverno credevano di vedere il grano crescere nei campi e anzi addirittura nelle foreste e nelle paludi e avevano addirittura l'impressione di toccarlo questo grano. E il cronista conclude, ma nessuno poteva mangiarlo. Ecco, in queste situazioni in cui la fame devasta intere province, il governo naturalmente deve intervenire. E che cosa faceva in questi casi Carlo Magno? È proprio qui che vediamo questa mistura di motivazioni diverse. Normalmente, quando c'era la carestia o quando c'era rischio di carestia, Carlo Magno per prima cosa stabiliva che si dovevano fare preghiere collettive, per chiedere a Dio di allontanare dalla gente questo flagello. Così, per esempio, nel 792, quando la carestia forse più grave del suo regno si sta avvicinando, Carlo Magno ordina che ogni prete del regno deve celebrare tre messe. E oltre a celebrare le messe, tutti gli ecclesiastici devono digiunare per due giorni e anche tutti i conti e i loro vassalli devono digiunare per due giorni, per ottenere da Dio la remissione di questo flagello. E questa cosa è fatta con senso pratico, non mistico, con l'idea che questo è un intervento che davvero ha probabilità di riuscire. Tanto che in un'altra occasione Carlo Magno manda in giro una circolare dicendo guardate che quando c'è rischio di epidemia non bisogna aspettare l'ordine del re. Ognuno deve cominciare a pregare per conto suo, rimboccatevi le maniche, datevi da fare, fate qualcosa di concreto senza aspettare che sia sempre io a dirvelo. Dopodiché al tempo stesso, senza nessuna soluzione di continuità, in queste stesse ordinanze Carlo Magno stabilisce che ognuno si dia da fare per nutrire i poveri, che tutti i ricchi e i potenti che hanno dei mezzi distribuiscano questi mezzi. E a un certo punto, ammaestrato dall'esperienza, Carlo Magno comincia a mettere in piedi anche proprio delle riserve di cereali governative e stabilisce che in caso di carestia queste riserve devono essere messe sul mercato, stabilisce dei prezzi massimi per calmierare il mercato. Ecco, questo è lo stesso uomo che dice pregate e datevi da fare perché in questo modo forse combatteremo la carestia. I due aspetti nella loro mentalità non sono in contrasto. Ci si aspetta che se noi facciamo tutto quello che possiamo, tutto quello che è nei nostri mezzi, anche Dio, che è lì, e questa gente Carlo Magno e la gente del suo tempo, Dio lo sente presente, si sente sempre sorvegliata da Dio, Dio che è lì, se noi prendiamo le misure giuste, interverrà per aiutarci. Abbiamo parlato spesso delle guerre di Carlo Magno, ma come funzionava, come era organizzata la macchina militare franca? Il principio di fondo è che tutti gli uomini liberi erano tenuti a contribuire. Questo risaliva ancora ai tempi antichi in cui i franchi erano una tribù guerriera simile a Esiux o a Cheyenne, in cui ogni uomo era anche un guerriero. Questa cosa, almeno sulla carta, non era cambiata. Ancora Carlo Magno aveva il diritto di convocare tutti i franchi e tutti i longobardi, tutti i bavari, tutti i sassoni, quando li abbia sottomessi, per fare la guerra. Naturalmente questa era una cosa che funzionava sulla carta, in pratica non era tanto semplice da organizzare. Ancora una volta dobbiamo immaginare questo immenso impero che occupa quasi tutta l'Europa, in cui le comunicazioni sono ridotte al minimo e in cui ogni anno il re convoca i guerrieri per fare la guerra. Certe volte la guerra si fa sui Pirenei e certe altre volte invece si fa sull'Elba e tutto questo deve essere previsto con molti mesi di anticipo, perché bisogna mandare alle autorità locale degli ordini di convocazione che permettano di far trovare poi i guerrieri al momento giusto nel luogo in cui devono cominciare le operazioni. Carlo Magno si appoggiava largamente non soltanto sulla rete dei suoi funzionari locali, dei conti, ma anche come al solito sulla Chiesa. Anche in questo vediamo bene che la Chiesa, con la sua struttura territoriale ben organizzata, serviva in qualche modo a supplire alle mancanze, alle lacune dell'apparato di governo. Tutti i vescovi ogni anno si vedevano arrivare degli ordini dell'imperatore che stabilivano che i guerrieri dovevano essere mobilitati e dovevano partire in tempo per trovarsi in un certo giorno nel luogo stabilito. Citiamo per esempio una lettera che un arcivescovo, l'arcivescovo di Treviri, Etti, scrisse a un certo punto a uno dei vescovi suoi subordinati. ci è pervenuto un terribile ordine del signor imperatore, per cui in tutta la provincia in cui lo rappresentiamo dobbiamo avvertire gli abitanti di prepararsi per la guerra, tutti, per partire per l'Italia. Perciò ti ordiniamo da parte del signor imperatore di comunicarlo con zelo e senza perdere tempo a tutti gli abati, le badesse, i conti, i vassalli e a tutto il popolo della tua diocesi di prepararsi tutti quanti. Ecco questo sulla carta. Poi le cose andavano un po' diversamente. Tanto per cominciare le autorità locali scremavano, sceglievano quelli che dovevano partire sul serio e quelli che invece potevano starsene tranquillamente a casa. Sappiamo già che questa era un'epoca in cui la corruzione era piuttosto radicata nell'amministrazione. Dappertutto arrivano la mentele. I conti convocano continuamente per la guerra le persone che gli stanno antipatiche, quelli che gli hanno fatto degli sgarbi. I loro amici stanno a casa tranquilli. Gli altri invece continuamente sono convocati e devono partire. Inoltre l'idea di convocare la massa del popolo, i semplici contadini, aveva sempre meno senso man mano che in qualche modo l'esercito di Carlo Magno si trasformava in una forza più professionale. Il semplice contadino povero aveva poco da fornire all'esercito. A un certo punto Carlo Magno è costretto a fare una legge in cui stabilisce che chi è convocato non deve presentarsi armato solo di un bastone. Bisogna che abbiano qualche cosa di più. Ecco questo ci dà anche il senso di come in un impero di quelle dimensioni il vecchio sistema, la vecchia idea che tutti gli uomini liberi devono partecipare alle guerre del re, cominciava a essere in qualche modo anacronistica. Carlo Magno di questo si rese conto e prese le sue contromisure. La massa dei combattenti a piedi, armati con arco e frecce o magari appunto soltanto di bastoni, in realtà contava sempre meno. Al tempo di Carlo Magno, anche se i livelli tecnologici erano sempre molto modesti, non dimentichiamocelo mai, però comunque c'erano già i mezzi per armare dei guerrieri qualitativamente migliori. Al tempo di Carlo Magno era già possibile mettere in campo dei cavalieri che avevano, non dico l'armatura. Ecco, quando noi vediamo nei musei o nei castelli le armature medievali, dobbiamo sempre ricordarci che è roba che viene molto più tardi, alla fine del Medioevo, se non addirittura nel Rinascimento. Al tempo di Carlo Magno l'equipaggiamento era molto più modesto, però c'erano già stati abbastanza progressi nella metallurgia, per esempio, perché un combattente a cavallo potesse essere coperto da una cotta di maglia o magari da un giaccone di cuoio tutto ricoperto di scaglie d'acciaio. Ecco, un combattente a cavallo armato in questo modo, con la spada, con la lancia, contava molto di più di una dozzina di contadini appiedati e armati a malapena di bastoni. Di conseguenza Carlo Magno sceglie di puntare, molto più che in passato, su un piccolo gruppo di cavalieri specializzati. E questa è una svolta importante. Tutti quanti noi associamo al Medioevo l'idea del cavaliere, della cavalleria. Bene, è al tempo di Carlo Magno che nasce la preponderanza militare del cavaliere, che dall'alto del suo destriero può guardare con disprezzo alla massa dei combattenti a piedi. Ma al di là dell'aspetto ideologico, la cavalleria, il glorioso eroe a cavallo, ecco, tutte queste sono belle cose, ma concretamente quanto costava tutto questo? In realtà costava enormemente. L'epoca, ripetiamolo, è primitiva, tecnologicamente primitiva. Già un cavallo da guerra è una cosa che costa, secondo le leggi dell'epoca possiamo più o meno ricostruire questi preziari, un cavallo da guerra costa come tre o quattro buoi, costa come sette mucche. È un possedimento, cioè, considerevole. La corazza, la cotta di maglia, anch'essa, costa quasi come un cavallo. Un elmo costa come diverse pecore. In altre parole, per armare un cavaliere ci vuole il lavoro di un sacco di contadini che zappano la terra e che, con quel poco surplus che riescono a produrre, possono armare il cavaliere. Da qui l'importanza enorme di queste armi, perché fabbricare delle armi è l'unica industria veramente importante dell'epoca. Anzi, è curioso notare che già allora c'è in qualche modo una vocazione dell'Occidente alla fabbricazione di armi. In generale gli arabi o i greci non compravano niente prodotto in Occidente, non gliene importava nulla. L'unica cosa che gli arabi avevano voglia di comprare in Occidente, perché gli occidentali, gli europei le fabbricavano bene, erano le armi, le spade. E ci sono leggi di Carlo Magno che proibiscono di esportare armi verso il mondo islamico, per esempio. Dopodiché, appunto, dati i costi, armare dei cavalieri non era uno scherzo. L'intera struttura sociale dell'impero di Carlo Magno tende a organizzarsi a favore di un'elite, di un'elite di grandi proprietari terrieri, di latifondisti e di loro amici, i quali hanno tanti contadini che lavorano per loro e quindi sono in grado di armarsi. Di armarsi con questo equipaggiamento che, benché primitivo, rispetto al mercato dell'epoca, è costosissimo. Ecco che quindi, progressivamente, sotto Carlo Magno, noi vediamo il passaggio dall'antico popolo germanico di guerrieri liberi alla struttura sociale aristocratica, dominata da un'elite di cavalieri, che invece è poi tipica del Medioevo. La prevalenza della cavalleria al tempo di Carlo Magno è anche, in qualche modo, l'origine del feudalesimo. Perché feudalesimo, in fondo, vuol dire questo. Vuol dire che il re distribuisce terre a un gruppo ristretto di guerrieri specializzati, di professionisti. Questi non lavorano, hanno i contadini che lavorano per loro, passano il tempo a esercitarsi per usare queste armi. Anche perché, diciamocelo, sarà una tecnologia elementare, ma combattere a cavallo, con questo armamento pesante, saper usare la lancia e la spada, insomma, non è uno scherzo. E quindi, evidentemente, sempre più si passa, al tempo di Carlo Magno, dal popolo egualitario in armi all'aristocrazia feudale. Parlando di tecnologie, una delle tecnologie più interessanti di quest'epoca è la staffa. Sulla staffa si è discusso moltissimo. Diciamo pure che nell'antichità la staffa non esisteva. Può sembrare strano, ma è un'invenzione tardiva, è un'invenzione medievale. Sono i popoli delle steppe, gli unni, i mongoli che inventano questo genere di attrezzo. Allora, il problema è questo. Non sarà che magari proprio l'introduzione della staffa ha permesso a Carlo Magno di costruire un esercito di cavalieri in grado di sconfiggere tutti i loro nemici. Questa è un'idea che è stata portata avanti seriamente dalla storiografia. A un certo punto, negli anni Sessanta, uno storico americano che si chiamava Lynn White ha scritto un intero grosso libro appunto per dimostrare che in pratica dall'invenzione della staffa era venuto fuori l'impero di Carlo Magno, la cavalleria, il feudalesimo. In definitiva, tutta la storia dell'Europa medievale era il frutto di questa invenzione della staffa. Ecco, era un'idea forse un po' all'americana. Oggi, tutto sommato, siamo più diffidenti rispetto a queste spiegazioni che, a partire da un unico elemento tecnologico, ti costruiscono tutta la storia dell'umanità. E poi, soprattutto, oggi noi abbiamo il forte sospetto che al tempo di Carlo Magno la staffa praticamente non si usasse ancora. Siamo andati a vedere le miniature dell'epoca, per esempio, le raffigurazioni di guerrieri. In qualche raro caso, in epoca in cui Carlo Magno era molto vecchio, magari dopo la sua morte, ci sono dei cavalieri franchi che sono raffigurati con le staffe. Nella grande maggioranza delle illustrazioni sono senza. E poi ci sono piccole indicazioni nei racconti della gente che ha conosciuto Carlo Magno che ci fanno pensare che forse, tutto sommato, la staffa non c'era. Per esempio, c'è la storia di quando Carlo Magno a un certo punto annunciò a un giovane ecclesiastico della sua cappella che intendeva nominarlo vescovo. Il giovane ecclesiastico è entusiasta, corre fuori dal palazzo, esce dal cancello, salta a cavallo. E il monaco che ci racconta questa storia dice, saltò a cavallo, era talmente felice di essere stato nominato vescovo che non rimase ad aspettare che arrivasse il servo con lo sgabello per montare in sella, come si fa di solito. Ci mise le mani sopra e saltò. Purtroppo per lui Carlo Magno era alla finestra, stava a guardare, lo richiamò subito indietro e disse, senti, uno atletico come te, secondo me è sprecato a fare il vescovo. Resta con me, accompagnami in guerra perché preferisco averti tra i miei guerrieri piuttosto che nominarti a fare il vescovo. Al di là di questo rimane il fatto che aneddoti di questo genere ci fanno pensare che effettivamente la staffa al tempo di Carlo Magno non si usasse ancora. E ciò nonostante, Carlo Magno era in grado di mettere in campo eserciti di cavalieri pesantemente armati e professionali. Ed è questo, non è solo l'abilità strategica di Carlo che pure c'era, è la forza di questo materiale che spiega le sue incessanti vittorie contro tutti i suoi nemici. Parlando di tecnologie, ci sono molti casi in cui noi siamo colpiti dal divario fra le concezioni che Carlo Magno poteva avere, che spesso erano molto avanzate, e la povertà dei mezzi tecnici che aveva a disposizione. Per esempio, guerreggiando contro gli avari, che erano un popolo asiatico stanziato più o meno nell'Ungheria attuale, sul Danubio in sostanza, Carlo Magno aveva preso molto seriamente il problema di portare i rifornimenti ai suoi eserciti che combattevano in questa zona. Aveva organizzato convogli di chiatte lungo il Danubio. E però alla lunga anche questo non era bastato. Tenete conto che sul Danubio non c'erano ponti. Ecco, uno dei grandi esempi della retratezza tecnologica di quest'epoca è che sui grandi fiumi i ponti non c'erano. I cronisti ricordano come una delle grandi imprese di Carlo Magno il fatto che fece costruire un ponte di legno sul Reno, che poi bruciò a un certo punto. E Carlo Magno, dice Ginardo, aveva progettato di farlo rifare di pietra, ma non ci riuscì mai. Ecco, questo di nuovo ci dà il senso impressionante del divario fra la potenza dell'uomo e la scarsità dei mezzi dell'epoca. Sul Danubio ponti non ce n'erano. Carlo Magno a un certo punto, per queste sue guerre contro gli avari, fa costruire un ponte di barche sul Danubio e questa cosa è già guardata quasi come un prodigio. Ecco, in questo contesto fa ancora più impressione scoprire che a un certo momento Carlo Magno, proprio perché sta pianificando queste sue spedizioni offensive contro gli avari, quindi lungo il corso del Danubio, bene, a un certo punto Carlo Magno comincia seriamente a prevedere di scavare un canale tra il Reno e il Danubio. Un canale che quindi gli permette di collegare lungo la via d'acqua la sua base di operazioni sul Reno, dove c'è il cuore del suo impero, dove ci sono le città, i possedimenti fondiari, le scorte di alimentari e il Danubio. Per quasi un anno Carlo Magno rimane impegnato a far scavare da un'enorme quantità di operai questo canale, che è passato alla storia come la Fossa Carolina, lo scavo di Carlo, questo canale che doveva unire il bacino del Reno a quello del Danubio. E anche qui vediamo che appunto, come dire, l'arditezza delle concezioni non era poi, come dire, paragonabile ai mezzi a disposizione. Gli ingegneri di Carlo non erano tanto avanti, i progetti per lo scavo del canale si rivelano fallimentari, per di più sono anche sfortunati, quell'autunno piove, piove continuamente, il terreno è troppo molle, il canale continua a cedere. Dopo mesi e mesi in cui ha mobilitato enormi risorse per scavare questo canale, Carlo Magno rinuncia. Un altro esempio della pochezza di mezzi tecnici di quest'epoca, che è impressionante se si pensa comunque al fatto che la gente non era diversa da noi, era gente intelligente, sveglia, Carlo Magno era un grande politico, ma doveva fare i conti con la povertà dei mezzi. Sono le macchine d'assedio. Quando Carlo Magno o uno dei suoi eserciti deve assediare una città, è una tragedia, perché non hanno macchine in grado di sopraffare le mura di una città. C'è un aneddoto interessante di un cronista che racconta di quando il figlio di Carlo, Ludovico il Pio, combatteva in Spagna, assediava, non so più se Saragozza o un'altra città araba, e non riusciva a prenderla. E a un certo punto, per la rabbia, sale a cavallo con la lancia in pugno, cavalca sotto le mura e scaglia la lancia contro queste mura. In un gesto che è al tempo stesso appunto di sfida e di rabbia impotente. Ecco, si vede qui appunto il divario di nuovo fra la potenza militare di Carlo e la debolezza dei mezzi che non gli permetteva nemmeno di prendere d'assalto una città murata. Conosciamo Carlo Magno come un uomo sanguigno, carnale, spesso anche violento e volgare, e al tempo stesso come un grande politico. Ecco, era anche un intellettuale. Sembra strano dirlo per un personaggio di questo genere, ma Carlo Magno aveva delle passioni intellettuali spiccatissime, di cui tutti ci hanno parlato. Ovviamente bisogna anche farci un pochino la tara perché i contemporanei lo adulavano volentieri, però abbiamo troppe informazioni che vanno tutte in questo senso. Che studi aveva fatto? Naturalmente come figlio di un sovrano non è che andasse a scuola. Avrà studiato da principio qualche cosa a casa, ma bisogna anche pensare che per l'epoca gli studi elementari volevano già dire imparare il latino, perché praticamente a quell'epoca non si poteva scrivere o leggere se non in latino. E quindi o non si andava a scuola per niente, si era allegramente analfabeti come la grande maggioranza della gente, ma se si andava a scuola a 5, 6 o 7 anni si doveva imparare il latino. Da quello si cominciava. E certamente Carlo Magno imparò da bambino a leggere e scrivere in latino. O meglio, leggere e scrivere non proprio, ma di questo parleremo più avanti. Era già adulto quando decise che voleva fare degli studi un po' più approfonditi. Quegli studi che oggi chiameremmo diciamo di livello liceale e che a quell'epoca si chiamavano del trivio e del quadrivio. Sono espressioni come dire sofisticate, ma in pratica vogliono dire imparare la retorica, la grammatica, la dialettica, quindi la capacità di parlare in pubblico per esempio, cosa che per un politico evidentemente conta. Mentre invece il quadrivio erano gli studi scientifici, la musica, la matematica, la geometria, l'astronomia. Ecco, l'astronomia in particolare era importante. Noi sappiamo che Carlo Magno era appassionato di astronomia e studiava con grande curiosità il corso delle stelle. E anche qui dobbiamo stare attenti prima di, come dire, sorridere e dire ecco la superstizione medievale. Non era proprio così. Questa gente era convinta che niente succede per caso. Erano convinti che l'universo Dio l'ha creato con un progetto preciso e quindi il cielo, con i movimenti dei pianeti e delle stelle, è un messaggio che Dio ci manda. Questa gente era convinta che il cielo è un immenso manoscritto in cui Dio scrive i suoi messaggi all'umanità. E quindi saper interpretare questi movimenti è un aiuto prezioso negli affari di questo mondo. Dopodiché l'aspetto della cultura a cui Carlo si è appassionato di più sembrerebbe essere la linguistica. È buffo anche questo, però noi già sappiamo che Carlo, già solo per poter governare il suo impero, doveva conoscere e parlare parecchie lingue. Bene, Carlo è vissuto in un'epoca in cui le antiche tradizioni del popolo franco si stavano perdendo, in cui la grande maggioranza dei franchi ormai stavano cominciando a parlare in lingua romanza, sarebbero diventati presto i francesi. E Carlo Magno era angosciato perché si stavano perdendo le antiche tradizioni del suo popolo. Ci dice il suo biografo, Eginardo, che il re a un certo punto cominciò a comporre una grammatica della lingua franca, una cosa in cui noi di nuovo vediamo l'intellettuale molto innovativo, molto all'avanguardia, perché chiunque a quel tempo avrebbe detto grammatica, il latino. L'unica lingua che vale la pena di studiare è il latino. E invece Carlo Magno è affascinato dal tentativo di far sopravvivere la lingua del suo popolo, far accogliere le antiche canzoni dei franchi. È una specie di etnografo, insomma, sostanzialmente, che percepisce che tutta l'antica cultura barbarica sta scomparendo e che si dà da fare per quello che può per salvare dall'oblio tutto questo insieme di tradizioni del suo popolo. Gli intellettuali che formavano la cerchia di Carlo Magno, naturalmente, un po' erano affascinati da quest'uomo grande e grosso, da questo capo guerriero e politico spregiudicato, che al tempo stesso era così appassionato dalla cultura. Era una figura fatta per piacere, chiaramente, a uomini di chiesa, a uomini di libri. E quindi, naturalmente, tutti loro fanno a gara nell'elogiare Carlo Magno per la sua passione intellettuale. Poi si capisce che, insomma, non si rischiava di esagerare. Gli elogi non erano mai abbastanza. Carlo Magno era uno a cui piaceva essere adulato. E quindi ecco che gli intellettuali della corte parlano del re come di un dottore in grammatica, maestro di retorica, eccellentissimo dialettico, superiore a Catone, a Cicerone, a Omero. Anche qui non ci risulta che Carlo si offendesse. Gli piaceva. Ecco, detto tutto questo, forse potrà far sorridere l'ascoltatore di oggi sapere che in realtà Carlo Magno non sapeva scrivere. Ma qui, di nuovo, vale la pena di fermarci per misurare la distanza fra le epoche. Noi oggi diamo assolutamente per scontato che leggere e scrivere sono la stessa cosa. I bambini vanno a scuola e nello stesso momento imparano a leggere e scrivere. Ebbene, per molto tempo non è stato così. Per molto tempo i due insegnamenti erano nettamente separati. Carlo Magno sapeva leggere. Non ci voleva poi molto, tutto sommato. Si imparava già da bambini. Ma scrivere era tutta un'altra faccenda. Noi dobbiamo immaginare saper scrivere, per Carlo Magno o per un uomo della sua epoca, un po' come sarebbe oggi conoscere la programmazione dei computer. Ecco, tutti usiamo i computer, ma pochissimi sanno programmarli. Scrivere a quell'epoca era la stessa cosa, sostanzialmente. Nessuno scriveva nella vita quotidiana. Anche perché non dimentichiamocelo, la carta non l'avevano ancora inventata e scrivere sulla pergamena non era uno scherzo. Non si prendevano appunti da buttare via sulla pergamena, che costava carissima. Quindi nella vita quotidiana nessuno scriveva. Scrivere era, come dire, una tecnica complessa. E' anche molto faticosa, perché parti un po' dalla pergamena, dalla penna d'oca, il raschietto, la sabbia. Ci vuole tutta un'attrezzatura che bisogna saper padroneggiare. Allora, chiaramente un re deve produrre documenti scritti, ma mica li scrive lui. Sarebbe ridicolo che dovesse preoccuparsi di questo aspetto banalmente tecnico. Un re è circondato di collaboratori, alcuni fra questi sanno scrivere e a loro viene demandato questo incarico. L'unica cosa che il re deve saper fare è il suo monogramma in calce alle lettere. Perché questo è, come dire, la garanzia di autenticità. È l'equivalente di quello che oggi è il timbro di un ministero. Il re deve saper fare il suo monogramma. Tutti i re dell'epoca sanno fare il monogramma in calce alle loro lettere, alle loro ordinanze, alle loro leggi. Ma questa è una cosa che si impara a fare a memoria. Non vuol dire saper scrivere. Per il resto, Carlo Magno, appunto, era questa cosa che a noi oggi può sembrare strana e che allora invece era normale. Sapeva leggere, sapeva leggere in latino e non sapeva scrivere. Detto questo, è ancora più interessante scoprire che a un certo punto Carlo Magno, già anziano, ha deciso che questa cosa gli interessava. Ha voluto provare anche a imparare a scrivere. Che è davvero come se oggi un uomo di governo volesse imparare a programmare i computer. Ci si è messo, e ci dice Ginardo, si dava da fare sul serio. Si teneva la pergamena e la penna sotto il cuscino. Di notte ci svegliava, provava a allenarsi. Ma era già troppo anziano. Alla fine non c'è mai riuscito veramente. Al di là della sua cultura personale, Carlo Magno, come uomo di governo, ha fatto un grosso investimento nella scuola e nell'insegnamento. Però anche qui naturalmente dobbiamo stare attenti a non fare confusione con la nostra epoca. La scuola non voleva dire la scuola per tutti. Non c'era nessun bisogno che la gente sapesse leggere, non ce n'era bisogno per i contadini e non ce n'era bisogno neanche per i nobili e per i governanti in fondo. Bastava che ci fosse qualche tecnico che sapeva fare queste cose. Ma c'era una categoria di persone nell'impero di Carlo Magno che dovevano saper leggere e scrivere e dovevano capire quello che leggevano, perché da questo dipendeva la prosperità dell'impero. Erano gli ecclesiastici naturalmente. Di nuovo caliamoci nella mentalità di questa gente, cerchiamo di pensare come pensavano loro. La liturgia ecclesiastica è una specie di assicurazione sulla vita. Il mondo va avanti, il regno prospera, il re vince finché Dio è contento. E Dio è contento se sa che sulla terra la Chiesa gestisce la liturgia in modo corretto. Carlo Magno ha l'angoscia che in qualche provincia sperduta del suo impero magari i preti sono troppo ignoranti, non sanno leggere bene il Vangelo. Quando dicono messa sbagliano le parole, guai, perché se nella messa si sbagliano le parole il rito non vale. Se si battezza un bambino e si sbagliano le parole, quel bambino non andrà in paradiso. Se si prega per la vittoria del re e si confondono le citazioni dal Vangelo, Dio non sarà contento. Ecco che quindi diventa necessario per quell'uomo di governo che è Carlo garantire che l'apparato ecclesiastico sia servito da personale qualificato. Carlo Magno fa un grossissimo investimento nella scuola. Nei libri scolastici dei ragazzini francesi, fino a non molto tempo fa, non so se ancora adesso, Carlo Magno aveva un suo ruolo importante. Era addirittura presentato come l'inventore della scuola, cosa che naturalmente lo ha fatto odiare da generazioni di scolaretti francesi. Nei libri scolastici francesi si ripeteva questo aneddoto di Carlo Magno che a palazzo tiene una scuola e che va a visitare questa scuola e interroga i ragazzini. Scopre che i figli dei nobili, siccome si danno molte arie e sono abituati comunque a avere la strada aperta e la pappa fatta, non studiano. Invece i figli dei servi studiano e come? Perché quello è l'unico modo per sottrarsi alla loro condizione. E appunto il vecchio aneddoto racconta che Carlo Magno sgrida severamente i figli dei nobili e promette che li metterà sul lastrico e che tutti i posti saranno dati ai ragazzini che studiano, anche se non sono figli di famiglie importanti. Ecco però al di là di questo, al di là di questo aneddoto che appunto nei libri di scuola delle elementari francesi è sempre ripetuto, quello che importa chiarire è che le scuole sono per i preti. Sono per i preti e per i monaci. Sono loro che nel sistema dell'epoca devono saper leggere e scrivere e guai se non sanno farlo. A un certo punto c'è una lettera di Carlo Magno che spiega molto chiaramente qual era il suo atteggiamento. Dice «Noi spesso riceviamo delle lettere da qualche monastero in cui ci assicurano che i monaci passano il loro tempo a pregare per me, con grande zelo». E purtroppo certe volte queste lettere sono scritte in cattivo latino. Per cui ci viene il dubbio che come non sono tanto capaci a scrivere, così magari non capiscano neanche tanto i testi sacri che leggono e se pregano per il mio successo in questo modo Dio ci scampi. Perciò è assolutamente indispensabile che d'ora in poi i preti e i monaci siano andati a scuola. L'impegno, l'investimento di Carlo Magno nella cultura si misura anche e forse soprattutto da quello che fa per la circolazione dei libri. Teniamo presente che i libri all'epoca sono scritti a mano e su pergamena, che è un materiale costosissimo. In queste condizioni potremmo pensare che i libri praticamente non ci fossero ed effettivamente un libro aveva un costo enorme. E tuttavia Carlo Magno era consapevole del fatto che i libri erano indispensabili perché l'impero funzionasse. Erano innanzitutto i libri sacri, è chiaro. Bisognava che ogni cattedrale e ogni monastero avesse la sua Bibbia in un testo controllato, corretto, per essere sicuri che le preghiere che salivano a Dio da tutti gli angoli dell'impero fossero tutte uguali, tutte giuste e quindi gradite a Dio. Questo vuol dire che Carlo Magno fa un enorme investimento nella produzione di libri. Non vorrei dare troppe cifre perché così alla radio le cifre non sono facili da memorizzare, ma questa voglio darla. Nei primi 800 anni dell'era cristiana fino a Carlo Magno noi possediamo in tutto 1800 codici manoscritti. Per il secolo di Carlo Magno ne abbiamo più di 7000. In altre parole Carlo Magno ha rappresentato una svolta drammatica. Sotto di lui la produzione di libri conosce un'accelerazione enorme e va anche detto che gran parte degli autori classici che noi studiamo li conosciamo perché al tempo di Carlo Magno, in qualche scuola, in qualche monastero, qualcuno si è preso la briga di copiarli. Naturalmente appunto i libri più importanti di tutti erano le Bibbie e la Bibbia è un testo complesso. La Bibbia è un testo maledettamente lungo. C'era un intero monastero, il più importante di tutta la Francia, San Martino, a Tour, dove il grosso dei monaci era addetto alla produzione industriale di Bibbie. Dico industriale perché noi sappiamo che appunto in modo sistematico, organizzato, per anni e anni quel monastero ha lavorato soltanto a produrre Bibbie, tutte uguali, che poi venivano spedite ai quattro angoli dell'impero. Ebbene però, attenzione, si producevano due Bibbie all'anno. E per fare una Bibbia, già soltanto per la pergamena, era necessario macellare qualche centinaio di pecore. Questo ci dà l'idea del prezzo di un libro e di quello che voleva dire per il re promuovere questa produzione libraria. Non parliamo poi della rilegatura. La rilegatura in pelle era costosissima. Carlo Magno a un certo punto regala all'abbazia di Saint-Denis, presso Parigi, una foresta con tutti i cervi che vivono in questa foresta perché le loro pelli possano essere usate per rilegare i libri dell'abbazia. L'altro aspetto su cui mi pare che valga la pena di insistere è lo sforzo di Carlo Magno per standardizzare la produzione. Sotto Carlo Magno si diffonde anche una nuova scrittura che tutti gli scriptoria, tutti gli atelier dove si fabbricavano libri nell'impero adottano. E questo vale la pena di sottolinearlo anche perché la scrittura carolina, come viene chiamata, è una scrittura molto chiara, precisa, con le lettere separate una dall'altra. Quando i primi tipografi nel Quattrocento, appena inventata la stampa, devono scegliere i caratteri di stampa, si ispirano alla minuscola carolina, che è ancora quella in cui noi oggi stampiamo i nostri libri. In altre parole, i libri nostri sono stampati con caratteri che sono sostanzialmente quelli che sotto Carlo Magno si sono imposti come la scrittura standardizzata di tutta l'Europa cristiana. Nei suoi ultimi anni di vita Carlo Magno sembra preso da un affanno crescente, come se sentisse che il tempo gli sta mancando e che non ha fatto in tempo a fare tutto. Negli interventi, nelle leggi emanate negli ultimi anni, si vede molto vistosamente questa preoccupazione del fatto che la Chiesa Franca non funziona ancora bene, che il clero non è ancora abbastanza preparato, che la gente continua a essere ignorante, superstiziosa. Ed è come se Carlo Magno disperatamente negli ultimi anni cercasse ancora di tamponare tutto quello che non ha potuto tamponare prima. C'è una preoccupazione crescente di sorvegliare l'ortodossia, per esempio, di evitare che si diffondano idee sbagliate, disastrose. Anche questo, peraltro, insomma, va collocato nel suo contesto. Quando noi parliamo, in ambito medievale, di lotta contro l'eresia, di repressione, è facile che ci facciamo un quadro impressionante. Al tempo di Carlo Magno le cose non andavano proprio così. Un esempio concreto. A un certo momento viene fuori che certi vescovi spagnoli hanno elaborato una nuova teoria, una nuova teoria sulla natura di Gesù Cristo, per cui sostengono che Gesù Cristo è sì il figlio di Dio Padre, ma è un figlio adottivo. Questa cosa oggi può sembrare, come dire, incomprensibile, ma dobbiamo pensare che all'inizio del Medioevo la gente era seriamente preoccupata, perché faticava a capire il significato della figura di Cristo, contemporaneamente Dio e uomo, figlio ma uguale al padre. Ecco, su questo si discuteva moltissimo. La teoria dell'adozione era una proposta astuta per aggirare certi problemi. Carlo Magno sente parlare di questa teoria, si preoccupa, consulta i teologi, decide che questa teoria è sballata e che questi vescovi spagnoli vanno convocati e gli si deve spiegare che si sbagliano. E questo è quello che succede. Ci sono alcuni aspetti abbastanza sballorditivi di questa vicenda. Primo, se ci pensiamo, il fatto che questi vescovi spagnoli operavano nella Spagna musulmana, dove tranquillamente facevano il loro mestiere di vescovi cristiani, insegnavano, scrivevano. E se vogliamo altrettanto sballorditivo è il fatto che quando vengono convocati tranquillamente possono uscire dalla Spagna islamica, andare da Carlo Magno e poi tornare in patria. Ma la cosa veramente stupefacente di questa vicenda è che è Carlo Magno in persona che si preoccupa di combattere l'eresia, di combattere gli insegnamenti sbagliati. Non è il Papa. Non esiste un qualche santo uffizio incaricato di reprimere queste forme di devianza. È il governo, è l'imperatore che lo fa. Se vogliamo il santo uffizio c'è, ma è a palazzo. È a palazzo alla presenza dell'imperatore che i vescovi sono invitati a presentarsi per spiegare le loro teorie. Dopodiché l'ultimo aspetto sorprendente della vicenda è che questi vescovi spagnoli si presentano a Carlo Magno, spiegano la loro teoria di Cristo come figlio adottivo del padre, gli viene detto che l'idea è sbagliata e che guai a loro se continuano a dire cose del genere. Dopodiché li lasciano andare. E questi se ne tornano tranquillamente in Spagna, dove peraltro continuano poi a predicare le stesse cose e a scrivere trattati su questo. Ecco, rispetto agli standard di repressione che l'inquisizione invece avrà nel tardo medioevo e nell'epoca moderna naturalmente, qui evidentemente siamo veramente in un altro mondo. La preoccupazione di Carlo Magno di evitare che si diffondano fra i fedeli idee e perniciose non ha comunque niente a che fare con quell'atteggiamento di repressione cupa, sanguinaria, che invece sarà caratteristica non di quel medioevo rozzo e barbarico, ma di altri momenti molto più civilizzati della storia d'Europa. Negli ultimi anni di vita di Carlo Magno la preoccupazione di educare la gente, di educare il popolo diventa un vero chiodo fisso, diventa quasi un'angoscia da parte del vecchio imperatore. Si moltiplicano le leggi, per esempio, contro la superstizione, leggi che per noi sono preziosissime perché ci fanno capire quali erano gli atteggiamenti e le idee della gente comune. Da queste leggi noi impariamo, vabbè, certe cose sembrano abbastanza innocue, si apriva il Vangelo a caso per indovinare il futuro, per ricavare un auspicio, ma questo è un uso improprio e Carlo Magno lo proibisce. Si leggeva il futuro nello sterco dei buoi o dei cavalli, si battezzavano le campane, per scongiurare la grandine si appendevano ai pali delle carte con degli incantesimi. Ecco, di tutte queste cose Carlo Magno si spaventa e con insistenza, non con ferocia, perché non si parla di processi e condanne, è piuttosto un atteggiamento pedagogico, quello del vecchio imperatore, come se appunto sentisse che in quel poco tempo che gli rimane deve ancora cercare di fare questo. Naturalmente poi è soprattutto il clero che dovrebbe guidare il resto del popolo a essere preso di mira. Ci sono interventi di Carlo Magno nei confronti del clero radunato in assemblea, feroci per il sarcasmo con cui appunto il vecchio si rivolge ai suoi vescovi e dice ma voi credete di stare facendo il vostro lavoro? Credete che sia davvero dare il buon esempio il modo in cui vivete? Spiegateci un po'. Sappiamo di assemblee che sono convocate con all'ordine del giorno proprio questo tipo di problemi. Abbiamo a volte gli appunti dettati da Carlo Magno per queste assemblee. Ai vescovi bisogna chiedere è possibile che uno che è diventato prete continui a arricchirsi o non dovrebbe essere povero per dare il buon esempio. Che ce lo dicano. Gli storici sono rimasti abbastanza colpiti da questo atteggiamento insistente di Carlo Magno vecchio e in genere lo hanno giudicato anche abbastanza negativamente perché in fondo è come se in qualche modo rincorresse un'utopia l'imperatore, è come se andasse dietro a un suo sogno che non aveva niente di concretamente realizzabile. Si è detto in fondo il vecchio si era rammollito evidentemente anziché pensare ai problemi concreti del governo inseguiva questo ideale di purezza, di perfezione che la realtà intorno a lui smentiva continuamente. Ed è vero che nelle ultime leggi di Carlo Magno c'è questo tono per cui non sono solo provvedimenti concreti ma sono proprio esortazioni morali, è un programma di vita quello che lui ossessivamente vorrebbe proporre alla gente. Ci vuole la concordia, i cristiani devono vivere in pace fra loro, ci vuole la carità. Ecco, utopia, molto probabilmente sì, utopia. Tutto quello che sappiamo sulla vita concreta di questa gente ci dice che non era fatta per realizzare un programma cristiano di questo tipo. E però al tempo stesso io credo che prima di parlare della debolezza e del rammollimento del vecchio imperatore dobbiamo anche pensare al senso profondo che lui aveva sempre avuto della sua missione e che adesso che non era più solo il re ma era l'imperatore cristiano si era ancora accentuato. Carlo Magno è un uomo che ha una missione e che sente che questa missione gli è stata confidata da Dio e in qualche modo è come se dicesse bene io regno su tutti i cristiani d'Occidente, li ho pacificati, ho sconfitto tutti i nostri nemici, dappertutto i pagani chinano il capo davanti alla mia spada, dappertutto si diffonde la fede cristiana. E allora, quando è allora che si dovrebbe provare a realizzare sul serio il cristianesimo? È come se Carlo Magno negli ultimissimi anni dicesse in fondo se non ora quando? Il tempo di Carlo Magno stava finendo davvero. Negli ultimissimi anni si moltiplicano i presagi della sua morte o perlomeno gli avvenimenti in fausti che i contemporanei interpretano come presagi. Questa era un'antica tradizione, non è una superstizione medievale. Anche nel mondo romano la morte di ogni imperatore era regolarmente preceduta da questi segnali, da questi segnali soprannaturali che i cronisti registrano accuratamente. Anche in questo Carlo Magno dunque è un imperatore romano. I presagi sono tanti e i contemporanei si inquietano. Naturalmente è facile interpretare come presagio anche un avvenimento del tutto naturale. Per esempio brucia il grande ponte sul Reno a Magonza che Carlo Magno aveva fatto costruire. C'erano voluti dieci anni per costruirlo ed era di legno. Un'altra indicazione di nuovo dell'estrema povertà tecnica di quest'epoca, in cui questo ponte di legno che poi brucia in poche ore può essere rappresentato come una delle grandi realizzazioni dell'imperatore. Più sinistri sono altri segnali. Scosse di terremoto che fanno tremare il palazzo di Acquisgrana, rumori sinistri che provengono dai soffitti delle stanze in cui si trova l'imperatore. Certo, noi possiamo pensare che probabilmente il palazzo fosse costruito con materiali scadenti e però appunto il senso inquietante di questi segnali per i contemporanei era evidente. Poi ci sono episodi che invece sono sicuramente di cattivo augurio, su questo non c'è discussione. In particolare durante l'ultima campagna militare di Carlo Magno, nell'810 contro i danesi. Bisogna pensare che Carlo Magno, che a quel punto andava per i 70 anni, da diversi anni non combatteva più di persone. Da diversi anni non si muoveva più da Acquisgrana, mandava i suoi figli e i suoi generali a combattere le sue campagne. Ebbene, a un certo momento la situazione sul confine danese si deteriora a tal punto che Carlo Magno, per l'ultima volta in vita sua, decide di partire personalmente, di andare a condurre i suoi uomini ancora una volta in una campagna militare. Una campagna che come al solito viene accuratamente pianificata e che in effetti non ha nemmeno bisogno di andare fino in fondo, perché appena cominciano le operazioni militari, sapendo che di fronte a loro c'è l'imperatore in persona, i danesi si sbandano, si ribellano al loro stesso re, chiedono immediatamente la pace. Quindi l'ultima campagna militare di Carlo Magno non conosce grandi episodi militari in senso stretto, è certamente un successo dal punto di vista politico, ma i contemporanei sono più colpiti dai cattivi presagi che anche in questo momento si addensano. Durante la spedizione Carlo Magno è a cavallo in mezzo ai suoi uomini, a un certo punto appare in cielo una torcia fiammeggiante, il cavallo si spaventa, inciampa, cade e Carlo Magno cade con lui. Di nuovo, è un vecchio, ha quasi 70 anni, niente di innaturale, ma i contemporanei non ragionano come noi. Durante la stessa campagna succede un'altra cosa che oltre a dispiacere a tutti è interpretato come un presagio. Muore all'improvviso l'elefante Abu Labbas, il regalo del califo di Baghdad, che da dieci anni Carlo Magno si portava sempre dietro. E anche in questo caso la morte improvvisa di questo elefante in cui si concentravano così tante connotazioni simboliche, questa bestia straordinaria mai vista, il regalo del favoloso oriente, il regalo del califo, un simbolo in qualche modo dell'eccezionalità di Carlo Magno. Ecco, la morte dell'elefante evidentemente anche quella non è fatta per fare un'impressione favorevole alla gente. L'ultimo atto politico di Carlo Magno, pochi mesi prima della sua morte, nell'813, è di associarsi nell'impero il figlio Ludovico, l'ultimo figlio che gli è rimasto perché gli altri maschi legittimi sono morti tutti negli ultimi anni. Ludovico, che sarà poi Ludovico il Pio, viene ufficialmente incoronato imperatore insieme al padre. Anche questa è un'usanza che era già degli antichi imperatori romani, che serve a garantire una successione indiscussa, non contrastata. Ecco, saremmo tentati di pensare, visto che Carlo muore pochi mesi dopo, che in qualche modo con l'incoronazione del figlio Carlo Magno abbia sentito che la sua opera era conclusa e si sia lasciato morire. Peraltro questa interpretazione romantica è contraddetta dalle fonti, perché risulta che immediatamente dopo aver incoronato Ludovico Carlo Magno lo rispedì verso il confine dei Pirenei, dove doveva governare quella zona, e se ne andò a caccia nella foresta delle Ardenne, come faceva tutti gli anni. Era l'autunno, l'autunno dell'813, la stagione ideale per la caccia e Carlo Magno, che ricordiamocelo era anche un grande amante della selvaggina, alla sua stagione di caccia non era disposto a rinunciare. Ma a caccia prese freddo e dovette tornare a acquisgrana e mettersi a letto. Si tenne a digiuno, pensando che così la febbre se ne sarebbe andata, dicono i cronisti che già altre volte era stato malato e siccome i medici li sopportava poco, volevano metterlo a dieta, preferiva fare di testa sua qualche giorno di digiuno integrale e poi di nuovo in piedi ricominciare a mangiare arrosti e spiedini. E però questa volta non andò come era andata tutte le altre volte. Era a letto, gli viene un dolore al fianco, certamente una polmonite, e alla fine il fisico non regge. Morì il 28 gennaio 814, alle 9 del mattino, dopo aver chiamato il prete e ricevuto l'eucaristia. Il corpo rimase lì e non si sapeva bene che cosa farne, perché non c'erano disposizioni su come seppellirlo. A occuparsene furono le donne. Carlo Magno negli ultimi anni si era sempre circondato delle sue figlie e delle sue nipotine. Aveva fatto venire a corte anche le bambine dei suoi figli morti. Era sempre circondato di donne e di donne giovani. Furono loro a occuparsene. Non c'erano istruzioni. Il nuovo imperatore Ludovico il Pio era lontano, ci vollero settimane perché gli arrivasse la notizia. E altre settimane perché a sprombattuto arrivasse anche lui ad Acquisgrana. Nel frattempo Carlo Magno era stato già sepolto e anche molto in fretta. All'epoca si usava a fare le sepolture subito. Le donne, le figlie, le nipotine lavarono il corpo e poi venne deciso che anche se non c'erano disposizioni in proposito, lo si sarebbe seppellito nella cappella palatina di Acquisgrana, quella che ancora oggi esiste in gran parte immutata rispetto all'epoca. Perciò si aprì il pavimento della cappella palatina, il corpo venne lavato e preparato secondo le usanze e venne sepolto lì, in un sarcofago di marmo antico che Carlo Magno aveva fatto venire da Roma già da molto tempo nella previsione di usarlo per la sua sepoltura. E poi con il tempo sulla tomba venne apposta un'iscrizione latina, con l'avviso che lì giaceva il corpo di Carlo, grande e ortodosso imperatore. E così Carlo Magno era morto, dopo aver regnato per 46 anni. Ma il personaggio Carlo Magno non era morto, anzi cominciava in quel momento una nuova vita, attraverso la storia e attraverso la leggenda, attraverso la propaganda, attraverso l'ideologia politica. La morte di Carlo Magno fa pensare alla morte di altri sovrani che in epoca più vicina a noi sono scomparsi dopo aver regnato per moltissimo tempo, penso alla regina Vittoria o al Kaiser Francesco Giuseppe. Ecco noi sappiamo che in questi casi la morte di un vecchio sovrano che ha regnato per mezzo secolo in genere lascia un senso di vuoto, di smarrimento fra la gente. Quando Carlo Magno muore la stragrande maggioranza dei suoi sudditi non si ricordava di aver vissuto sotto un altro sovrano. E certamente questo spiega anche perché molto in fretta dopo la sua morte si sia creato il mito di Carlo Magno, per l'appunto, di un sovrano grandissimo il cui regno era stata un'età dell'oro. Perché le cose cominciano abbastanza in fretta a andare peggio e in questi casi naturalmente il rimpianto per come si stava prima diventa l'atteggiamento dominante. Però noi sappiamo anche che ci fu qualcuno che invece dalla morte di Carlo Magno non provò affatto smarrimento e costernazione, anzi, Ludovico Il Pio per primo, che finalmente dopo tanti anni si trovava a governare lui l'impero. E Ludovico Il Pio era un uomo abbastanza diverso da suo padre. Tant'è vero che, a quanto sappiamo, non appena arrivò al palazzo, trovando naturalmente che era già tutto fatto, la sepoltura era già avvenuta da molte settimane. Non appena arrivò al palazzo, Ludovico Il Pio si preoccupò di spedire via tutta quella folla di donne che aveva circondato il vecchio fino all'ultimo. E i suoi cronisti lo elogiano per questo. Fa pulizia finalmente. Non era decoroso che ci fossero tutte queste donne e queste ragazze intorno al sovrano. Ludovico Il Pio è fatto in un altro modo. Lui si circonderà di preti, non certo di ragazze. I cronisti di Ludovico Il Pio dicono anche altre cose. Dicono che la gente fu entusiasta, che finalmente ci fosse un uomo nuovo a governare. E anche in questo può darsi che qualcosa di vero ci sia. Certamente il vecchio al potere aveva mantenuto negli uffici i suoi uomini di fiducia. Certamente aveva un pochino perso il polso della situazione. Chissà in quante posizioni di potere c'erano uomini che erano stati messi lì tanto tempo prima da Carlo Magno e non erano più stati spostati. Chissà quanti giovani mordevano il freno intorno al principe ereditario aspettando che arrivasse il loro momento. Quindi certamente ci fu anche questo. Certamente la morte di Carlo Magno, l'avvento di Ludovico, volle dire carriere che si sbloccavano. Gente che finalmente aveva la sua occasione. Il sospiro di sollievo sembra quasi di sentirlo. Ecco, il vecchio finalmente è morto e adesso cambia tutto. Più difficile è stabilire se sia vero quello che dicono i cronisti di Ludovico. Cioè che il nuovo imperatore trovò subito innumerevoli ingiustizie da correggere, torti da raddrizzare. Trovò gente in prigione che non si sapeva più perché ci stava e la liberò immediatamente. Trovò gente a cui erano stati fatti dei torti sotto il vecchio Carlo e che aveva perso ormai la speranza di avere giustizia e Ludovico fece giustizia. Ecco, se noi leggiamo i cronisti di Ludovico il Pio è tutto un entusiasmo nei confronti di questa ventata di novità, nei confronti di questo nuovo regime che spazza via il vecchiume putrido degli ultimi anni di Carlo Magno. Naturalmente i cronisti medievali hanno la stessa attendibilità che possono avere oggi i giornali di partito. Cioè scrivono perché devono celebrare quello che li paga e quello da cui dipende la loro carriera. Quindi attenzione, non dobbiamo mai prendere alla lettera niente che venga scritto da un cronista medievale. Quello che possiamo pensare appunto è che Ludovico all'inizio, come dire, rappresentasse i sentimenti di una nuova generazione che da un po' di tempo, pur con tutto il rispetto per la grandezza di Carlo Magno, aveva cominciato a dire certo che è vecchio, certo che sarebbe ora che si facesse da parte. La vita postuma di Carlo Magno è molto lunga ed è strettamente intrecciata alla politica. Possiamo dire che da quando è morto, dall'indomani della sua morte, fino a ieri, fino al tempo di Adolf Hitler, Carlo Magno è stato un simbolo che uomini politici di tutti i colori in certi momenti hanno usato e strumentalizzato. La cosa è cominciata già nel Medioevo. L'impero di Carlo Magno, come è noto, è andato abbastanza rapidamente in decadenza, ma nel corso del Medioevo più volte degli imperatori energici hanno cercato di rimettere in piedi un governo imperiale funzionante. E ogni volta che un imperatore medievale prendeva sul serio la sua posizione e cercava davvero di far rispettare la sua autorità, era inevitabile che guardandosi indietro vedesse il modello a cui ispirarsi, la figura con cui identificarsi, Carlo Magno. Il primo esempio molto vistoso di questo si ha nell'anno 1000, quando regna Ottone III. Ottone III è giovanissimo, è poco più che un ragazzino ed è stato educato dalla madre, che è una principessa bizantina, nell'idea della gloria dell'impero, della gloria dell'impero romano. La sua idea fissa è riportare l'impero romano alla sua antica gloria, come al tempo di Augusto, come al tempo di Costantino, come al tempo di Carlo Magno. Ottone III a un certo punto, questa è una storia che ci racconta un cronista e sarà anche questa molto romanzata, ma vale la pena di raccontarla comunque. Ottone III a un certo punto decide di scendere nella tomba di Carlo Magno per confrontarsi con il corpo, o quello che ne resta, del suo predecessore. Dov'è la tomba di Carlo Magno? Ma, gli dicono tutti, nella basilica di Aquisgrana, si sa. Ma dove esattamente? Questo non lo sa più nessuno. Non c'è rimasto niente, assegnare il punto preciso in cui Carlo Magno è stato sepolto. Sapete che a quell'epoca, specialmente i personaggi importanti, si seppellivano all'interno delle chiese, sotto il pavimento. Ottone III va da Aquisgrana, fa sfondare il pavimento, trovano la cripta in cui è sepolto Carlo Magno. E chi ci racconta questa storia, o chi sta abbellendo, se non inventando questa storia, dice che Ottone scende e Carlo Magno è lì, sepolto ma non nel suo sarcofago, è seduto in trono e il suo corpo si è conservato perfettamente, è intatto, tranne per un solo particolare, gli è caduto il naso. Per il resto è come se fosse vivo, anzi è così vivo che le unghie hanno continuato a crescere, hanno bucato i guanti e si allungano come artigli dalle mani. Ecco, una visione abbastanza terrificante da un certo punto di vista, ma per i contemporanei non è una specie di vampiro come sembra a noi questo cadavere, al contrario, questa conservazione vuol dire che era un uomo eccezionale, che era un santo. E infatti nella cripta Ottone sente l'odore della santità. Dopodiché prende la croce che Carlo Magno aveva al collo, gli fa rifare un naso d'oro con cui sostituisce il naso che gli era caduto e poi esce, fa richiudere tutto. Ecco, racconto immaginario in gran parte, certamente, ma è vero che Ottone ha fatto questa specie di scavo archeologico ed è vero soprattutto che Carlo Magno era in qualche modo il punto di riferimento nella memoria collettiva. Per un imperatore che voleva, come dire, far prendere sul serio la sua posizione, quello che bisognava fare era fare i conti con Carlo Magno e in qualche modo far passare alla gente il messaggio che da Carlo Magno ci siamo fatti investire, che la nostra legittimità sta in quella croce che abbiamo preso al collo di Carlo e che ci siamo appesi al collo nostro. Un altro imperatore per cui Carlo Magno è un punto di riferimento fondamentale è Federico Barbarossa. Questo noi italiani lo conosciamo bene, è quello che nel XII secolo cerca di mettere fine all'autonomia dei comuni, è quello che provoca la formazione della Lega Lombarda e che poi dalla Lega Lombarda viene sconfitto a Legnano. Federico Barbarossa aveva un grosso progetto di restaurazione dell'autorità imperiale e quindi anche lui deve fare i conti con il suo Carlo Magno. Federico Barbarossa lo fa a suo modo. L'idea geniale, se vogliamo dire così, del Barbarossa è di organizzare la santificazione di Carlo Magno. Questa è l'epoca in cui ormai per fare un santo ci vuole, come dire, un processo di canonizzazione e un'autorizzazione del Papa. Non è più come una volta nel Medioevo all'inizio che i santi erano semplicemente quelli che venivano così venerati dal popolo spontaneamente. Al tempo di Barbarossa invece bisogna coinvolgere il Papa e il Barbarossa coinvolge il Papa, si rivolge a lui, spiega la situazione e il Papa, ben contento di venirgli incontro, organizza la santificazione di Carlo Magno. Si sceglie un giorno, se non sbaglio il 15 agosto, ma di questo non sono più sicurissimo a dire la verità, e ad ogni modo quello è il giorno di San Carlo Magno. Se non che, alla lunga nasce un problema. Questa era l'epoca in cui imperatori e papi litigavano facilmente. Il Papa che santifica Carlo Magno era un Papa che era stato messo sul trono di Roma dal Barbarossa stesso, dopo aver cacciato via il Papa legittimo. Di conseguenza, questo Papa che ha santificato Carlo Magno, in seguito, non è più stato considerato come un vero Papa, come un antipapa. Capite il groviglio giuridico che si è creato. Cosa ci facciamo adesso con questo San Carlo Magno che è stato creato con tutte le forme, ma dal Papa sbagliato? È una situazione imbarazzante. La Chiesa, peraltro, come sappiamo, è abituata a gestire le situazioni imbarazzanti. Perciò la cosa viene progressivamente messa a tacere con molta arte. Il giorno di San Carlo Magno non viene più ufficialmente celebrato dalla Chiesa romana e alla prima occasione, devono aspettare per un po' veramente, ma poi dopo qualche secolo c'è un nuovo santo che si chiama Carlo, che si può sostituire a lui. È San Carlo Borromeo, anche lui personaggio ben conosciuto. Quando viene canonizzato San Carlo Borromeo viene applicato nel giorno che prima era riservato a Carlo Magno. Così non ci si accorge granché del cambiamento. Ma siccome appunto la Chiesa romana è maestra anche nei compromessi, San Carlo Magno non viene abolito completamente. Viene semplicemente degradato al livello di beato. Come sappiamo, o forse non sappiamo, perché anche se il nostro paese è sostanzialmente cattolico, poi queste cose non è detto che il singolo credente le sappia bene, il beato non è un santo vero e proprio il cui culto è approvato in tutta la cristianità. Il beato è una specie di santo locale, il cui culto è autorizzato soltanto nei luoghi a cui era più direttamente collegato. Perciò ancora oggi il culto di Carlo Magno è praticato e autorizzato ad Acquisgrana e in poche altre città del Reno, nel paese dove Carlo Magno per tutta la vita si era trattenuto più volentieri. E così in questo modo appunto finisce il tentativo di Federico Barbarossa di guadagnarsi definitivamente la protezione di Carlo Magno e di fare in modo che Carlo Magno, promosso santo, possa intervenire presso Dio per aiutare come merita l'imperatore che ha fatto tanto per lui. Passa molto tempo rispetto all'epoca di Ottone III e del Barbarossa, un altro imperatore in occidente decide che Carlo Magno per lui è un modello importante, è un imperatore molto più vicino a noi che conosciamo bene, Napoleone. Per Napoleone la figura di Carlo Magno è ancora una figura politicamente rilevante. teniamo presente che anche se sono passati tanti e tanti secoli, l'impero di Carlo Magno ufficialmente esiste ancora, non è mai stato sciolto, ha avuto tanti cambiamenti, è diventato un impero che occupa soltanto una parte della Germania e dell'Europa orientale, alla sua testa ci sono gli Asburgo, ma è ancora sempre formalmente il Sacro Romano Impero fondato da Carlo Magno. Il Sacro Romano Impero di Carlo Magno viene abrogato da Napoleone e Napoleone in persona che decide che siccome adesso c'è un altro imperatore, lui, questo vecchio impero non ha più ragion d'essere. E Napoleone che nell'anno 1806 ordina all'imperatore del Sacro Romano Impero, Francesco d'Asburgo, di abolire, sciogliere il vecchio impero. Se poi Francesco d'Asburgo vuole continuare a chiamarsi imperatore, faccia pure, ma che si chiami imperatore d'Austria. Ecco, così come l'impero di Carlo Magno, attraverso tanti cambiamenti, il Medioevo, l'età moderna, ha continuato a esistere, così la leggenda di Carlo Magno continua a essere una leggenda politicamente importante. E lo si vede bene nel momento in cui appunto Napoleone, dopo la sua rapidissima carriera, decide di farsi incoronare imperatore. È un impero nuovo questo, l'impero dei francesi, non c'era niente del genere prima. Come fare per organizzare la cerimonia dell'incoronazione di questo nuovo imperatore? Napoleone vede immediatamente che l'unico precedente possibile è l'incoronazione imperiale di Carlo Magno. Anche lì c'era uno che all'inizio non aveva nessun diritto di essere imperatore e che invece si è conquistato questo diritto con la spada. Perciò Napoleone fa organizzare la propria incoronazione studiando in dettaglio tutto quello che si sa dell'incoronazione di Carlo Magno nell'anno Ottocento. Si fa fare l'abito imitando i ritrovamenti archeologici nelle tombe dei vecchi re franchi. Si fa fabbricare la spada e lo scettro imitando quelli che si conoscevano anche lì attraverso ritrovamenti archeologici dell'epoca di Carlo Magno. Ma soprattutto è affascinante la procedura che Napoleone decide di applicare. Carlo Magno era andato a Roma a farsi incoronare dal Papa perché era indispensabile che ci fosse la presenza del Papa per legittimare questo nuovo potere imperiale. Napoleone, che per quanto ne sappiamo in Dio ci crede poco, che con la Chiesa non ha mai voluto avere niente a che fare, per farsi accettare dai suoi sudditi sente che è necessario avere il Papa. Però, primo cambiamento, Napoleone non va a Roma per farsi incoronare dal Papa, ma fa venire il Papa a Parigi e il Papa ubbidisce. Altro cambiamento, questo assolutamente centrale, che ci fa capire come i problemi politici fossero ancora gli stessi da certi punti di vista. Noi sappiamo che gli imperatori medievali avevano avuto tanti problemi perché Papa Leone III aveva messo con le sue mani la corona sulla testa di Carlo Magno e quindi i papi avevano potuto rivendicare una superiorità sugli imperatori. Napoleone non fa lo stesso errore. Una volta che la corona è stata benedetta dal Papa, la prende e se la mette in testa da solo, dicendo Dio me l'ha data, guai a chi la tocca. L'ultima incarnazione di Carlo Magno nella storia politica dell'Europa si ha nell'epoca dei nazionalismi, tra 8 e 900. L'epoca cioè in cui la storia d'Europa è dominata dagli scontri fra nazioni opposte e in modo particolare sul continente dallo scontro tra il nazionalismo francese e quello tedesco. Sappiamo bene che gran parte della storia dell'Ottocento e fino alla Seconda Guerra Mondiale è stata determinata nel bene e soprattutto nel male da questo scontro di nazionalismi. Bene, era inevitabile, ne abbiamo anche forse già parlato in una puntata precedente, che i nazionalisti francesi e tedeschi nell'Ottocento cercassero di appropriarsi in qualche modo di Carlo Magno. È buffo constatare che a livello di cultura collettiva questa cosa è ancora viva. Il professor Werner, che dirigeva fino a pochi anni fa l'Istituto Storico Tedesco a Parigi, racconta che a un certo punto l'ambasciatore tedesco a Parigi doveva tenere un discorso sui grandi tedeschi della storia. E il professor Werner fece una gran fatica per convincere l'ambasciatore a non comprendere tra i grandi tedeschi della storia Carlo Magno, perché sapeva benissimo che i suoi ospiti francesi si sarebbero offesi. Effettivamente nell'Ottocento il dibattito che infuria sulle due sponde del Reno è, dobbiamo dire, Charlemagne oppure dobbiamo dire Karl der Grosse. Era francese o era tedesco? Ed è anche interessante vedere come il dibattito fosse condizionato dalle vicende politiche e al tempo stesso dai progressi della scienza. Quando regna in Francia, per esempio, Napoleone III, gli storici francesi sono molto convinti che Carlo Magno era un francese e la politica ufficiale del governo francese è di annettersi Carlo Magno. Napoleone III, naturalmente nipotino di Napoleone I, segue le orme dello zio e a un certo punto commissiona una grande statua a cavallo di Carlo Magno. Dopodiché cosa succede? Napoleone III viene sconfitto dai prussiani, l'impero cade, la Francia diventa repubblicana e già in questo contesto repubblicano celebrare antichi imperatori non è più una cosa che piaccia tanto. Ma quel che è peggio è che nel frattempo la scienza storica è dominata dai tedeschi. Alla fine dell'Ottocento c'è un grandissimo rinnovamento della storiografia. I tedeschi sono all'avanguardia, sono sicuramente i più bravi, sono i più conosciuti e quindi questo vuol dire che riescono anche a imporre in qualche modo il loro punto di vista. Anche in Francia si comincia a pensare che forse dopo tutto hanno ragione loro e che dopo tutto questo Carlo Magno era davvero un germano e non una specie di antenato dei francesi. C'è però il problema della statua che era stata commissionata da Napoleone III e che nel frattempo lo scultore ha finito. Panico dello scultore quando il governo rifiuta di pagare questa statua costosissima oltretutto. Discutono, ragionano, alla fine arrivano a un compromesso, la statua non la buttano via, il governo accetta di pagarla, la mettono sul sagrato di Notre Dame ma in un angolino nascosto nei giardinetti in modo che praticamente non si veda e infatti io ho sperimentato spesso molta gente che è stata a Parigi e che ha presente benissimo la facciata di Notre Dame e il sagrato che lì ci sia nascosta questa statua di Carlo Magno a cavallo non se ne ricorda. All'inizio del novecento gli storici tedeschi hanno vinto la partita. Carlo Magno viene ufficialmente accolto nel pantheon degli eroi germanici progenitori del Reich. Naturalmente gli storici tedeschi cercano anche di dimostrare che Carlo Magno è stato un grande imperatore da ogni punto di vista e di ripulirlo da quelle macchie che si possono anche trovare nel suo carattere. Qualcuno ricorderà, perché ne abbiamo parlato, che uno degli atti più atroci di Carlo Magno è l'esecuzione in massa di 4.000 ostaggi Sassoni, in uno dei momenti di esasperazione di questa sua interminabile guerra contro i Sassoni. Ecco, gli storici tedeschi del novecento sono un po' dispiaciuti che questo grande eroe germanico debba avere una macchia simile. Specialmente gli storici cristiani, cattolici ma anche protestanti, sono molto dispiaciuti da questa cosa, perché Carlo Magno funziona così bene come grande eroe tedesco e cristiano al tempo stesso. Negli anni 20 e 30 c'è tutta una storiografia tedesca che cerca di dimostrare che forse questo massacro degli ostaggi Sassoni non è mai avvenuto. E ci sono autori che si spingono molto in là, che vanno a rileggere le fonti suggerendo che forse una certa parola va letta in un altro modo e quindi in realtà Carlo Magno non ha ordinato di decapitare ma di deportare questi ostaggi. Naturalmente decapitare 4.000 persone in un giorno ha senso, deportare 4.000 persone in un solo giorno ha già molto meno senso come affermazione. E tuttavia ci si prova. Ci sono anche aspetti più inquietanti di questa discussione storiografica. C'è chi si mette molto seriamente a calcolare se con i mezzi dell'epoca era davvero possibile ammazzare 4.000 persone in un solo giorno. E fatto sulle riviste accademiche tedesche negli anni 30 un dibattito di questo genere un pochettino inquietante effettivamente suona. E tuttavia questi storici che si davano così da fare per riabilitare Carlo Magno come grande eroe tedesco e cristiano non avevano fatto i conti neanche loro con quello che stava succedendo nel loro paese. La Germania degli anni 30 è la Germania in cui prende il potere Hitler e con Hitler vanno al potere nell'accademia, nell'università storici nuovi, storici giovani spesso, storici che non vedono l'ora di liberarsi dai vecchi maestri, dai vecchi padri padroni della storiografia. L'avvento di Hitler e l'arrivo nelle università tedesche di una nuova generazione di giovani storici nazisti rampanti e molto aggressivi cambia drasticamente anche il dibattito su Carlo Magno. Infatti cosa succede? Succede che i giovani storici nazisti tutto sommato non sono mica tanto convinti che Carlo Magno sia davvero un grande eroe germanico. Che razza di eroe germanico è questo che ha spinto il suo impero fino a Roma ed è andato a Roma a farsi incoronare imperatore dei Romani? Che razza di eroe germanico è questo che ha condotto una politica così sistematicamente cristiana in strettissima alleanza con il Papa? Ecco i giovani storici tedeschi degli anni 30 dicono ma questo non è mica un vero germano, un vero eroe teutonico, anzi usano una parola che si usa ancora oggi in tedesco per designare in modo sprezzante i meridionali, i latini, welsch. Ecco negli scritti dei giovani storici tedeschi dell'epoca nazista Carlo Magno non è un vero teutone, è un mezzo welsch, è uno che si è fatto corrompere dal sud, dal mondo latino, dal cristianesimo e quindi come eroe germanico non va bene per niente. Allora se Carlo Magno nella Germania degli anni 30 non è più un puro eroe germanico, chi sono gli eroi? E' facile trovarli, i sassoni, i sassoni che erano germani sul serio loro e che hanno combattuto 30 anni proprio per non cristianizzarsi, per restare fedeli ai loro antichi dei della guerra, a Odino, a Thor, questi sono gli eroi scelti dai giovani storici nazisti. E allora ecco che Carlo Magno è un massacratore, è un massacratore di veri teutoni. I giovani storici nazisti non sono affatto d'accordo che bisogna cercare di dimostrare che forse il massacro degli ostaggi non è mai avvenuto. Anzi, i giovani storici tedeschi degli anni 30 sono convintissimi che Carlo ha fatto questo e peggio anche, come quel mezzo romano, mezzo italiano corrotto che era. La conseguenza, e mi scuso se qui mi inoltro nei dettagli di una controversia storiografica, ma è una controversia che ha dei risvolti abbastanza appassionanti, visto il momento storico in cui si colloca. Possiamo immaginarci la costernazione dei vecchi dignitosi storici tedeschi che per tutta la vita avevano cercato di dimostrare che Carlo era un grande eroe e che non aveva massacrato davvero i sassoni. Possiamo immaginarci la loro costernazione quando cominciano a comparire articoli scientifici sulle riviste prestigiose delle università tedesche che dicono basta con questo tentativo di riabilitare Carlo Magno. Questa non è una storiografia nazionale, non è una storiografia popolare, fölkisch come piace a noi nazisti. Remano contro questi storici che cercano di riabilitare Carlo Magno. Questa è una storiografia degenerata. Ecco, i giovani storici nazisti che attaccano la vecchia generazione usano la stessa terminologia che il dottor Goebbels usava per attaccare l'arte contemporanea. Degenerata. Di nuovo, sapendo che siamo in Germania nel pieno degli anni 30, sapendo cosa stava per succedere, c'è da sentire si rizzare i capelli in testa a vedere usare questo tipo di linguaggio nella discussione storiografica. E il linguaggio è una cosa, ma le cose non si fermavano lì. Noi sappiamo di gente che ha avuto attacchi cardiaci ed è morta dopo essere stata attaccata in questo modo sulle riviste scientifiche. Sappiamo di storici che hanno perso il posto, sappiamo di storici che quando è scoppiata la guerra sono stati spediti al fronte perché erano rimasti indietro, non avevano capito che la moda non era più difendere Carlo Magno, ma che adesso la moda era attaccarlo. E però anche i giovani storici nazisti a un certo punto incontrano la loro nemesi. Anche loro a un certo punto battono la testa. Perché Hitler, che fino a un certo momento si era abbastanza disinteressato della controversia, a un bel momento decide di occuparsene. E Hitler, come forse potete immaginare, era uno a cui tutto sommato Carlo Magno piaceva. Perciò alla fine Hitler interviene in questa controversia scientifica e stabilisce che Carlo Magno sì ha commesso degli errori, tutte queste guerre contro i sassoni, e però l'impero di Carlo Magno è stato un momento decisivo per l'unificazione del popolo tedesco. Anche gli errori e l'etrocità che Carlo Magno può aver commesso vanno compresi, vanno perdonati, ci sono discorsi di Hitler in cui si dicono queste cose, guardate un po' di cosa si occupava in mezzo alle altre sue preoccupazioni. Anche gli errori di Carlo Magno vanno perdonati perché nelle circostanze storiche della sua epoca quello che ha fatto era giusto, serviva all'unificazione del folk, del popolo germanico. E così anche i giovani storici, come dire, anti Carlo Magno vengono pian pianino messi a tacere. Negli ultimissimi anni del regime nazista, negli anni della seconda guerra mondiale, Carlo Magno conosce ancora una trasformazione, ha ancora un ruolo diverso dal punto di vista propagandistico. Gli ultimi anni del regime nazista sono quelli in cui Hitler combatte contro mezzo mondo, contro gli americani, contro i sovietici, per difendere quell'impero europeo che ha costruito con la spada. L'identificazione fra Hitler e Carlo Magno è sempre più chiara, sempre più evidente. Nella propaganda nazista si ricomincia a parlare con insistenza di Carlo Magno. Ma in che termini si parla di Carlo Magno a questo punto? Non più come dell'eroe germanico. Carlo Magno serve a Hitler, a Goebbels, alla loro propaganda, per dire ai popoli sottomessi dell'Europa che tutti loro hanno una causa comune. Ecco, ricordiamoci, anche se è sgradevole ricordarlo oggi, che in quegli anni l'insistenza sull'Europa, sulla difesa dell'Europa, sull'unità europea, era un tema della propaganda nazista. Erano i nazisti che presentavano i tedeschi come la guida di un'unione di popoli, francesi, belgi, olandesi, scandinavi, tutti, che dovevano difendere la civiltà europea. In questa prospettiva Carlo Magno tornava buono. Era l'eroe internazionale che aveva unificato i popoli d'Europa. E in modo particolare tornava buono quando si doveva rivolgersi ai francesi. Noi oggi sappiamo che durante la Seconda Guerra Mondiale la Germania nazista ha avuto un consenso abbastanza vasto in certi settori della società francese. Abbastanza vasto da permettere a un certo punto di reclutare una divisione di SS francesi che viene spedita a combattere. Questa divisione di SS all'inizio sembrava che dovesse andare a combattere contro gli inglesi, perciò dovendo darle un nome hanno pensato a un certo punto di chiamarla Giovanna d'Arco. Poi invece viene spedita sul fronte russo. Allora Giovanna d'Arco non serve più. Questa divisione di SS francesi viene ribattezzata Charlemagne in francese. È in qualche modo il punto d'arrivo di questo tentativo di recuperare sotto la direzione nazista le forze degli altri popoli europei. E su questa divisione Charlemagne c'è un aneddoto curiosissimo. Hitler a un certo punto fa fabbricare a Sèvres un servizio di piatti di porcellana per la mensa degli ufficiali della divisione Charlemagne. E su questo servizio di piatti Hitler fa raffigurare Carlo Magno. E sul retro ci mette una straordinaria iscrizione latina, che io adesso vi traduco a memoria, e che sostanzialmente dice così. L'impero di Carlo Magno, che fu diviso dai nipoti nell'anno 843, ora lo difende Adolfo insieme con tutti i popoli d'Europa nell'anno 1943. Ecco come vedete siamo arrivati abbastanza vicino ai nostri tempi e Carlo Magno ha rivelato una capacità insospettata, di tornare fuori nei momenti più diversi, di servire alle cause più diverse. Chissà cosa avrebbe detto lui se avesse saputo che il suo nome e la sua immagine sarebbe stata usata in questi modi. Probabilmente sarebbe stato comunque soddisfatto di sapere che di lui si continuava a parlare. Aveva tante qualità ma anche tanti difetti, era certamente un uomo vanitoso, gli piaceva che si parlasse di lui e probabilmente sarebbe anche contento se sapesse che noi per un mese abbiamo continuato a parlare di lui. Adesso però abbiamo davvero finito. È stato bello, vi saluto. Abbiamo trasmesso alle otto della sera Carlo Magno di Alessandro Barbero, regia di Vittorio Attamante.